Buongiorno, questa mattina apre la prima delle due giornate del convegno internazionale intitolato Petrolio, 25 anni dopo, biopolitica, eros e verità, sull'ultimo romanzo di Pasolini, Petrolio. Questa è la prosecuzione, la continuazione e anche la conclusione di un unico evento, la cui prima parte si è svolta il mese scorso a Parigi, alla Sorbona, e questo evento è stato organizzato da Carla Benedetti, Manuele Grignolati e Davide Luglio, sono qui loro due accanto a me. Poi per il programma ci saranno qualche variazione, ci sarà qualche variazione che vi dirò dopo. Mi hanno chiesto gli organizzatori di dire due parole sul convegno, naturalmente intanto ringrazio tutti i velatori venuti da fuori, tutti voi che siete qui. Naturalmente la scuola normale è, come dire, contenta e orgogliosa di aver organizzato questo evento importante. Al centro di esso vi è questo testo straordinario e complesso di Pasolini, a cui Pasolini ha lavorato dal 1972 e a cui ha sempre dato lui stesso uno straordinario rilievo all'interno della sua opera e della sua stessa vita. Io ricordo che dichiarò in un'intervista alla stampa, ho iniziato un libro che mi impegnerà per il resto della vita. Naturalmente non sapeva che questo resto sarebbe poi stato molto breve quando pronunciava queste parole e nel film di Grieco, nel bellissimo film di Grieco, una macchinazione che verrà peraltro proiettato domani all'interno del convegno, ah stasera, scusate stasera, Pasolini dice appunto a Moravia non so neanche cosa sto scrivendo, vado avanti, posseduto dal demonio, ho già superato le 400 pagine e forse arriverò a 2000. Sappiamo che poi queste 400 pagine cresceranno ancora, alcune di esse misteriosamente scompariranno e riappariranno per poi insabbiarsi definitivamente. Il libro Petrolio ha avuto tradizione, la prima molto tardiva nel 92, cioè sintomaticamente tardiva, 17 anni dopo dalla morte di Pasolini. Di questo libro di Petrolio si è detto molto, si è detto tutto il contrario di tutto. Per alcuni un semplice documento di una biografia alla deriva di un uomo fuori controllo che lo avrebbe portato alla tragedia, per altri, come per me, uno dei capolavori degli ultimi decenni. Paragonabile, è stato paragonato al satirico, alla commedia di Dante, come libro di denuncia di una crisi di civiltà e di un crollo di civiltà. Ho detto capolavoro, non capolavoro letterario, volutamente, perché non si tratta solamente di un capolavoro letterario, non si tratta solamente di un libro di letteratura, è un testo che sporge, che sfonda l'involucro della letteratura, rovesciandosi continuamente sul suo esterno e assorbendo l'esterno, il mondo esterno al suo interno, con elementi di cronaca, di storia, di politica. Io ricordo che una volta Michel Foucault ha parlato di pensiero del fuori, come i miei amici al tavolo sanno molto bene, alludendo autori come Hölderlin, come Artaud, come Blanchot. Beh, Pasolini è sicuramente un autore del fuori e Petrolio è un romanzo del fuori, della rottura di confini tra dentro e fuori, tra linguaggio e letteratura, tra appunto letteratura e mondo della vita. E anzi, forse più che un romanzo, certo è un romanzo, ma più che un romanzo si tratta di un grande dispositivo che appunto opera traducendo il dentro nel fuori e viceversa, no? Una macchina narrativa nata da effetti politici e a sua volta produttiva di effetti politici fino ad oggi, per così dire. Con al centro, naturalmente, il corpo del protagonista del romanzo, corpo sessuale e corpo politico. Indisgiungibilmente, no? In quel corpo interno e esterno, vita e politica, sesso e potere, sono tra loro inscindibili. E la verità, la verità che compare nel titolo del nostro convegno, riguarda proprio questo rapporto inscindibile, no? Che è stato spesso ignorato o sbilanciato a favore di uno solo dei due termini, cioè del sesso. Quando invece il sesso sta dentro il dispositivo del potere, no? Anche le famose fellazio del pratone, della casilina, è qualche cosa di illegibile solo sul piano sessuale perché hanno, come dire, un lessico, una liturgia, una ritualità di un atto teologico-politico di potere, no? Tra un elemento attivo e un elemento passivo. E dunque fuori da questo rapporto, interno-esterno, sesso-potere, petrolio non è leggibile. Così come Salo Sad non è guardabile, non è comprensibile. E nella cultura italiana, del resto, nel pensiero italiano, questo rapporto con il fuori è sempre stato vivissimo, no? In fondo è sempre il fuori a illuminare il dentro. Questo in generale, lo si può dire sempre, il fuori a illuminare il dentro e mai viceversa. Questo è un tema molto forte del libro di Carla Benedetti e Giovanni Giovannetti, no? Questa potenza del fuori a farci capire cosa accade dentro. E se non si vogliono rompere i rapporti con la verità, come è stato fatto per tanti anni in questa vicenda, no? In cui si sono voluti rompere i rapporti con la verità, la critica deve avere lo stesso atteggiamento di Pasolini, cioè integrare, articolare, connettere ciò che è diviso. In fondo, petrolio si potrebbe dire è il romanzo della divisione, della scissione, perfino dentro il protagonista, no? È diviso, come si sa, in due nature, ma il libro è unito da quella divisione, è unito da quella divisione, quindi quella divisione va vista nel suo insieme, come appunto un due in uno, un endiadi, una tensione contraddittoria, che questa è la vera cifra di Pasolini. Adesso mi avvio a concludere con un'ultima osservazione. Proprio questa capacità di integrare ciò che è diviso e che appare separato fa, per Paolo Pasolini, l'ultimo grande intellettuale italiano. L'ultimo grande intellettuale italiano proprio per questa volontà assoluta di tenere insieme il separato, di guardare i pezzi come fossero tutti pezzi di un intero. E come questo nel suo corpus testuale e nel suo stesso corpo, alla fine smembrato anch'esso in mille pezzi. Esattamente il contrario di quanto si è fatto finora, oscurando la verità della sua opera e oscurando anche la verità della sua vita e anche la verità della sua morte. Ecco, detto queste poche parole, apriamo il programma della mattinata del nostro convegno. Non ci sarà oggi Walter City, però ci sarà domani in Skype, in conferenza telematica. E al suo posto, quando avrebbe dovuto parlare lui, parla appunto un altro protagonista di questo convegno, che è l'amico Davide Luglio. Poi di volta in volta, nel momento di introdurre i rispettivi, coloro che parleranno, io dirò qualche cosa. Quindi, prima di cedere la parola a Carla Benedetti, che aprirà il convegno, voglio ricordare molto brevemente, si potrebbe dire tanto, insegna, caro, la letteratura italiana contemporanea all'Università di Pisa. È stata visiting professor in alcune importanti università americane. Ha una grande attività, ha fondato il blog Nazione Indiana, la rivista Il Primo Amore, tra i suoi libri tutti importanti. Tutti hanno segnato un momento di forte discussione, no? Libri, appunto, dispositivi. Ricordo Pasolini contro Calvino, che è uscito da Bollati, l'ombra lunga dell'autore da Feltrinelli, il tradimento dei critici ancora da Bollati, disumane lettere dalla terza e poi, appunto, ultimo, ma nel caso nostro più importante, questo straordinario testo con Giovanni Giovannetti, frocio e basta, appunto, per l'editore Le Figge. E quindi, grazie ancora a tutti e passo la parola a Carla Benedetti. Grazie Roberto, grazie a tutti e buongiorno. Purtroppo, come è stato detto... Buongiorno e grazie a tutti per essere qua. Come è stato detto, Walter City non può esserci oggi per impegni di lavoro alla RAI a Roma e lo spiegherà domani nella videoconferenza, insomma. Dunque, qualcuno amicalmente mi ha detto, ma come mai un convegno di internazionali di tre giornate dedicate a un'unica opera di Pasolini? Non è troppo. Secondo me, e secondo noi, non è troppo. Innanzitutto, perché, come ci ha anche detto poco fa Roberto Esposito, questo testo è uno dei più importanti e dei più complessi della letteratura e della cultura italiana del Novecento e questo già passerebbe a giustificare un convegno. Ma poi ci sono anche altre due ragioni, cioè il fatto che grandi opere come questa hanno sempre bisogno di tempo per chiarirsi, per creare la propria posterità, diciamo così, e a volte anche a fatica. E questo è proprio il caso di Petrolio. Per cui, tornarci 25 anni dopo può essere molto utile e stimolare ulteriori studi, da tanti punti di vista, non solo letterari, ma anche filosofici, anche storici, eccetera. Però, dicevo, c'è anche una terza motivazione per questo convegno, che se volete è anche quella più sentimentale e anche quella più impegnata, nel senso che vorremmo restituire a Petrolio ciò che gli è stato sottratto in tanti anni. E mi spiego meglio. Le traversie e le avversità che quest'opera ha conosciuto da quando è stata iniziata fino ad oggi hanno dell'incredibile. Che io sappia, non esiste un'altra opera della letteratura italiana, ma anche delle altre che conosco e che conosciamo del Novecento, che si è passata attraverso peripezie, ma diciamo pure anche angherie e violenze analoche. E ora proviamo a ripercorrere tutte. La prima, ovviamente, è che è stata interrotta dall'omicidio del suo autore. Se Petrolio è incompleto non è perché è stato abbandonato. I letterati amano spesso, quando troviamo di fronte a un'opera non finita, interrotta, citare la famosa frase di Valéry, che le opere non sono mai compiute, sono solo abbandonate. Questa è stata abbandonata non per volontà dell'autore, non perché ha pensato di passare ad un altro progetto, e nemmeno perché semplicemente è morto, come è avvenuto in tanti casi. Abbiamo tantissime opere interrotte dalla morte, dal Requiem di Mozart all'Uomo senza qualità di Musil. In questo caso è stata interrotta perché è stato impedito all'autore di portarla a termine. E di questo non conosciamo l'analogo nei nostri tempi, nella nostra letteratura. Sì, forse in paesi non occidentali, magari in Iran, in qualche paese dell'Africa, in Bangladesh, ma non in Europa. Seconda avversità che ha conosciuto Petrolio, il ritardo nella pubblicazione. Anche questo è veramente incredibile, perché all'autore, certo, è stato impedito di portarla a termine, comunque rimaneva, come sappiamo, già un'opera importante di oltre 500 pagine, che aveva un senso e che noi infatti oggi leggiamo e studiamo, però anche a quella è stato tolto qualcosa, è rimasta inedita per 17 anni. Perché tanto ritardo? Per quanto complessa potesse essere l'edizione di un testo come questo, che conoscete bene, 17 anni sono tanti. Gli abbozzi dell'uomo senza qualità, lasciati da Musil della terza parte, lasciati incompiuti e complicati, quanto Petrolio, se non di più, sono stati pubblicati un anno dopo la sua morte. Così, insomma, Petrolio è stato sottratto ai lettori del tempo, del suo tempo. Gli è stata tolta la possibilità di parlare e di agire nel tempo in cui è stato scritto, nel momento storico per cui era stato concepito. E quindi ci è giunto tardi e in qualche modo anche postumo, anche per noi lettori. Ma non è finita qui. Terza vicissitudine o terza violenza subita dall'opera. Non solo forzatamente interrotta, non solo tenuta nascosta per tanti anni, ma quando finalmente è stata pubblicata, è stata pubblicata incompleta, priva di alcune parti decisive. Mi riferisco essenzialmente a due. La prima, non sappiamo se c'è e se la ritroveremo mai, cioè Lampi sull'Eni, il famoso O'Famigerato, perché è stato anche associato a nomi come quello di Dell'Utri, capitolo mancante, di cui rimane soltanto un titolo, una pagina bianca nell'edizione a stampa. Ma ce n'è anche un altro. Mi riferisco ai tre discorsi di Eugenio Cefis, che Pasolini teneva tra le carte di petrolio e quindi non è andato affatto smarrito, sono ancora al gabinetto Visseux, e che Pasolini intendeva inserire al centro esatto del romanzo, a dividere la prima dalla seconda parte. Li considerava molto importanti questi discorsi di Eugenio Cefis, perché erano rivelatori, secondo quanto dice anche in un articolo degli scritti corsari, di ciò che stava avvenendo in Italia in quel periodo, cioè di un passaggio da un potere di stampo clerico-fascista a un nuovo potere multinazionale, tollerante, criminale, mafioso. E servivano a questo questi discorsi dentro al romanzo. Dato l'impianto compositivo di petrolio, che come sapete ha anche una forte impronta sperimentale, non è strano che Pasolini volesse inserire dei testi, non scritti da lui, ma dei documenti presi dalla cronaca del tempo, come del resto avverte anche nella prima pagina di petrolio, nella famosa nota progettuale, di cui ci parlerà poi più tardi già da Stigliano. Già lì dice che avrebbe utilizzato una serie di documenti del tempo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti politici e in particolare la storia dell'Eni. Ora, nonostante l'importanza che Pasolini accordava a questi discorsi, nonostante l'indicazione precisa di Pasolini stesso, questi discorsi non sono stati inseriti in nessuna delle tre edizioni che petrolio ha avuto. Quarta avversità subita da petrolio, o quarta peripezia, insomma, l'uscita ritardata e mutila di questa opera, che avvenne appunto nel 1992, fu accompagnata in Italia da polemiche aspre. E anche queste, a guardarle oggi, hanno dell'incredibile, perché molti sostenderò, in questa estenuante polemica, che questo libro sarebbe stato meglio non pubblicarlo al fatto. Addirittura c'è un articolo, che adesso vi mostrerò, che evoca il rogo di queste carte. E anche questo è un altro triste record di petrolio. Ora, appunto, vi mostrerò qualche pagina di giornale di quei giorni, della rassegna stampa, della triste rassegna stampa che ebbe questa opera, perché è un capitolo assai significativo, in cui anche un po' si può leggere l'Italia, l'Italia, la sua superficialità giornalistica, e anche un po' l'ambivalenza sempre nutrita dalla cultura italiana nei confronti di Pasolini. E allora, se posso mandare la prima diapositiva, o come si chiama, del PowerPoint? Io ce l'ho qui, cosa devo fare? Scusi, io la devo... Sì, la spostiamo. Oh, mamma mia, non ci arrivo. Aspetta, io sposto di qua. No, no, non mi preoccupo, ci arrivo, ci arrivo. E mi dice anche cosa devo fare dopo. Le freccette. Solo la freccetta, ok, grazie. Ecco, vedete, intanto... Dunque, questi articoli che ho preso sono tratti da vari giornali, di destra, di sinistra e cattolici. Questo, diciamo, è quello di sinistra, repubblica, o, insomma, di quest'area. Ed è forse il più feroce di tutti. Firmato da Nello Aiello. Si tratta di un immenso repertorio di sconcezze d'autore di un'enciclopedia di episodi aeroporno sadomaso, di una galleria di situazioni omo e eterosessuali come soltanto dall'autore di Salò e le 120 giornate di Sodoma ci si può aspettare. È giusto pubblicare Petrolio? Non sarebbe stato preferibile astenersene? Notate bene che questo articolo è del 27 ottobre, cioè tre giorni prima dell'uscita di Petrolio, quindi chi scrive l'articolo non l'ha ancora letto, però l'Espresso, pochi giorni prima, aveva anticipato dei brani dal pratone della Cassilina. Non è esattamente questa, perché la prima non l'ho trovata, la prima anticipazione. Ho trovato invece la seconda, ma più o meno dello stesso tenore. Nella seconda anticipazione c'è in più l'incesto, oltre a un altro brano del pratone della Cassilina. Ma notate, Petrolio, le pagine sciocche, così facevo l'amore, l'Espresso anticipa alcuni brani di Petrolio presi direttamente dal manoscritto di Pierpaolo Pasolini, quei ragazzi sul pratone della Cassilina, l'incesto, eccetera, eccetera. Vorrei che notasse una cosa e ci torneremo, come già qui si mette in evidenza l'aspetto quasi autobiografico del libro. Così facevo l'amore. E poi dopo le avventure di Carlo Pierpaolo. Ancora un altro, il giornale. Qui basta il titolo. P, 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 per lettori morbosi, raffinati, offresi. Dopo sex di Madonna, ecco Petrolio di Pasolini con le dovute differenze, ma sempre a luci rosse. Ecco l'avvenire di Giuseppe Bonura, che è meno sguaiato, però il significato è simile. Ci si preoccupa addirittura del danno che Petrolio può precare all'immagine di Pasolini. Il libro rende un pessimo servizio all'immagine di Pasolini. Il lettore comune finirà per credere che la sua intelligenza era ottenebrata dall'eros. Nell'ultimissimo periodo della sua vita Pasolini era sprofondato nella sua disperata vitalità in cui l'eros e la morte si corteggiavano a vicenda con il risultato che sappiamo. Notate bene la mente ottenebrata dall'eros, ma soprattutto l'eros e la morte si corteggiavano a vicenda con il risultato che sappiamo, cioè Pasolini si è andato a cercare quella morte. Allusione ovviamente all'omicidio sessuale che oggi sappiamo essere una sceneggiata creata appositamente per nascondere un altro delitto. Ma allora tutti ci credevano ed era del resto la versione ufficiale. Ma il punto da notare è questo cortocircuito che si instaura tra quella versione dell'omicidio e la lettura e l'interpretazione di Petrolio. Vado avanti, sono tutti un po' dello stesso tenore, Ruggero Guarini, ora Petrolio scatena l'eccentazione dei critici, ma in quelle pagine non c'è un capolavoro, solo funesta ossessione e brama di martirio, il messaggero. Ecco, questo è il rogo evocato dal titolo. Spesso succede in questa rassegna stampa che gli articoli sono più blandi, più meditati, ma i titoli e gli occhielli sono espressione del senso comune o di quello che si vuole far diventare il senso comune e sono abbastanza inquietanti. E qui addirittura Repubblica, gli scrittori, quando meritano il rogo alias, bruciare le carte di Petrolio. Un altro, Geno Pampaloni, giornale, non ve lo sto a leggere, sono tutti dello stesso tenore. Sarebbe interessante vedere l'intera rassegna stampa che è, insomma, agghiacciante. Comunque vi furono anche, e non dobbiamo dimenticare, articoli positivi da parte di giornalisti e di studiosi. Per esempio, sull'unità scrissero Nicola Fano, Gianfranco Ferretti e Giulio Ferroni, articoli tutti molto seri e apprezzativi nei confronti dell'ultimo libro di Pasolini. Una lucida analisi, anche all'insegna politica, uscì sul settimanale Il Sabato di Antonio Socci. Poi ci fu un bell'articolo di Luigi Baldacci sul Corriere, di Federico De Melis sul Manifesto, che difese Petrolio contro quella brutta, brutto colpo che gli aveva tirato Aiello. E bisogna ricordarlo, lo stesso Asorrosa, che come sapete bene è sempre stato molto critico nei confronti di Pasolini fino a quel momento, si convertì alla stima dello scrittore proprio dopo aver letto Petrolio. C'è infine da ricordare un'ultima e più sottile violenza che ha subito Petrolio, e questa volta da parte dei suoi interpreti, che soprattutto nei primi tempi, ma anche dopo, hanno voluto leggerlo come un testo autobiografico o come una confessione in cui l'autore parla di sé e della propria esperienza sessuale. Già l'abbiamo notato nella rassegna stampa, ma appunto, come diceva, una cosa sono i titoli un po' chiassosi dei giornali, che a volte un po' esagerano, un'altra cosa sono gli studiosi e i critici o gli scrittori. Qui abbiamo uno scrittore, Edoardo Sangrinetti, che sulla rivista molto seria Micromega del 1995, cioè tre anni dopo l'uscita di Petrolio, scrive Il sogno di quel mondo preistorico che non conosceva la peccaminosità del capitalismo borghese era andato in frantumi. Non gli restava dunque che buttarsi nell'orrore della morte. E a quel punto il suo fondo, Sadomaso, esplose attraverso una patologia molto manifesta. L'ultimo film è un documento inequivocabile di quella disperazione che sa di essere patologica. Qualcosa di molto simile a quel che nella scrittura è Petrolio, i cui risultati catastrofici si possono considerare l'equivalente di Salò. La scena del Prato, per fare un solo esempio, è semplice, sotto pornografia. Notate bene... Sotto pornografia. Sì, sotto pornografia. Notate bene la parola anche documento, documento di una disperazione diventata patologica. Non è un romanzo, non è una prova letteraria. Gli nega lo statuto di opera. È solo un documento della sua disperazione. E purtroppo questa è una lettura molto ricorrente. E ancora oggi, o per nomine in anni molto recenti, ritorna. Questo è un articolo di Pietro Citati sul Corriere della Sera del 1 marzo 2012. La follia sacra che distrusse Pasolini è una recensione a un libro di Emanuele Trevi di cui sposa la tesi, e cioè che Petrolio sia la cronaca di una iniziazione alla violenza. E vediamo raccontata la stessa storiella. Ai tempi di Petrolio Pasolini aveva quasi completamente per tutto la squisita gioia erotica che aveva dato tenerezza e morbidezza alle sue opere giovanili. Ora voleva andare molto oltre il suo eroso giovanile. Voleva essere posseduto, dominato, violentato. Voleva conoscere la vita nel momento della lacerazione della morte. Solo così poteva contemplare il sacro. Ovviamente si parla di Pasolini, autore di Petrolio, ma le due cose sono completamente schiacciate l'una sull'altra, con falsità sull'una e sull'altra. Quindi viene da dire, povero Pasolini, lui che pensava di avere, come ricordava anche prima Roberto Esposito, di fronte di star lavorando a un'opera monumentale, a un satirico moderno, si ritrova invece, non è fatto nient'altro che un documento della propria patologia, una cronaca della propria esperienza deviata verso la violenza. e quindi non credo che esista un altro caso analogo di un'opera altrettanto importante, altrettanto martoriata. Prima nella stesura, poi nella pubblicazione ritardata e per di più mutila, infine nella ricezione da parte dei giornalisti, di critici e di scrittori. Ora, il fatto che l'autore di Petrolio sia stato assassinato è ovviamente un accidente esterno all'opera, non dovrebbe influenzare né la cura filologica, né le letture critiche, né il modo, il tempo della pubblicazione, ma di fatto questo è successo con Petrolio. Probabilmente tutta questa vicenda, l'omicidio, il tipo di versione che è stata accreditata negli anni, hanno probabilmente influito sia sul ritardo della pubblicazione, sia sulla decisione di non inserire i discorsi di Eugenio Cefis nel libro, ma certamente ha influito sulla sua interpretazione. Per quanto riguarda il ritardo, vi ho riportato qui un passo della prefazione della nota filologica a Petrolio di Aurelio Roncaglia, quello che ha supervisionato la prima edizione dell'opera. Roncaglia sente il bisogno di giustificarlo in qualche modo questo ritardo. ritardo e dice con onestà il ritardo che non dipende da lui ma ovviamente dalla decisione degli eredi dice con onestà che non fu dovuto ai dubbi sulla legittimità dell'operazione perché era stato anche detto negli anni l'abbiamo visto nella segna stampa che era meglio non pubblicarlo ma era dovuto più che altro all'opportunità. Ecco, per Petrolio la questione più delicata è un'altra non di legittimità bensì d'opportunità essenzialmente di cui nascevano le perplessità che hanno procrastinato la decisione quindi vediamo emergere un criterio di prudenza che ha guidato gli editori e influenzando determinando questo ritardo ma Pasolini avrebbe approvato questa prudenza lui che si gettava nei temi più arrotimentati del suo tempo pensate la campagna per il referendum sull'aborto il PC ai giovani tutte le cose che diceva sulle stragi sul Corriere della Sera avrebbe approvato questa prudenza tra l'altro la cosa che fa anche impressione è leggere questa parola opportunità voi vi ricorderete senz'altro quel famosissimo testo uscito sul Corriere della Sera articolo intitolato il poema e il romanzo delle stragi che comincia io so io so i nomi ma non ho le prove ebbene proprio in quell'articolo Pasolini condanna il criterio dell'opportunità che per esempio impedisce impediva al partito comunista di allora così scrive nell'articolo di parlare pur avendo le prove lui non le aveva le prove ma il partito comunista all'opposizione le aveva ma taceva perché per opportunità per opportunità politica e Pasolini in quell'articolo la condanna e dice anche so bene che non è opportuno che io dica questo in questa fase però lo dico perché questo è il criterio della verità quindi vediamo anche nella parte successiva che non sto a leggere come Roncaglia parli di una perplessità di fronte al rischio di una recezione frastornata da reazioni a caldo e poi dice anche oggi la società è mutata e mutata il quadro politico quindi non ci sono più queste ragioni ora uno si chiede se Petrolio fosse uscito al suo tempo cosa avrebbe provocato di che cosa avevano paura di che cosa sta parlando Roncaglia in quel modo allusivo forse si riferisce al fatto che quelli erano anni arroventati lo sappiamo benissimo erano anni punteggiati di stragi di attentati di omicidi oscuri ma forse si riferisce anche al fatto che uno di questi omicidi oscuri era appunto quello dell'autore di Petrolio quindi cosa temevano allora non lo possiamo sapere cosa hanno temuto perché non l'hanno pubblicato però possiamo fare un esercizio di immaginazione e immaginare cosa sarebbe successo se Petrolio fosse uscito in quegli anni mettiamo un anno due dopo la morte di Pasolini o mettiamo anche quattro quando diciamo un lettore avesse ancora memore diciamo e ancora scioccato forse dall'assassinio dal brutale assassino di Pasolini avesse aperto questo libro e letto che si parlava dell'omicidio di Mattei se ne attribuiva la responsabilità a Eugenio Scefis che si descriveva l'impero di Eugenio Scefis per 18 pagine questo impero economico che si parlava dell'eni come dei topos del potere forse in quel caso si sarebbe fatto delle domande tipo magari che questa sceneggiata della rissa omosessuale che era stata martellata dai media e suggellata da due sentenze forse avrebbe fatto più fatica ad essere creduta ma anche da un punto di vista letterario molto è stato sottratto all'opera pubblicandola 17 anni dopo perché anche qui è venuta a mancare la ricezione viva dei contemporanei e anche qui potremmo fare il nostro solito esercizio di immaginazione e immaginare cosa sarebbe successo se fosse uscito non so mettiamo quattro anni dopo la morte di Pasolini nel 79 anno in cui è uscito anche il romanzo di Calvino se è una notte d'inverno un viaggiatore allora in libreria avremmo trovato questi due libri magari sullo stesso scaffale discussi insieme nelle stesse pagine culturali dei giornali eccetera eccetera e due opere che in effetti hanno molto in comune nonostante la grande diversità perché pensate alla loro caratteristica principale sono eterogenee entrambe caratterizzate dalla frammentazione anche se nella notte in iverno un viaggiatore è fatto di incipit di romanzi interrotti sto andando oltre? no anche quanto tempo ho ancora quanto vuoi? no vedevo che mi guardavi allora è stato questo rapporto con il romanzo di Calvino ah ecco benissimo era una biblioteca di apocrifi quella di Calvino un viaggio tra gli itinerari possibili romanzeschi quello di Pasolini era potremmo dire una biblioteca di progetti d'opera che non non vengono realizzati perché è anche un fortissimo carattere concettuale il romanzo di Pasolini è un romanzo fatto di appunti per un'opera da farsi è quella che io chiamerei una forma progetto non è semplicemente un'opera interrotta come ovviamente è ma è anche un'opera allo stato di abbozzo pensata per essere tale per essere appunto una sorta di biblioteca di progetti d'opera che talvolta sono contraddittori dentro al testo e vengono accolti comunque l'uno accanto all'altro c'è il progetto del romanzo filologico di cui forse ci parlerà dopo Giada cioè l'idea di presentare tutti questi materiali nella forma di un'edizione critica di un testo inedito pieno a quello di costruire una greve allegoria medievale quindi con presenza di scelte eterogenee e tra l'altro si noti bene come in questa compresenza c'è persino un progetto d'opera che può essere simile a quello che di quell'area letteraria che Pasolini aveva maggiormente avversato quello della neavanguardia perché il progetto di inserire nel romanzo dei documenti del tempo tipo appunto i discorsi di Cefis mettiamo o altri che poi ha inserito questa possibilità mostruosa di accogliere dentro un'opera molteplici scritture può ricordare appunto scelte come quelle che all'epoca faceva Balestrini e poi tra l'altro c'è una notazione di Pasolini in cui dice romanzo alla Balestrì va bene comunque anche questo se fosse uscito in quegli anni Petroglio avrebbe avuto forse un altro tipo di lettura anche di tipo letterario io ricordo bene tutta questa rassegna e questa polemica di cui ho dato qualche esempio anche perché in quegli anni fu in quei mesi che Antonietta Grignani e io Antonietta Grignani che parlerà nel pomeriggio a Pavia pensammo di organizzare un convegno su petrolio che si svolse appunto a Pavia nel 93 e qui sono riuscita a ritrovare una copia degli atti che uscirono di quel convegno a partire da petrolio Pasolini interroga la letteratura anche perché eravamo sconcertate da tutta questa da queste reazioni a caldo sul romanzo di Pasolini e quindi l'intento era di contrapporre degli studi seri a tanta cattiva stampa ma eravamo soprattutto colpiti dall'arrivo improvviso di questa sorta di meteorite piovuto dal cielo di vent'anni prima di meteorite letterario che riapriva con forza una serie di domande anche sulla letteratura sui miti che si erano sviluppati dal 75 al 92 cioè in un'epoca di pieno postmoderno possiamo dire sull'idea di letteratura che si era attestata in quegli anni in cui il petrolio era rimasto chiuso nei cassetti e che forse avrebbe potuto anche influenzare in un'altra direzione quindi per concludere petrolio ci è arrivato dopo tutte queste peripezie come un ordigno disinnescato disinnescato anche non solo sul piano politico o che riguarda appunto la storia d'Italia il suo omicidio eccetera ma anche disinnescato sul piano letterario sul piano del pensiero e l'idea di questo convegno è appunto quella di restituire a questo capolavoro controverso ciò che gli è stato tolto la sua carica di farla di rivitalizzarla ovviamente ci sono delle cose che non potremmo mai restituire a petrolio non possiamo ridare a petrolio la compiutezza è ovvio perché non ci possiamo sostituire a Pasolini per dare un compimento a ciò che gli è stato impedito di portare a termine non possiamo nemmeno tornare indietro nel tempo e far sì che petrolio esca nei suoi tempi naturali anche questo è impossibile però possiamo per esempio altre cose farle e per esempio auspicare una nuova edizione di petrolio che sia integrata delle parti mancanti e possiamo soprattutto proporre nuove letture letture adeguate alla complessità e alla profondità sia artistica che di pensiero di quest'opera è appunto quello che ci auguriamo di fare con questo convegno che in parte abbiamo già iniziato a fare nella prima giornata parigina e che poi raccoglieremo per farne degli atti grazie 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 a Carla Benedetti per questa redazione illuminante direi su cui mi astengo da fare adesso commenti perché poi come dire consegniamo tutto al dibattito successivo intanto passo la parola al professore Davide Luglio professore di letteratura moderna e contemporanea all'università Paris-Sorbonne la sua ricerca avverte in generale sui rapporti tra letteratura e filosofia in particolare nel novecento anzi abbiamo anche un lavoro avviato in comune nel rapporto tra pensiero italiano e pensiero francese ha dedicato vari lavori importanti a Pasolini tra le sue ultime pubblicazioni appunto possiamo ricordare l'edizione francese di Pornoteo Colossal e è uscita da pochi giorni proprio la traduzione in collaborazione con Laurent Lombard di Frocio e Basta del libro appunto di Carla e di Giovannetti e quindi gli cedo volentieri la parola forse questo si è più bene io ringrazio tutti di essere presenti sono molto felice di prolungare qui a Pisa la scuola normale il convegno che abbiamo iniziato a Parigi e vorrei iniziare diciamo correggendo il titolo del relazione che ho proposto una leggera correzione ho messo metafora di una forma di vita e direi semplicemente Petrolio una forma di vita in Petrolio in Petrolio Pasolini dichiara più volte di voler fare non un romanzo ma una forma naturalmente tenuto conto di quanto il rapporto con il lettore sia posto sotto il segno del gioco dell'ambiguità e dell'indefinitezza qualsiasi affermazione contenuta in Petrolio solleva una serie di problemi e primo fra tutti quello della pertinenza teorica per così dire di un approccio critico che si affidi ad una dichiarazione del narratore o dei narratori inscenati dal narratore si potrebbe osservare che Petrolio contiene un apparato paratestuale che tende a far trasparire sotto la figura del narratore quella dell'autore e con essa a tratti un'intenzionalità affidata agli inserti metanarrativi il famoso capitoletto introduttivo in cui si fa riferimento ad un satiricon moderno potrebbe sembrare una dichiarazione di intenti dell'autore come un appunto progettuale di Pasolini ed è del resto così ad esempio che lo legge Aurelio Roncaglia nella sua nota filologica comunque sì anche se non si volesse pensare che lo stato di incompletezza dell'opera offre almeno il vantaggio di squadernare in parte il laboratorio letterario pasoliniano a me sembra che l'insistenza con la quale l'autore ritorna sulla propria volontà di costruire una forma meriti di essere attentamente considerata e in realtà è proprio la natura di questa forma che determina l'ambivalenza di una figura che al tempo stesso è dentro e fuori dal romanzo non nel senso del narratore terodiegetico ma in quello ben più originale del narratore autore con un piede nel romanzo e uno nella realtà preciso subito che non mi riferisco soltanto alla forma in cui ci è giunto Petroglio e a quello che si può dedurre dalla struttura del testo su questo piano del resto la critica ha spesso riconosciuto in questo romanzo non lineare a momenti erratico che procede per appunti una delle espressioni più significative della poetica del non finito caratteristica dell'ultimo Pasolini mi riferisco invece principalmente all'insistita volontà di ripeto creare una forma che sembra alludere ad un progetto letterario piuttosto sorprendente in un autore che ha sempre tenuto a distanza tanto in letteratura quanto nel cinema la sperimentazione meramente formale e quelle ricerche formalistiche di sapore neo-vanguardista o estetizzante che avevano ripreso vigore all'inizio degli anni Sessanta volontà tanto più significativa che Pasolini torna alla prosa letteraria insegnatamente al romanzo dopo per così dire una lunga assenza e i reiterati proclami di non voler più scrivere un romanzo la questione dell'abbandono del romanzo dopo l'incontro attivo col cinema naturalmente non è di poco conto è utile ricordare con le parole di Pasolini nell'intervista che rilasciò a Jean Duflo alla fine degli anni Sessanta le ragioni che aduceva a questo abbandono dopo aver capito le potenzialità che offriva il linguaggio cinematografico la passione che aveva assunto e Pasolini lo dichiara la passione che aveva assunto la forma di grande amore per la letteratura e per la vita si era spogliata dell'amore per la letteratura diventando ciò che era davvero ossia una passione per la vita per la realtà per la realtà fisica sessuale oggettuale ed esistenziale attorno a me questo è il mio primo unico grande amore e in un certo qual modo il cinema mi ha costretto a rivolgermi ad esso e a esprimerlo in forma esclusiva certo questa dichiarazione è solo parzialmente vera dato che come sappiamo Pasolini evoca fin dal 67 con Livio Garzanti il progetto di un nuovo romanzo e naturalmente l'attività letteraria continua nei saggi nelle sceneggiature i trattamenti e soprattutto nella poesia senza dimenticare l'ultima sua opera in prosa la Divina Mimesis tuttavia lasciando da parte la scrittura saggistica di cui voglio ricordare soltanto che Pasolini la intende come una parte integrante della sua attività poetica va detto che la raccolta di poesia che Pasolini pubblica nel 71 Trasumanar e Organizzar segna una profonda svolta nel suo modo di scrivere poesia un profondo rinnovamento tanto linguistico quanto metrico e sintattico che il poeta rivendica come un nuovo modo di fare letteratura e che pone sotto il segno concomitantemente dell'accettazione e dello sprezzo accettazione totale della letteratura scrive ma anche allo stesso tempo rifiuto totale della letteratura insomma Trasumanar e Organizzar segna già una svolta formale importante che credo presenta numerosi punti di contatto con petrolio l'analisi comparata delle due opere meriterebbe un lungo discorso a sé ma l'affinità principale è proprio questa spasmodica ricerca di una forma che come scrive Pasolini nell'autorecensione che dedica al volume non assomiglia a nessun'altra e il cui fine la cui missione estetica ma anche politica è la restituzione della realtà fisica sessuale oggettuale ed esistenziale che si svolge attorno a lui Trasumanar e Organizzar scrive Pasolini vive in uno strato della realtà dove la realtà sta per perdersi e dissolversi ma non si è ancora persa e dissolta tutte le sue esigenze i suoi pretesti le sue passioni sono lì fisicamente presenti ancora un passo e come un cadavere in decomposizione diverrebbero irriconoscibili vorrei sottolineare il verbo che usa il poeta vive Trasumanar e Organizzar vive in uno strato della realtà e in uno strato dove esse è ancora presente nella sua interezza è attorno a questo verbo che si giocano l'accettazione e il rifiuto totale della letteratura accolta impiegata senza limiti nella sua capacità di restituire la realtà nella sua dimensione vivente la letteratura è respinta con altrettanta decisione nella sua forma marcescente fossilizzante o ancora peggio convenzionale e derealizzante Trasumanar e Organizzar chiude la parabola iniziata con la meglio gioventù la raccolta che inaugura in modo consapevole il realismo poetico di Pasolini ne è vichianamente il ricorso dopo la fase di nuova barbarie linguistica rappresentata dal cinema nella filogenesi dell'opera pasoliniana l'esperienza cinematografica ha infatti rappresentato sempre per filare l'analogia con Vico un ricorso linguistico nel cinema il linguaggio si è rinverginato è ridivenuto poetico per la sua possibilità di esprimere la realtà con la realtà la fase ulteriore la fase eroica del ricorso poetico pasoliniano è ora quella di un nuovo linguaggio scritto verbale in grado di porre in modo altrettanto reale e vivente la realtà e la vita questa è la sfida in un testo pubblicato il 29 marzo 1969 sul tempo Pasolini scrive la morte o la vita del romanzo del resto è un falso problema il romanzo come intende Barthes è al di là della frase la domanda da porsi è sono finite o non sono finite le vite romanzesche non c'è il minimo dubbio che la vita contemporanea ha tuttora strutture romanzesche nella realtà cioè al di là della frase si ha un continuo accadere di avventure l'ipotesi che vorrei esporvi oggi è dunque che la forma che vuole insistentemente fare Pasolini con petrolio sia precisamente una forma che proietti al di là della frase che immerga il lettore in quello strato della realtà in cui essa è ancora vivente paradossalmente ma il paradosso è solo apparente non si tratta di una ricerca linguistica ma di una sperimentazione retorica e quindi in ultima istanza cognitiva in questo come vedremo risiede naturalmente anche l'eteronomia di questa ricerca estetica ovvero il suo fine politico decostruire le strutture letterarie che ingabbiano il lettore in un discorso di cui predeterminano in qualche modo il valore per proiettarlo invece al di là della frase non costituisce un fine in sé determinare quella forma decostruente che disinnesca le griglie precostituite ai loro valori significa ambire a mettere in condizione la realtà di esprimersi da sola significa quantomeno indicare la ricerca di una forma che liberi la realtà dal discorso e cioè in ultima istanza offrire al lettore l'esperienza e la responsabilità del confronto col romanzo della realtà il discorso sulla forma di cui mi limiterò ora a delineare alcuni principi occupa in Petroglio una serie di paragrafi in parte esplicitamente indicati dall'autore narratore alla fine del testo che ci è pervenuto e precisamente alla punto 131 qui Pasolini consiglia al lettore di rileggere una serie di appunti il 3C il 22I il 37 e il 103B nei quali scrive parlo della mia ambizione a costruire una forma con sue leggi autopromuoventisi e autosufficienti piuttosto che a scrivere una storia che si spieghi attraverso concordanze più o meno chiave con la pericolosissima realtà nel primo di questi appunti posto all'inizio dell'opera leggiamo si istituisce qui di seguito lo schema di un viaggio i cui modi la cui trovata retorica il cui progetto metaforico il cui processo narrativo e la cui tecnica demoniaca saranno ripresi più avanti nel corso di quest'opera poiché non ho intenzione di scrivere un romanzo storico ma soltanto di fare una forma sono inevitabilmente costretto a istituire le regole di tale forma e non posso che istituirle in corpo revili cioè nella forma stessa ecco il perché di questo schema di viaggio a questo stadio iniziale siamo al momento inaugurale quello della fondazione precisa Pasolini non ci è detto nulla sulle caratteristiche di questa forma o meglio ci è detto che sono istituite in corpo revili ovvero nella forma stessa certo leggiamo che si istituisce lo schema di un viaggio e a questo si riduce la forma ora noi sappiamo che per Pasolini il viaggio è l'archetipo del romanzo dunque le regole di tale forma non sono altro che la forma stessa la quale è il romanzo in altri termini questa prefazione posticipata come altri inserti metanarrativi vengono a ribadire sempre e soltanto un'unica cosa e cioè che non è possibile distinguere un dentro e un fuori una forma e la realtà che essa rende percettibile non nel senso un po' pedisseco e scolastico secondo cui in letteratura non è possibile separare lo stile di un autore dal contenuto no nel senso invece in cui la storia narrata se di storia si può parlare non fa che isolare un momento della realtà che proprio in quanto isolato appare nella propria forma che sia questo il senso che dobbiamo attribuire a tale nozione che dietro di essa traspaia la teoria semiologica della realtà esposta negli scritti sul cinema è quanto emerge dalle considerazioni contenute nell'appunto 98 in cui Pasolini chiama in causa la nozione di cattiva infinità utilizzata da Hegel la mia non è una storia leggiamo nell'appunto 98 ma una parabola il senso di questa parabola è appunto il rapporto di un autore con la forma che egli crea la continuità che unisce tutte le leggi che più in generale istituiscono l'universo caratterizzato dalla mancanza di ogni soluzione di continuità non c'è dubbio è un dato ma nel suo rapporto col dato che la contraddice la nega cioè la mancanza di ogni continuità il momento dell'autonomia essa almeno per un istante ideale scompare scusate continuità e autonomia di una forma sono la sua contraddizione Hegel naturalmente si è sia pur divinamente sbagliato l'unica vera infinità è quella che egli chiama cattiva infinità la nozione di cattiva infinità è impiegata da Hegel mi si perdoni la semplificazione per stigmatizzare la riproposizione della continua frattura tra infinito e finito perché questo riferimento alla frattura tra finito e infinito alla loro intima contraddittorietà a me sembra che queste considerazioni si rischiarino se lette alla luce della risposta che Pasolini rivolge alle critiche mossegli da Umberto Eco nel famoso testo di empirismo eretico intitolato Il codice dei codici naturalmente tutto questo meriterebbe un lungo discorso ma cercherò di riassumerlo in poche parole nel codice dei codici Pasolini difende contro le accuse di ingenuità semiologica lanciategli da Eco l'idea che la realtà è un linguaggio per illustrare la propria posizione teorica Pasolini propone a Eco di pensare per assurdo l'esistenza di un dio Brama di carattere vedico spinoziano che abbrevia in B mettiamo che in questo momento B parli con Eco scrive usando come segno un segno ultimo i capelli di Gerry Malanga ma che differenza c'è tra i capelli di Gerry Malanga e gli occhi di Umberto Eco essi non sono che due organismi della realtà la quale è un continuum senza alcuna soluzione di continuità un corpo unico che lo sappia i capelli di Gerry Malanga e gli occhi di Umberto Eco appartengono dunque allo stesso corpo la fisicità del reale dell'esistente dell'essere e se i capelli di Gerry Malanga sono un oggetto che si autorivela come segno di se stesso agli occhi ricettori di Umberto Eco non si può dire che si tratti di un dialogo ma di un monologo che il corpo infinito della realtà fa con se stesso a questo punto possiamo anche liberarci dalla imbarazzante nozione di B e dire semplicemente che la realtà parla con se stessa che i sema parlano d'altri sema in un solo ambito dove rivelazione comprensione domanda e risposta sono la stessa cosa è attraverso la tecnica cinematografica che Pasolini è giunto a questa particolare forma di realismo il cinema in quanto astrazione linguistica ripeto ovvero immaginato come un infinito piano sequenza sulla realtà è quella tecnica che trascrivendo la realtà sullo schermo ne evidenzia il carattere sostanzialmente semico la realtà non è altro che un insieme infinito di segni che interagiscono tra di loro senza che sia possibile distinguere da un punto di vista meramente semico tra Umpero e Umberto Eco è questa considerazione che Pasolini riformula più astrettamente nell'appunto 98 di Petrolio quando evoca la nozione di cattiva infinità la questione che si pone subito dopo infatti è come mi inserisco in quanto soggetto conoscente in questa infinità ora è evidente che non posso inserirmici che isolando in questa forma infinita senza soluzione di continuità un pezzo dell'infinito un brano di realtà ma così come avverrebbe se isolassi uno più spezzoni dell'infinito piano sequenza attraverso il quale per astratto il cinema trascriverebbe l'infinita realtà ogni atto di conoscenza interrompe il continuum isolandone una parte ovvero una forma finita che risponde ad altre leggi perché in qualche modo ridefinisce a partire dai propri confini la realtà ora il problema che si pone all'artista e segnatamente ad un artista come Pasolini visceralmente attaccato al reale nella sua vitalità e profondamente convinto della necessità realistica della propria poetica il problema che si pone dicevo è come ritagliare nel continuum del mondo una o più forme che assemblate o per meglio dire montate compongano per finire quella forma che restituisce la realtà ecco perché come si legge all'inizio dell'appunto 98 non si tratta con petrolio di scrivere una storia ma una parabola il cui senso è il rapporto di un autore con la forma che egli crea quanto alla natura di questo rapporto esse perfettamente sintetizzata in un appunto di empirismo eretico quando Pasolini scrive mi ci è voluto il cinema per capire una cosa estremamente semplice ma che nessun letterato sa che la realtà si esprime da sola e che la letteratura non è altro che un mezzo per mettere in condizione la realtà di esprimersi da sola quando non è fisicamente presente e Pasolini aggiunge in nota ci sono scrittori prendiamo Tolstoi che hanno grandi e sintetiche forme di realtà da esprimere e quindi i mezzi della loro evocazione sono grandi e sintetici sintagmatici mentre ci sono altri scrittori prendiamo Pound che hanno da esprimere particolari oscure forme della realtà o del loro sentimento della realtà che fa parte della realtà e quindi devono ricorrere a evocazioni stilisticamente particolari e oscure violentamente formali quest'ultima considerazione ci riporta a Petroglio e a un altro celebre appunto dedicato alla forma in cui ne viene per la prima volta proposta una definizione si tratta dell'appunto 37 intitolato Qualcosa di scritto che segue una serie di capitoletti intitolati Gli Argonauti ognuno dei quali si sarebbe dovuto concludere con l'inserimento di un testo in greco a proposito di questi inserti in greco più precisamente scrive nel neogreco letterario usato da Cavafis Pasolini si sente di dover dare una spiegazione al lettore e la spiegazione è questa queste pagine stampate ma illegibili vogliono proclamare in modo estremo ma che si pone come simbolico anche per tutto il resto del libro la mia decisione che è quella non di scrivere una storia ma di costruire una forma come risulterà meglio più avanti forma consistente semplicemente in qualcosa di scritto per interpretare la scelta del neogreco più avanti sarà questione anche di inserti in giapponese rimando a quanto appena letto rispetto a Pound ma vorrei ora soffermarmi invece sulla scelta dell'espressione qualcosa di scritto se si rilegge l'opera di Pasolini alla ricerca di un'altra occorrenza di questa espressione in un senso vicino a quello impiegato in petrolio la si incontra solo un'altra volta e la si trova in un testo di cui non saprei mai sottolineare abbastanza l'importanza per l'interpretazione di questo romanzo mi riferisco a descrizioni di descrizioni un libro semipostumo perché pubblicato per la prima volta nel 79 ma che raccoglie articoli apparsi principalmente sul tempo scritti in un periodo 72-75 che corrisponde a quello della stesura di petrolio in questa vera e propria miniera di riflessioni teoriche e poetiche che prendono pretesto da recensioni ad opere letterarie troviamo un articolo dedicato a Donna Folgore di Giovanni Faldella Faldella fu come sappiamo principalmente riscoperto da Gianfranco Contini colpito innanzitutto dal suo sperimentalismo linguistico e Pasolini ricorda che è stato proprio Contini ad impogli con la più squisita affabilità di assumere Faldella nel suo empireo un'assunzione così ben eseguita che Donna Folgore di Faldella viene largamente citato nell'appunto 102 di Petrolio come sottolinea Silvia De Laude nella sua edizione in descrizione di descrizioni in realtà Pasolini mostra di non essere del tutto convinto dall'opera di Faldella ma si rivela particolarmente interessato a Donna Folgore in quanto scrive in quest'opera egli vuol fare il romanzo e cioè qualcosa di scritto entro cui scorre orizzontalmente il reale non solo ma egli fingendo di far altro cioè dei capitoli senza capo né coda presi nel vortice di una digressività continua ambisce a fare non solo il romanzo ma il romanzo sociale fare qualcosa di scritto entro cui scorre orizzontalmente il reale è questo il romanzo che vede affiorare Pasolini tra le pagine di Faldella ma che questa fosse una proiezione dell'acume poetico dell'autore di Petroglio è quanto risulta da ciò che aggiunge subito dopo quando scrive per questa sua contemporanea natura di serie di capitoli e di romanzo il libro del Faldella è un monstrum il che ripeto va benissimo solo che purtroppo è un monstrum parzialmente involontario vi è venuta a mancare infatti la totale sfiducia nel romanzo e quindi un totale atteggiamento parodistico verso di esso la totale sfiducia nel romanzo o come scrive nell'autorecensione a trasumanare organizzare il rifiuto totale della letteratura che è quanto invece ostenta Pasolini in Petroglio precisamente attraverso l'atteggiamento parodistico verso il romanzo ed è chiaro ormai che l'esigenza di tale atteggiamento la necessità di questa totale sfiducia è indispensabile per trasformare il romanzo come artificio narrativo in quella semplice forma in grado di lasciar scorrere al suo interno orizzontalmente la realtà i passi di descrizione e descrizioni che aprono prospettive interessanti sulla forma Petroglio sono molti potrei citare ad esempio l'articolo dedicato a Uccelli d'America di Mary McCarthy nel quale Pasolini esorta i critici letterari a considerare la sceneggiatura cinematografica e il trattamento come opere letterarie precisamente in quanto il loro autore ha coscienza che la loro integrazione non è letteraria in quanto dunque l'autore è letterariamente capace di dare a vedere ciò che è solo provvisoriamente scritto mi soffermerò invece per concludere sul testo più importante e non solo perché passi in rassegna tutti i nodi poetici che ritroviamo in Petroglio ma perché anche il testo che evidenzia il rapporto che esiste tra la volontà di fare una forma e la natura politica io direi bioestetica di questa stessa forma si tratta dell'articolo consacrato al romanzo Lo Smeraldo di Mario Soldati pubblicato nel 74 Pasolini esordisce dichiarando sono uno scrittore da più di due anni sto scrivendo un nuovo romanzo la cosa che più mi interessa in un altro scrittore forse anche proprio perché sto scrivendo è la scrittura e in merito alla scrittura di Soldati Pasolini pensa di poterla descrivere attraverso un'analogia con un'osservazione di Ferenzi in Talassa sul coito delle rane cosa dice Ferenzi ebbene nota che nel maschio si è sviluppata nel maschio delle rane si è sviluppata col tempo una specie di vischiosità nelle zampe per cui può attaccarsi e aderire alla femmina cioè possederla ora osserva Pasolini la scrittura di Soldati manca assolutamente di vischiosità essa non si attacca non aderisce al lettore non gli si incolla addosso come suggerisce l'analogia sessuale e in particolare il riferimento al coito la vischiosità della scrittura esprime l'autorità e la possessività di un autore ciò significa dunque che Soldati ha rinunciato a possedere il lettore a esercitare su di lui un'inconfessata autorità attraverso una serie di considerazioni che non possiamo qui sviluppare Pasolini riconosce nella descrizione di una vicenda omosessuale presente nello Smeraldo l'emblema del rapporto che Soldati istituisce col suo lettore un rapporto fraterno democratico e paradigmaticamente omosessuale come sempre in Pasolini il sesso ha una valenza eminentemente politica il sesso è una metafora del potere ma vediamo cosa succede secondo Pasolini in un autore che per propria volontà rinuncia come Soldati all'autorità della scrittura come un re che dopo aver abdicato venga spogliato dileggiato messo in berlina è costretto ad accettare tale situazione voluta facendo il buffone e insieme il demone in quanto buffone è assolutamente costretto a trasformare il suo libro in un gioco in uno scherzo per esempio a rifare altri tipi di libri cioè adottare i codici su cui rigidamente i giochi si fondano in quanto demone che cosa fa lascia il gioco com'è ma cambia la posta gioca mettiamo a briscola gioco divino ma anziché perdere o vincere un soldo o un miliardo o uno smeraldo perde o vince qualcos'altro questo qualcos'altro poi non viene non verrà mai definito dal demone l'autore che volontariamente masochisticamente rinuncia alla propria autorità ingaggia una sorta di partita demoniaca col lettore una partita che consiste in ultima istanza a suggerire che esiste una posta in gioco che invece non c'è il senso dell'esperienza estetica è quindi proprio la procrastinazione per finire la nullificazione del senso o della verità non del senso della verità parziali ma del senso della verità finale e quindi della trasformazione del senso in valore definire che quel qualcos'altro che costituisce la posta in gioco finirebbe fatalmente per trasformarlo in valore divenendo così espressione di quella vischiosità che soldati rifiuta e la rifiuta perché spiega egli si oppone in fondo religiosamente alla sua società al capitalismo e alla mercificazione di ogni cosa compreso l'uomo stesso non per niente ho ricordato Dostoievski soldati si libera dalla violenza totalizzante del mondo in cui vive tacendo mentendo esattamente come un bambino cosa che costituisce poi la base del suo gioco il lettore è quindi chiamato se proprio lo vuole a cercare lui in che cosa consista quel qualcos'altro che è la posta del gioco qualcos'altro di cui si sa solo vagamente che è religioso o evangelico benché espresso in forme perfettamente laiche ma che comunque esprime della religione il momento ridente irridente delusorio buffonesco che è poi credo il più alto ma naturalmente nemmeno il lettore potrà mai giungere a capire in che cosa consista questo qualcos'altro semplicemente perché la sua qualità è di essere sempre altro ma non importa aggiunge Pasolini perché esso in fondo vuole esprimere l'incrollabile fiducia in una lacuna dell'essere e storicamente la fiducia in un'alternativa che eluda le regoli sociali e il potere potrei continuare nell'analisi di questo vero e proprio palinsesto poetico di petrolio potrei soffermarmi ad esempio sul valore che assume secondo Pasolini lo smeraldo e che potremmo trasporre tra il quale al petrolio dato che lo smeraldo leggiamo ha una funzione di puro schema di significato potenziale ci si sbaglia continuamente sul suo conto ora è il simbolo del potere economico e quindi sessuale ora è il simbolo del romanzo stesso ossia dell'espressività ora è il simbolo del sadomasochismo ora è il simbolo dell'autentico dell'inautentico e quindi di un mistero religioso ma infine non importa niente di che simbolo che sia simbolo di qualcosa è il simbolo della simbolicità e questo basta renderlo pienamente e quindi anche emotivamente poetico potrei continuare ma mi sembra che l'essenziale risieda nel potere ridente irridente delusorio buffonesco di tale gioco in Salò che ricordo nel progetto di Pasolini doveva essere un film in qualche modo comico ciò che viene in riso proprio tramite l'atrocità del gioco del potere che viene inscenato è il fondamento stesso del potere il valore che lo fonda lo stesso si può dire di porno teocolossal la speranza nel messia come valore fondante del viaggio del re magio del suo servitore è naturalmente delusa e lo stesso avviene in petroglio con le sue numerose esortazioni a identificare il mondo sociale col nulla ed essere riattivati e vitalizzati da questo non credere più nei valori del mondo annullato da uno spirito critico e umoristico davanti a cui non c'è fatto o argomento che possa resistere la forma petroglio la forma di realtà e di vita che esprime questo satirico moderno sta proprio in uno spirito critico e umoristico che si attacca al valore in quanto fondamento di ogni forma di potere la celebre iscrizione che il protagonista Carlo legge ai piedi del simulacro ovvero o eretto questa statua per ridere è davvero l'epigrafe di tutta l'opera e non a caso Pasolini intende che questa archeologica citazione affondi nelle origini di una lunga tradizione misterica quella stessa possiamo pensare che ha fatto del riso di Democrito una delle espressioni della saggezza della saggezza che ride della foglia degli uomini perché è proprio la sacralità rivitalizzante del riso che si tratta di recuperare il suo potere corrosivo e risolutivo della crisi la crisi cosmica che vive l'autore di Petroglio il genocidio di cui parla negli scritti corsari citando e commentando le visioni del merda ovvero gli appunti di Petroglio che sta scrivendo in quello stesso momento e i cui protagonisti per l'appunto hanno cito prima di tutto disimparato a ridere ho già avuto modo di evocare quanto Socrate fosse importante per Pasolini in uno dei suoi ultimi libri dedicato alla figura giocosa e buffonesca di Pulcinella Agamben ricorda come nel IV secolo a.C. un filosofo avesse fatto di un satiro o di un sileno il suo personaggio per eccellenza si tratta naturalmente di Socrate di cui Alcibiade nel convito dice che assomiglia al satiro Marsia e Platone stesso suggerisce che i propri drammi socratici possano essere assimilati a dei drammi satireschi il libro di Agamben prende spunto dal ciclo di affreschi che Gian Domenico Tiepolo dedica alla figura di Pulcinella rappresentandolo talora anche nelle vesti di un satiro suggerendo che si tratta dunque di un personaggio filosofico l'altra fonte del libro sebbene taciuta qui come altrove direi in Agamben è senza dubbio l'ultimo Pasolini ora il filosofo Pulcinella incarna agli occhi di Agamben una forma di vita che neutralizza il dispositivo biozoe dal quale prende origine il politico in quanto biopolitico e lo neutralizza in virtù di una strategia che ricalca precisamente lo schema del gioco irridente del lazzo e del riso Pasoliniani la forma di vita la vita propriamente umana scrive Agamben parafrasando Pasolini è infatti quella che rendendo inoperose le opere e le funzioni specifiche del vivente le fa per così dire girare a vuoto e in questo modo le apre impossibilità grazie grazie do adesso la parola già da Stigliano la pausa no no le domande ah sì ah vabbè questo mi era suggito va bene allora sì hai ragione apriamo il dibattito in particolare sulle due o meglio sulle due relazioni di Carla Benedetti e di Davide Duglio che abbiamo ascoltato quindi chiunque voglia intervenire si proponga domande brevi abbastanza brevi insomma in modo da dare a tutti la possibilità di intervenire buongiorno io ora ho una domanda per Davide Duglio su un particolare ha citato Cavafis risulta che Pasolini conoscesse Cavafis fin da Amado Mio e quindi attraverso un'antologia di Pontani Filippo Maria Pontani che conteneva soltanto l'italiano invece il pedroglio fa riferimento al neogreco lei per caso ha capito attraverso quale edizione vorrebbe citarlo questa domanda si può fare anche per il giapponese però me ne intendo di meno e quindi mi limito a Cavafis no parli non mi sono posto il problema di sapere a che edizione di Cavafis avesse letto Pasolini mi dispiace non saprei rispondere alla sua domanda dall'inizio abbiamo detto che petrolio ha a che vedere con il potere e il sesso e Pasolini capisce subito l'importanza di Cavafis come Montale Ungaretti Marinetti appunto leggendo questa antologia di Pontani pubblicata nel 45 e quindi si può estendere l'importanza di Cavafis dal mero dato linguistico anche visivo dei caratteri negreco a un'importanza tematica all'interno di petrolio secondo lei sì o no? penso che ancora una volta il riferimento a Cavafis sia piuttosto così marginale nel sì evoca questa poesia una poesia che lui conosce eccetera probabilmente è una forma di omaggio anche a Cavafis il fatto di pensare al neogreco piuttosto che al greco ma la la questione fondamentale è che lui pensi di fare questi inserti in una lingua che risulterebbe puramente qualcosa di scritto e non qualcosa di letto leggibile per un lettore italiano insomma e quindi penso che sia questo tipo di violenza formale che lo interessa più che l'autore in sé ecco mi sembra altre domande interventi osservazioni io volevo dire una cosa a Carla Benedetti sulla decisione di non inserire i discorsi di Cefis come cerniera tra la prima e la seconda parte di Petrolio io ho curato con Walter City la seconda delle due edizioni di Petrolio nel 98 e da sola quella degli Oscar Mondadori nel 2005 in entrambe le edizioni noi come già Roncaglia abbiamo considerato le indicazioni programmatiche tipo inserire frase di un paziente schizofrenico di Rohaim tutto come visto da Carlo come parte del testo non abbiamo mai pensato di sostituirci a Pasolini nessuno ci dice che alla fine sarebbe stato sempre dell'idea di inserire quei discorsi come cerniera tra la prima e la seconda parte del romanzo il dattilo scritto è pieno di indicazioni di interventi presentati come da farsi e poi non fatti e quindi se io rifacessi un'edizione di Petrolio darei questi discorsi di Cefis in appendice come anche le fotografie di Pedriali che sembra dovessero costituire la chiusa del romanzo e quindi non continua a essere dell'idea che non sia un oltraggio a Pasolini non averli inseriti ecco ma è vero che ci sono molte cose che lui pensava di inserire e che non ha fatto in tempo anche per esempio il testo in neogreco ma non c'era il testo in neogreco dentro le cartelle di Petrolio i discorsi di Cefis stanno nelle cartelle di Petrolio e soprattutto mentre il discorso in neogreco come diceva poco fa Davide aveva come dire un aspetto di violenza formale quindi in qualche modo fosse stata quella poesia o quell'altra poesia forse non cambiava invece i discorsi di Cefis sono una parte portante dell'economia di Petrolio nel senso che Cefis è un personaggio presente dentro al libro a livello della storia prima e a livello diciamo della storia seconda e addirittura il suo impero economico è trattiggiato per 18 pagine addirittura lo si indica come il possibile mandante dell'omicidio di Mattei addirittura a questi testi di Cefis questi tre discorsi di Cefis Pasolini ritorna dentro a ben due articoli degli scritti corsari uno è il genocidio e l'altro è l'articolo delle lucciole in uno di questi due sostiene che la televisione avrebbe dovuto diffondere questo discorso di Cefis che si intitola tra l'altro la mia patria si chiama multinazionale che era il discorso che Cefis aveva tenuto all'accademia militare di Modena dove lui stesso era stato allievo di cui lui stesso era stato allievo in anni precedenti e quindi si rivolge a dei militari a dei futuri ufficiali per dire che d'ora in avanti si dovranno abituare forse a difendere non più la patria ma delle multinazionali quindi Pasolini questa è una delle tante cose che sono scritte in questo considerava questo discorso qualcosa di enorme di madornale che parlava di ciò che stava avvenendo in Italia e forse non solo in Italia in quel momento c'è una mutazione del potere e della classe dirigente che stava passando da una forma ad un'altra in quell'epoca non è che si parlasse molto di multinazionali forse solo Cefis se ne parla e Pasolini ma non è che se ne trova molta traccia nel dibattito politico di quegli anni ebbene i due i due nemici Cefis e Pasolini si rimpallavano su questo il ping pong su questo concetto su questa nozione e Pasolini dice proprio in questo articolo degli scritti corsari che la televisione avrebbe dovuto diffonderlo quel discorso per far capire agli italiani quello che stava succedendo in quel momento ora non è come dire una foto di Pedriali che non si sa quale è quello lì lo tiene lì nelle carte di petrolio è un un pilastro diciamo nell'economia del romanzo perché è appunto l'emblema di quella mutazione di cui il romanzo parla è dentro la storia dell'Eni essendo stato Cefis presidente dell'Eni dopo la morte di Mattei avendo fatto poi la scalata alla Montesison quindi non mi sembra proprio come aver dimenticato di mettere o trascurato di mettere una fotografia di Pedriali mi sembra una cosa molto più più grossa e madornale e poi ripeto questi testi stanno al VSE dentro alla cartella di petrolio quindi perché non metterli è una decisione strana secondo me io sono d'accordissimo sull'importanza di questi discorsi dico che secondo me andrebbero messi in un appendice questo va bene ma non ci sono neanche in appendice nelle tre edizioni di petrolio andrebbero messi come andrebbero messe però le fotografie che sono altrettanto importanti la differenza però è che non sappiamo quali fotografie avrebbe messo mentre sappiamo benissimo quali discorsi di Cefis lui avrebbe messo perché stanno lì c'è una differenza non si possono considerare nella stessa stregua i materiali fotografici posta per figurare in petrolio secondo le testimonianze quelle fotografie di Chia dalla finestra con ritratto di lunghi sì sarebbe bello metterle secondo me soltanto secondo me senza intervenire nel testo di petrolio sì questo sì era una piccola precisazione certo non si è detto che bisogna metterli proprio lì però che ci sia ecco invece quello che secondo me è grave è che in queste edizioni manchi anche la segnalazione della lacuna no vorrei fare una domanda alla professoressa Benedetti e le chiedo un commento se mi potrebbe fornire un commento su quanto Pasolini scriva all'interno degli incontri serali a proposito del personaggio di Cefis perché dalla sua lettura mi sembra che trovo molto affascinante mi sembra che il personaggio di Cefis assuma all'interno di petrolio un ruolo predominante però a un certo punto lo stesso Pasolini dice Cefis è un personaggio che mi annoia se qualcuno mi chiedesse se è un personaggio interessante io direi Cefis è un personaggio che mi annoia posso anche citare il testo se mi venisse ma a tale domanda se mi venisse fatta io risponderei che non è possibile scrivere un poema su delle persone che annoiano grazie beh diciamo che innanzitutto qui c'è anche un riferimento letterario importante a Dostoievski che dice qualcosa del genere rispetto al personaggio cioè è un problema anche da romanziere non è un problema semplicemente da analista dell'economia e della politica italiana come dire lo accentua anche perché fa capire tra l'altro lo dice anche questo disinteresse per il personaggio che non ha uno spessore non lo dice soltanto per Cefis in petrolio lo dice anche per Carlo per l'ambiente dei parioli che lo disgusta che non ha voglia di descriverlo quindi è una cosa più generale io direi questo come commento diciamo di impatto di quella frase e però direi anche che è vero che Cefis di fatto in più è un personaggio per niente romanzesco cioè di una noia mortale nel senso che è sempre stato come dice Pasolini dentro a Petrolio un personaggio in secondo piano il numero due sempre che si nasconde non viene mai infatti diciamo nella cronaca compare pochissimo era anche un personaggio sembra una persona ossessionata dalla paura di comparire che si parlasse di lui voleva sempre come dire agire dietro poi il suo stesso impero economico che Pasolini descrive è tutto affidato a prestanome cioè proprio un personaggio che scompare è il contrario della diciamo del personaggio romanzesco che può non annoiare ma essere appunto avvincente è una per la prima Antonietta prego ah scusa ma dunque io non sostengo per niente una filologia dura pura e per niente per niente come penso nemmeno le colleghe tuttavia ritengo questo di fronte a un'opera che non è finita che probabilmente non si sarebbe mai presentata con l'aspetto definitivo perché lo dice ogni Piesospin Pasolini dice poi avrebbe magari negato perché è molto come dire diciamo contraddittorio o meglio a dialettico cioè antitetico tac tac sì no eccetera la forma sì la forma no cioè c'è tutto un grosso problema esegetico interpretativo e critico ma come si fa a inserire all'interno di una testualità che è già magmatica provvisoria passibile di 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 rivoluzioni se non fosse morto o invece sarebbe tornata un po' come la divina Mimes nella forma di c'è l'editore postumo che in uno stile grigio farà questo e quest'altro cioè pseudo continiana diciamo pseudo pseudo filologica perché è filologia borghesiana no assolutamente non si può secondo me inserire non è sensato inserire un testo che è stato sicuramente un testo chiave poi perché gli eredi e i non eredi in certo quel modo abbiano messo il silenziatore a questo ci inquieta non c'è alcun dubbio ma non si può pretendere che una filologia anche a larghe maglie diciamo cordiale molto cordiale inserisca un qualcosa che ha un solo titolo in quella in quegli appunti che abbiamo autografici lampi sull'eni chi ci dice che Pasolini avrebbe inserito il testo ma quello non ce l'abbiamo Antonietta non si sa dove è non si sa neanche se l'ha scritto lo so che non si sa appunto appunto per quello altrettanto arbitrario sarebbe acchiappare dei materiali che probabilmente erano materiali su cui riflettere di lavoro da riformulare da irridere da città non lo possiamo sapere e infilare l'unica soluzione sarebbe non so perché non è stato fatto perché era anche facile farlo mettere in un appendice quelli ma allora scusate tanto ha maggior ragione quasi quasi le foto di Pedriali perché perché se da una parte c'è il Pasolini che rifiuta la forma romanzo tutto quello che stiamo dicendo è che via via verrà detto in parte è già stato detto e che quindi sembrerebbe uscire dolorosamente dal narcisismo che in fondo aveva sempre avuto dall'altra parte c'è il Pasolini che si fa fotografare nudo mentre legge ora Montegni nella torre a parte che non c'era la macchina fotografica ma non si sarebbe mai fatto ritrarre attraverso un vetro trasparente allora anche quella è una cosa interessante per capire fino a dove arriviamo a capire il personaggio lo scrittore l'autor e l'actor perché Pasolini dantescamente e continualmente ha insistito tanto a lungo su queste due almeno due figure magari rindegandole qua e là e soprattutto in petrolio però perché si era fatto fare tutte queste foto dicendo ci sono testimonianze che probabilmente le avrebbe immesse magari non le avrebbe fatto la stessa cosa riguarda i discorsi di Cefis non vedo perché una debba essere di pregio e l'altra superflua ecco questo scusa io non ho detto che l'altra è superflua era semplicemente di dire che mi sembrava strano che ci mancasse anche in appendice solo questo tutte e due secondo me sono importanti tutte e due non penso che le fotografie siano superflue c'è solo quella differenza che le fotografie non sappiamo quali ed erano e non stavano lì nella cartella non c'erano arrivate insomma c'è qualcun altro che sì una cosa breve volevo ritornare un attimo al problema della forma una domanda per Davide ma anche per Carla naturalmente a proposito del dialogo scontro Pasolini Eco e del della questione del codice dei codici no e lì Pasolini ci descrive attraverso il codice dei codici una realtà che è una configurazione semiologica densa proprio no thick come direbbero gli inglesi in cui la forma proprio a causa della densità della continuità di questa di questo tessuto sembra essere qualcosa di assolutamente non visibile cioè paradossalmente la forma non è né eidos né morfè e forse anche una posizione molto delusiana è una domanda ecco mi pare che si tratti però di qualcosa la forma dico molto al di là della visibilità che richiama invece un modello il modello di Calvino forse più chiaramente non so se ho inteso correttamente anche la tua posizione insomma la tua analisi grazie sì sulla sulla forma allora il nel codice dei codici lui sta appunto dialogando con Umberto Eco e questa visione come dicevo un po' infinita della realtà senza come dire senza nessuna dialettica insomma una realtà dove la realtà parla con se stessa questa è un'immagine che Pasolini ha molto molto dentro di sé che secondo me appunto viene mutuata dal cinema cioè l'idea che in fondo quando osserviamo la realtà sullo schermo vediamo dei segni che parlano tra di loro in qualche modo è chiaro che questo serve a difendere l'ipotesi di una realtà come linguaggio che è un'assurdità per Eco poi sappiamo che le cose evolvono e che oggi l'idea sembra molto meno assurda ma e soprattutto è chiaro che qui sarebbe stato da evocare anche altri testi dove poi Pasolini distingue molto nettamente il cinema dal film il cinema come estrazione linguistica e il film come invece espressione linguistica però è chiaro che ogni ripresa diciamo così più che film che è un altro discorso ancora ogni ripresa cinematografica taglia un pezzo di questo continuum lo sceglie lo trasceglie e trascegliendolo lo evidenzia in qualche modo quindi la forma della realtà nella sua continuità senza soluzioni di continuità eccetera non appena la taglio naturalmente c'è una banalità quello che taglio si vede e e quindi è il passaggio da un un'assenza di cioè diciamo non so nemmeno se chiamarla forma senza soluzioni di continuità ha una forma che invece è finita ed è visibile in quanto tale ed è identificabile in quanto tale quindi non credo che ci sia nell'idea di forma questa indistinzione questa morfia anzi mi domanda mi domando solo una cosa come mai i capitoli mancanti di petrolio presunti tali siano guarda caso quelli che sposterebbero consentirebbero una lettura anche politica di petrolio ora se di lampi sull'eni non sappiamo nemmeno se esiste questo capitolo se è mai stato scritto o meno per l'appunto i tre discorsi avrebbero una volta pubblicati sia pure in appendice sia pure magari scegliendone uno su tre il primo il più importante quello per l'appunto del discorso di Cefis davanti ai cadetti dell'Accademia Militare di Modena beh questa avrebbe consentito una lettura ben diversa da quella che è stata data per 25 anni e oggi se siamo oggi qui a lamentare la mancata lettura anche politica di un libro così importante come petrolio è proprio dovuto al fatto che questi discorsi sono stati negati a Carla ricordo solo un piccolo particolare forse insignificante quei discorsi non sono più tra le carte di Pasolini conservate alla cartella vari qualcuno una mano prudente ha fatto sì che queste cose venissero al Vies archiviate in altro luogo cioè in luogo diverso da dove gli aveva messi i Pasolini e anche questa è una cosa curiosa e mi domando come mai quanto alle fotografie ecco vero Pedriali lo fotografa Torre di Chia siamo nell'ottobre del 1975 sono appunto le famose la famosa sequenza perché tale è di Pasolini nudo ma c'è anche Pasolini che disegna Longhi fa un ritratto disegna il profilo di Longhi sempre negli scatti di Pedriali immagini che si presume sarebbero poi state utilizzate in petrolio ma Pasolini va cercando altre fotografie ad esempio chiede a Mario Reali Mario Reali oltre ad essere poeta è anche il plenipotenziario di Montedison a Mosca chiede a Mario Reali foto di Cefis allora corre obbligo ricordare ciò che Pasolini fa nella Divina Mimesis quella che lui chiama iconografia ingiallita mette una serie di immagini quasi a costruire un racconto di quel tipo si può anche supporre che oltre alle foto di Pedriali Pasolini puntasse pensasse di pubblicare anche altre immagini tra cui quelle di Cefis altra cosa che forse è il caso di segnalare così io ho dato una scorsa a Petroglio molto di fretta devo dire tra nell'ultimo mese e lì per lì mi sono venute fuori diverse citazioni di immagini c'è ad esempio vabbè questa la segnaliamo anche nel nostro libro mio e di Carla e anche alla festa della Repubblica una foto che viene descritta ma è una foto stiamo parlando la descrizione che Pasolini fa di Enche in realtà è la descrizione di una fotografia si parla anche del 19 tanto simile all'aereo di Mattei a un certo punto quando l'aereo c'è un aereo che cade nel deserto quell'aereo viene descritto né più né meno di come era l'aereo caduto di Mattei ne resta solo la coda e con i colori poi che sono quelli c'è poi oltre gli scritti pedriali alle foto di pedriali alle foto di cefis che per l'appunto chiede a Mario Reali ci sono i ragazzi siciliani all'appunto 3D anche queste sono fotografie per l'appunto di un noto turista cioè di un noto di un intelligente turista tedesco così viene definito che è William William Hong Gruden che è un fotografo che all'epoca faceva appunto questi ritratti a ragazzi mettendoli in pose più o meno cioè fotografa questi ragazzetti con delle corone d'alloro delle cose così anche queste sono immagini non sappiamo cosa poi sarebbe stato utilizzato in petrolio sappiamo che delle fotografie vi sarebbero poi finite scusate una mozione d'ordine diciamo naturalmente ci sarebbero tanti altri interventi io vi ricordo intanto che domani ci sarà una tavola rotonda proprio sui capitoli mancanti di petrolio in cui si parlerà appunto di questo poi noi abbiamo necessità credo di una pausa pausa caffè e ascoltare poi altre due relazioni non so vogliamo continuare il dibattito così o fermarci un momento chiedo a voi a Carla forse possiamo sentire un'altra domanda e rispondere a tutte e due anche Lele che vorrà fare una domanda io volevo ricollegarmi alla domanda del professor Massimo Stelle tornare sul tema della forma mi sembra di aver capito dell'intervento del professor Luglio che forma intende un qualcosa che aggetta che cede sulla vita fisica però non credo che sia l'unica accezione del termine forma all'interno dello stesso romanzo petrolio e anzi credo che ci sia una sorta di narrazione di questa parola proprio all'interno di petrolio che ha una sua storia una sua evoluzione e volevo chiedere al professor Luglio come si armonizzasse questa idea di forma con ad esempio l'idea di forma che si ritrova nell'appunto 99 in cui Pasolini scrive dunque il mio romanzo stava per prendere forma forma questa è ahimè la parola tale forma aveva le sue leggi interne che la istituivano e la conservavano e tutto ciò ricreava un nuovo ordine era per me lo scacco la fine dell'illusione della libertà e sempre nella lettera invece a Moravia si torna a parlare di forma virgolettata in corsivo e qui si dice ora in queste pagine io mi sono rivolto al lettore direttamente non convenzionalmente ciò vuol dire che non ho fatto del mio romanzo un oggetto una forma obbedendo quindi alle leggi di un linguaggio che ne assicurasse la necessaria distanza da me quasi addirittura abolendomi no io ho parlato al lettore in quanto io stesso in carne e ossa quindi diciamo in queste due citazioni forma sembra opporsi a un qualcosa che aggetta alla vita che si collega direttamente al biologico sembra quasi identificarsi con la forma romanzio direi ecco la domanda è come fanno questi due tipi di forme a armonizzarsi e integrarsi in uno stesso discorso grazie mettiamo anche l'altra domanda sì lei le vorrei fare buongiorno sono Palla Baiocchi sono una giornalista ho una considerazione da fare prima di fare una domanda alla professoressa Benedetti la considerazione è che tra le violenze che ha subito Pasolini e Petrolio c'è anche quella del processo che ha silenziato insomma una morte molto politica dandogli questa così connotazione come sappiamo tutta su Pelosi il diritto sessuale la violenza a cui ha voluto sfuggire Pasolini che si è rivolta verso di lui e ha voluto sfuggire Pelosi che poi si è rivolta contro Pasolini la considerazione quindi appunto è che molto si è fatto per silenziare questo autore così importante così critico così acuto nel leggere il periodo ritardando la uscita poi di Petrolio ora la domanda che vorrei fare alla professoressa è se esiste una pubblicazione completa di tutto quello che è la cartella appunto degli appunti di Petrolio perché forse sarebbe il caso di lasciare al pubblico in senso vasto anche proprio come una wikipedia del romanzo quindi pubblicandolo per esempio su internet o facendo un archivio su internet a cui possono accedere molti tutti insomma in modo da dare una lettura non mediata da quella che è l'interpretazione che poi è stata data che può essere arbitraria e comunque deficitaria alzate la mano io velocissimamente volevo anche io ritornare al concetto di forma questa forma che è una forma che anche permette la contraddizione che poi è la cifra di Pasolini come ricordavi anche tu Carla quindi questa possibilità in questo senso forse è anche un vas che forse è un altro termine che a un certo punto Pasolini aveva pensato ma volevo ritornare al concetto di questa idea la volontà di smettere di esercitare il possesso sul lettore quindi del rifiuto della vischiosità questa masochistica rinuncia all'autorità e in qualche modo comunque al paradosso del comunque volere creare una forma e in questo creare una forma c'è forse questa tensione che veniva ricordata prima di come fai a creare una forma nel momento in cui comunque una forma è un esercizio di potere e la domanda che volevo farti è come funzionano tutti questi continui riferimenti a quello che Pasolini sta facendo comunque a come il romanzo si sta ponendo che in qualche modo sembrerebbero andare in una direzione opposta rispetto a quella del non volere creare una forma ma che invece proprio disattivano secondo me il meccanismo in cui la forma tradizionale del romanzo si crea si allora forse no vuoi rispondere ah rispondi tu adesso dico solo una parola alla domanda che ha fatto Paola Baiocchi sarebbe molto bello però l'erede non lo permetterebbe mai di mettere in rete tutti questi materiali giusto per andare a vedere qualcosa al VSE bisogna fare domande su domande poi non so se lo sapete di recente una Friulana professoressa Friulana ha regalato alla biblioteca di Udine mi pare degli inediti di Pasolini e già c'è una polemica perché non devono essere visti perché ci vuole l'autorizzazione degli eredi cioè quindi è tutta una cosa complicatissima questa è un'utopia però sarebbe bello certo se si potessero non esiste una pubblicazione di tutte questa cartella bene io volevo dire innanzitutto una cosa a Giovanni Giovannetti e cioè è che in realtà beh lo sa lui benissimo ma così lo ricordo comunque che è chiaramente tra l'altro in un passo degli iscritti corsari Pasolini dice no non è certo la televisione lo ricordava prima che cava non è certo la televisione italiana che trasmetterà i discorsi di Cefis quindi cioè lui proprio ne fa un emblema di qualcosa di questi discorsi è chiaro detto ciò nel romanzo comunque voglio dire solo questo che attraverso la rassegna stampa che ha fatto vedere Calla che è sconvolgente ma anche senza i discorsi di Cefis comunque se uno legge Petroglio vi trova una dimensione politica molto evidente molto forte quindi lì la scelta di valorizzare la dimensione sessuale è proprio una scelta diciamo così di costruzione di opinione non c'è altra cosa da dire insomma per quanto riguarda la forma devo dire che le domande mi fanno capire che il mio discorso era un po' complesso non l'ho espresso molto chiaramente probabilmente nel senso in cui è chiaro che Pasolini potrebbe anche moltiplicare dieci definizioni di forma la questione che emerge dal confronto in particolare col testo su lo smeraldo di soldati è proprio che la questione centrale è quella che in qualche modo elimina la vischiosità della scrittura poi è questo scherzo è il riso è l'irrisione che è il punto fondamentale sul quale si costruisce anche il discorso sulla forma quindi alla fine appunto la seconda parte un po' del mio titolo Petroglio una forma di vita quello che sta dicendo Pasolini è che solo diciamo così irridendo il valore noi possiamo in qualche modo colpire il potere la volontà di potere naturalmente non qualsiasi valore non lo dice anche lui non i valori così parziali relativi ma è il valore il valore di porno teocolossa è la legge assoluta è il valore che vogliamo diciamo così imporre in qualche modo come tale è il valore anche semplicemente come emblema di una società della mercificazione dove tutto deve essere valore e avere valore e quindi è su questo valore e questi valori che fondi il discorso di potere e il potere quindi è irridendo questa forma che è la forma della società stessa che lui appunto descrive questa società capitalista mercificata eccetera ma che naturalmente al di là di queste considerazioni che sembrano sempre un po' banali un po' da lotta contro i supermercati la questione è più profonda naturalmente è proprio quella di riuscire a costruire a proporre attraverso una forma una forma di vita questa è l'idea mi sembra non so se ho risposto anche alla domanda della studentessa anche perché per chiudo in un secondo lei mi ha citato l'appunto 99 ci sono anche altri usi di forma quando lui parla proprio delle forme di vita dei ragazzi quindi è chiaro che forma può prendere anche degli altri significati io ho isolato quello più pregnante e quello che mi permetteva dimostrare come la forma petrolio possa essere letta come una forma di vita allora ci fermiamo per una pausa a caffè e riprendiamo tra 10 10 minuti direi va bene a dopo prendete posto e cominciamo scusate voglio avvertirvi e scusarmi del fatto che a un certo punto dovrò poi assentarmi perché dovrò rientrare a Napoli sono stato molto contento di presiedere questa prima mattinata un grande successo siamo molto contenti che voi partecipate con tanta passione a questo evento dunque allora adesso ascoltiamo Giada Stigliano la quale è laureata in lingua e letteratura italiana a Pisa collabora appunto con Carla Benedetti e naturalmente è una delle organizzatrici di questo di questo evento e soprattutto aspettiamo tutti con qualche ansia ed eccitazione la sua monografia su Petroio al titolo Laboratorio Petroio che è in uscita nelle prossime settimane prego allora Petroio è un'opera postuma così come molte altre opere di Pasolini sono postume ma come postume sono anche la maggior parte dei capolavori del Novecento qualche esempio si pensi a Kafka cosa ne sarebbe stato del processo se Max Brown avesse deciso di rispettare le ultime volontà dell'autore e avesse bruciato l'opera oppure alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust stesso fratello Robert non avesse deciso di pubblicare gli ultimi tre libri cioè che idea avremmo avuto noi di queste opere se ci fossero arrivate in modo diverso rispetto a quelle dello stato in cui le conosciamo noi oggi Carla prima ha ricordato l'uomo senza qualità di Musil uno delle pietre miliari della letteratura del Novecento e che eppure è stata pubblicata in compiuta a causa della morte dell'autore tutte queste opere sono aggiunte a noi in una condizione di postumità eppure non sono state create dei grossi problemi nella loro ricezione cioè siamo stati ben felici di poterle accogliere studiare leggere e conoscerle a differenza invece di queste importanti opere per Petrolio non ha Petrolio non ha avuto la stessa la stessa fortunata sorte le motivazioni di queste le motivazioni possibili sono tantissime sicuramente il testo ha una storia molto pesante alle sue spalle una storia violenta quasi ingombrante perché troppo spesso è stata al centro delle discussioni di Petrolio a discapito del testo in sé delle sue forme dei suoi temi e dei suoi contenuti la tragica vicenda del testo è ormai nota a tutti e non ho intenzione di ritornarci su sono argomenti che sono stati ampiamente dibattuti volevo invece utilizzare questo spazio per fornire un approccio suggerire un approccio diverso a questo testo un approccio di carattere più tipicamente filologico a mia parere infatti leggere Petrolio in un'ottica filologica dove per filologica intendo un atteggiamento di curiosità nei confronti del testo e delle sue forme oltre che ai contenuti e alle sue fonti consente infatti di avere una visione più completa dell'opera è lo stesso Pasolini suggerircelo non in un punto qualsiasi del romanzo ma nella prima carta del romanzo cioè il primo brano che si legge di Petrolio il luogo dei romanzi in generale in cui solitamente gli autori accolgono i lettori e li preparano l'autore prepara il lettore a quello che verrà narrato dopo Pasolini ci accoglie nel suo monumentale romanzo con la nota progettuale la nota progettuale è così come viene chiamata non è Pasolini a titolare il brano il brano è una carta schedattilografata con pochissime revisioni alla quale Pasolini aggiunge solamente la data con una penna blu la data generica della primavera del 1973 il titolo è quella della nota la nota progettuale è stato scelto dai curatori dell'opera quindi mi riferisco a Roncaglia e alla Chiarcossi il titolo è un nome molto appropriato visto che questo è il luogo del romanzo scelto da Pasolini per presentare al lettore il suo progetto cioè il progetto di petrolio e spiegare sotto quale forme attraverso quali materiali questa progettualità si manifesterà agli occhi del lettore un benvenuto piuttosto deciso con il quale l'autore vuole immediatamente focalizzare l'attenzione del lettore non sul suo contenuto non sui temi o sui personaggi che animeranno il racconto così come solitamente ci si aspetterebbe ma vuole focalizzare l'attenzione del lettore sulla sua forma la forma per mezzo della quale questo racconto prenderà poi vita Carlo Troia il merda o qualsiasi altro personaggio presente nel romanzo non ha una vita propria non ha una personalità o una storia sono solamente degli strumenti sotto il completo controllo dell'autore e Pasolini lo dice chiaramente nell'appunto 31 quando dice che nella sua storia la psicologia è sostituita con il peso dell'ideologia cioè perché ciò che realmente lui vuole raccontare in questo romanzo non è la storia dei singoli personaggi ma la storia che riguarda l'assoluta indipendenza delle leggi che istituiscono una forma rispetto alle leggi di tutte le altre forme anche queste non sono parole mie sono parole di Pasolini e quest'ultima frase è una citazione dell'appunto 98 già ricordato prima da Davide poche storie di un uomo e del suo corpo l'appunto 31 e l'appunto 98 sono solamente due della moltitudine di esempi possibili ricavabili dai moltissimi brani disseminati in tutto petrolio in cui Pasolini interagisce direttamente con il lettore per raccontargli che i fatti che gli sta raccontargli i fatti e le motivazioni che lo hanno spinto a creare questa forma e aiutarlo a comprendere i caratteri che via via nel corso della scrittura questa stessa forma ha assunto Carlo, Carlo il Troia il Merda di altri personaggi ne sono solamente degli animatori quasi inconscienti ciò che gli interessa per davvero è raccontare la storia che isola e analizza in sé il momento dell'autonomia della forma per riprendere ancora una volta una citazione dell'appunto 98 quindi nella moltitudine di elementi che danno corpo a petrolio è la discussione della sua forma l'argomento prediletto da Pasolini cioè quello su cui lui si dilunga più spesso e al quale infatti decide di dedicare la prima carta in assoluto del romanzo riservandogli quindi un posto un luogo prediletto all'interno della struttura del romanzo quella appunto della nota progettuale ed è per questo motivo che considero la nota progettuale un testo indispensabile per una corretta interpretazione critica di petrolio perché è l'unico posto del romanzo in cui Pasolini dichiara in modo diretto chiaro e conciso qual è la forma scelta di petrolio cioè in cosa consiste che caratteri ha questa forma alla quale lui abbiamo visto moltissime volte nel romanzo continuerà a riferirsi a citare la forma scelta è quella di un'edizione critica di un testo inedito per la cui ricostruzione si sarebbe avvalzo del confronto tra diversi manoscritti e di diversi materiali extraletterari come ci spiega nella punto 43 petrolio è la fusione di due ordini narrativi diversi quella dell'opera e del suo progetto cioè quella del mistero e del progetto l'architettura quindi di petrolio è interamente basata sulla consistenza di ciò che è finito e ciò che non lo è ed è probabilmente proprio in questi termini che Pasolini intende ricostruire la forma finale di petrolio sotto forma di un'edizione critica poiché è la filologia che gli permette di poter per mezzo di un apparato critico gli permette di poter far coesistere queste diverse dimensioni presenti nel romanzo e registrarne ogni singola fase evolutiva per Pasolini infatti opere e progetto sono la stessa cosa così però non è per la filologia cioè lui si approccia al testo vuole dare al testo un carattere filologico ma da punto di vista filologico però è difficile far coesistere opere e progetto nelle stesse pagine normalmente infatti testo e avantesso sono categoricamente distinti dalla filologia d'autore dove per testo si intende la lezione scelta l'ultima lezione scelta dall'autore quella che l'autore sceglie poi di pubblicare per avantesso tutto quello che c'è stato prima bene quindi se la filologia distingue nettamente l'opera e il suo progetto Pasolini invece decide di fonderli insieme in questa pagina e in petrolio è davvero difficile fare una questa distinzione netta fra ciò che è testo e ciò che è avantesso perché gli elementi progettuali sono parti integranti di questo stesso testo dove per elementi progettuali intendo gli schemi le note le postille che animano il testo lo stratificano e ne permettono di ricostruire tutte le sue evoluzioni cioè la storia che questo testo sta affrontando e sta vivendo e per elementi progettuali però bisogna comprendere in questa categoria di elementi progettuali bisogna anche far rientrare quelli che sono questi materiali extraletterari a cui nella nota progettuale lui si riferisce in modo diretto definendoli come degli elementi fondamentali per una corretta ricostruzione del senso generale dell'opera distinguere quindi opera e progetto vorrebbe dire in qualche modo andare a contrariare quella che è la forma scelta dall'autore cioè rifiutare una precisa scelta stilistica compiuta dall'autore quella di annullare la distinzione fra l'opera e il suo progetto però in tutte le versioni a stampa di petrolio gli elementi progettuali quindi le note gli schemi vengono in qualche modo distinti dal testo vero e proprio i curatori non potendoli escludere dal testo hanno compiuto una distinzione utilizzando dei font grafici diversi gli schemi le note hanno un font grafico minore un corpo minore rispetto a quello che i curatori hanno stabilito e ritenuto fosse il testo vero e proprio dell'opera una scelta giusta da un punto di vista filologico in generale è una scelta corretta ma che in qualche modo è discutibile se viene applicata ad un'opera che vuole essere un progetto di opera cioè in questo modo privare il lettore in qualche modo di poter cogliere la coesistenza di questi due elementi vuol dire in qualche modo fornirli non fornirli tutti i mezzi necessari per poter riconoscere il carattere volutamente e non casualmente progettuale dell'opera e poterne ricavare una corretta interpretazione del testo delle sue forme forse è proprio per questo motivo che Pasolini concepisce Petrolio come un'edizione critica perché è consapevole della necessità di dover fornire al lettore tutti gli strumenti necessari a decifrare la sua magmatica visione persino quelli più strettamente filologici purtroppo è stato ucciso prima di poter portare a termine il suo testamento come lui stesso l'ha definito e ad oggi nessuno ha sopperito a questa mancanza nel senso che ancora ad oggi non esiste una versione un'edizione critica di Petrolio che possa essere definita tale le difficoltà ci sono sono tantissime e non si può neanche pensare di poter sopperire o sostituirsi a Pasolini come si diceva prima però è anche vero che l'opera c'è il testo c'è le basi per questa per questa edizione critica in realtà le ha già gettate Pasolini basterebbe avere la sensibilità di coglierle forse forse meglio il coraggio di poterle attuare ma ci sono basta qualche qualche esempio e poterlo dimostrare nel settembre del 1974 Pasolini chiede a Graziella Chiarcossi di fare delle fotocopie del dattilo scritto quindi delle 330 carte scritte fino ad allora è un anno il settembre del 1974 quindi è un anno prima della sua morte e quindi punto finale della stessura di petrolio premetto che le fotocopie non hanno un valore filologico la copia non ha delle varianti vere e proprie rispetto al dattilo scritto autografo che è quello che noi leggiamo oggi nell'edizione stampa vi mancano alcuni capitoli della prima parte quasi per intero la seconda parte a dimostrazione del fatto che in un poco meno di un anno il romanzo si sdoppia cioè ha una crescita esponenziale a voler anche dimostrare che non fosse un semplice bozzo una bozzo di un progettino un appunto ma fosse un'opera alla quale Pasolini ci lavora in modo instancabile estenuante eppure queste fotocopie però non avendo un valore filologico vero e proprio si dimostrano si rivela un elemento chiave per l'interpretazione del complicatissimo processo scrittore adottato per petrolio rivelando delle informazioni preciosissime sui possibili sviluppi subiti dal testo appunto dal settembre del 74 al novembre del 75 anno della sua morte faccio un esempio e ho scelto come esempio quello di una delle parti più famose di petrolio quello del capitolo 20-30 che riguarda appunto la storia di Cefis e dell'Eni dove per capitolo non ho scelto la parola a caso ma per capitolo intendo quell'agglomerato di appunti che con un tema comune o simile che Pasolini è solito raggruppare e solito costituire all'interno dell'opera si pensi al capitolo degli Argonauti si pensi al capitolo dell'epochè si pensi al capitolo del Merda insomma quegli agglomerati di appunti che hanno un tema comune fra questi c'è anche il capitolo dedicato all'Eni e alla storia dell'Eni di Cefis bene dal confronto tra il dattilo scritto e le fotocopie è possibile in qualche modo seppur per ipotesi andare a ricostruire la genesi di questo capitolo cioè in che modo questo capitolo si è sviluppato nelle fotocopie di Petrolio non c'è traccia del capitolo dell'Eni l'unica traccia presente è una nota è un appunto con il titolo 20-30 storie del petrole e dei suoi retroscena è tutto dattilografato appunti 20-25 le fonti appunti 25-30 i fatti sopra una penna ci aggiunge Lampi sull'Eni con una piccola freccia questo è l'unica cosa che abbiamo l'unica testimonianza che abbiamo nel futuro capitolo sull'Eni nel dattilo scritto nelle fotocopie bene per chi non avesse familiarità con l'opera e non avesse riconosciuto il titolo della nota dell'appunto questa è quella che nel dattilo scritto autografo e quindi nella lezione a stampa che noi conosciamo oggi è l'icipit dello schema che va a concludere il capitolo su petrolio un lunghissimo schema scritto interamente a penna da Pasolini in cui va a riassumere tutti gli argomenti trattati negli appunti che formano il capitolo 20-30 e con l'incalcio la notazione di voler inserire i discorsi di Cefis come cerniera fra le due parti del romanzo ora non è tanto il fatto che lui abbia sviluppato le note la cosa curiosa le note servono a questo cioè lui intervalla il testo con questi appunti anche su cosa avrebbe dovuto fare in futuro alla fine petrolio è un'opera progetto è un'opera in continua evoluzione quindi è normale trovare degli appunti del genere la cosa curiosa è vedere in che modo lui tratta questa nota cioè una nota che una volta sviluppato il capitolo sarebbe potuta tranquillamente essere stata cestinata da Pasolini invece lui che fa non solo la conserva probabilmente in vista proprio di questo futuro apparato critico che lui avrebbe voluto scrivere sotto questa forma avrebbe voluto presentare la versione finale di petrolio ma non solo la cresce la perfeziona la stratifica la riempie trasformandolo in uno schema uno degli schemi più famosi di tutto petrolio quello in cui appunto lui va a sintetizzare e a schematizzare la storia di Cefis e dell'impero dell'Eni quindi il confronto fra le due versioni di petrolio se così si possono definire cioè quella delle fotocopie e quella completa del dattilo scritto è possibile in qualche modo andare a capire in che modo si sviluppa si sviluppa il testo cosa c'è cosa manca cosa è presente cosa è presente sotto forma di nota e cosa per avere contezza di quello che poi viene sviluppato nel dattilo scritto nel dattilo scritto originale quindi il confronto ci è davvero davvero d'aiuto e questo esempio ne è una chiara testimonianza ma questo esempio si presta anche a dimostrare in che modo questi materiali extraletterari che lui dice di voler inserire nel corpo del testo e che effettivamente sotto diverse forme diverse chiavi di lettura sono effettivamente presenti nel testo nel progetto di petrolio è possibile andare anche a ricostruire appunto a testimoniare in che modo questi materiali extraletterari sono effettivamente indispensabili per poter avere un'interpretazione completa dell'opera tra questi materiali extraletterari che lui elenca nella nota progettuale si fa riferimento a delle illustrazioni sono state prima citate le foto di Petrali si fa riferimento a degli articoli di giornale si fa si è parlato prima appunto dell'Espresso abbiamo qui Silvia De Laude che nell'edizione commentata ha portato con molta cura ha fatto insomma il riscontro tra quello che era in petrolio e le fonti di questi articoli di giornale che lui dai quali lui ha tratto le sue informazioni bene tra questi materiali extraletterari lui parla anche fa riferimento a delle lettere ora se dico lettere è ovvio che la prima associazione sia quella con la lettera di Moravia che è presente nella cartella di petrolio e non è poi così tanto impensabile non è così tanto impensabile ipotizzare che lui effettivamente non l'abbia mai spedita non per tempo ma forse anche per volontà nel senso quella lettera va a in qualche modo a immortalare a testimoniare quelli che sono i turbamenti che ogni scrittore prova nel momento in cui sta lavorando a un'opera vanno in qualche modo a registrare a testimoniare quello che è un processo una fase del processo di sviluppo dell'opera bene tra queste lettere però ce n'è anche un'altra c'è la lettera di Facchinelli la lettera di Facchinelli non è riportata nell'edizione a stampa pur essendo presente nei materiali di petrolio insieme ai discorsi di Cefis un'associazione non per nulla casuale poiché è Facchinelli che invia tutto il materiale relativo a Cefis a Pasolini la corrispondenza tra Facchinelli e Pasolini non è testimone unico non è formato solamente dalla lettera con la quale Facchinelli accompagna l'invio di queste Cefis libro fondamentale da cui lui ricava tantissime informazioni per la scrittura del capitolo 20-30 ma anche ci sono altre quattro lettere quindi la corrispondenza fra Facchinelli e Pasolini è formata da cinque lettere che vanno dal gennaio del 74 al dicembre del 74 ora Pasolini sceglie di conservare tra le carte di petrolio solamente una di queste lettere appunto quella del settembre del 74 con il quale Facchinelli invia il materiale relativo a Cefis mi riferisco a queste Cefis e al discorso dell'Accademia di Modena che Cefis tiene l'Accademia di Modena che era stato pubblicato sull'Erbavoglio Facchinelli nel 74 è un uomo importante molto stimato animatore della rivista Erbavoglio una rivista molto accreditata ai tempi che scrive a Pasolini tempo prima nel luglio del 74 per chiedergli di collaborare con lui a un progetto su Cefis cioè lui dice io sto organizzando vorrei fare questa indagine su Cefis su Leni e vorrei tanto che tu partecipassi purtroppo noi non abbiamo le risposte di Pasolini cioè non sappiamo in che modo Pasolini ha risposto a Facchinelli ma è certo che una risposta c'è stata perché appunto la corrispondenza fra i due continua e Facchinelli continua a mandare dei materiali a Pasolini però appunto Pasolini prende i materiali ma non collaborerà mai con Facchinelli piuttosto li utilizzerà in modo autonomo da inserire all'interno di petrolio quindi è possibile visto che nel settembre del 74 il capitolo ancora non era stato scritto è evidente che ci sia più che una coincidenza tra la scrittura del capitolo e la ricezione da parte di Pasolini di questi materiali ora Pasolini decide di conservare solamente quella lettera e il che anche questa è una scelta molto curiosa perché gli altri due discorsi a cui Pasolini fa riferimento quello di Vicenza e quello di Roma sono stati inviati dallo stesso Facchinelli nella lettera precedente a quella che lui decide di conservare cioè nella lettera dell'agosto del 74 è lui la sua fonte è lui che decide di mandare tutto avrebbe potuto mantenere anche quella lettera all'interno del faldone di petrolio invece no lui scinde la corrispondenza tiene nel faldone di petrolio solamente quella del settembre del 74 il resto va il resto va in mezzo all'altra corrispondenza abbastanza fitta di Pasolini con Facchinelli e con moltissimi altri personaggi della cultura italiana bene questa scelta è curiosa avrebbe potuto mantenere anche quell'altra invece non lo fa e non lo fa secondo me per un motivo molto semplice perché nell'altra lettera molto più lunga Facchinelli gli chiede di collaborare cioè quasi come se fosse stato Facchinelli a suggerirgli la scrittura di questo di questo di questo capitolo cosa precisazione che non c'è nell'altra lettera una lettera brevissima caro Pasolini con questa ma invio il discorso di Cefis a Modena tenuto a Modena e la copia del libro introvabile questo è Cefis ora tenere questa questa lettera all'interno del del faldone credo sia una chiarissima dimostrazione di come effettivamente Pasolini stesse lavorando in modo meticoloso alla raccolta di materiali sulla base dei quali egli avrebbe poi in seguito ricostruito questo apparato critico altrimenti avrebbe mischiato tutti insieme invece no lui scide fa una distinzione fra le stesse lettere che egli che egli ha ricevuto ora non non evidenziare questi movimenti interni al testo non evidenziare queste notizie cioè in qualche modo privare il lettore di queste informazioni vuol dire dargli un testo monco ma non della sua conclusione ma bensì forse più del suo significato complessivo cioè non è una raccolta senza caotica di elementi per un'opera che si sarebbe dovuta svolgere in futuro ma è qualcosa che lui sta facendo adesso lo sta facendo in contemporanea alla scrittura stessa del testo che è qualcosa di impensabile che forse nessuno ha mai fatto che purtroppo lui non ha portato a termine ma che a cui ci stava ampiamente lavorando quindi in qualche modo privare il lettore di queste notizie vuol dire fornirli un testo un testo incompleto ma appunto come dicevo prima non della sua conclusione ma un testo incompleto delle notizie e delle informazioni necessarie al lettore per poter comprendere il senso complessivo dell'opera è vero Petrolio non è arrivata alla conclusione del suo percorso ma un percorso comunque c'è stato e non dargli peso metterlo in secondo piano vuol dire in qualche modo privare l'opera della sua storia cioè le fasi di lavoro i diversi gradi di elaborazione del testo sono tutti molto evidenti all'interno del dattilo scritto dell'opera ed è forse per questo che Pasolini proprio concepisce l'opera sotto forma di edizione critica perché si rende conto della necessità di dover spiegare al lettore in che modo opera e progetto convivono nella stessa pagina cioè in che modo lui decide di attuare questa scelta stilistica di mettere in pratica questo progetto e dar vita a questa progettualità cioè basta una semplice davvero un colpo d'occhio al dattilo scritto un confronto visivo per vedere come la prima e la seconda parte dell'opera siano completamente diversi cioè abbiano dei gradi di elaborazione diversi la prima parte dell'opera possibile di riconclusa ma è sicuramente molto più completa rispetto alla seconda parte che era invece praticamente quasi tutta ancora in fase di costruzione questi movimenti interni al testo nel dattilo scritto sono evidentissimi movimenti che però vengono non vengono citati non vengono esplicati al lettore nell'edizione a stampa questo quindi fa nascere l'esigenza di dover fare un'edizione critica che è di certo impossibile sostituirsi a Pasolini e poter portare a termine il progetto di edizione critica che lui stesso voleva fare ma certo un lavoro si può fare ed è secondo me indispensabile per poter dare contezza al lettore di quella che è la progettualità dell'opera cioè smetterla di considerarla solamente un progetto di un qualcosa da farsi ma considerare come un'opera progetto cioè un'opera che vuole essere un progetto non il progetto non il progetto di un'opera secondo me ignorare tutti questi aspetti vuol dire esaminare l'opera in modo incompleto non un'opera non conclusa e anche se non portata a termine dal suo autore l'opera c'è e secondo me non possiamo più ignorarla nascondendoci dietro alla sua non fitezza e ai suoi contenuti politici o sessuali che essi siano grazie 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 io direi di procedere con la seconda relazione e poi unificare il dibattito dopo la relatrice la professoressa Maria Antonetta Grignani che insegna linguistica italiana per via è stata dieva assistente di uno dei maggiori filologi italiani cioè di Maria Corti ha insegnato a Salerno e a Siena visiting professor a Genere e Oxford e poi ha curato molte edizioni critiche di testi medievali e di classici del novecento italiano di grande importanza per due volte ha avuto anche il premio Montale Rossi di Seppia passo la parola dunque io sono qua come dire per meriti storici diciamo così avendo organizzato con con Carla Benedetti il famigerato famoso insomma con un venio di cui avete visto poi la risulta stampa perché abbiamo qua ancora un esemplare dicono che su Amazon posso dirlo sia ancora acquistabile e devo dire che riletto a distanza di anni mi è sembrato un buon libro cosa che mi mi sarà capitato due o tre altre volte nella vita perché di solito dopo cinque o sei mesi anche con le cose che ho scritto io trovo orrende invece questo libro per l'epoca in cui fu libro atti di convegno il convegno e dunque poi gli atti per l'epoca precocissima in cui fu organizzato a Pavia il collegio Ghislieri cioè a distanza di un anno e mezzo grosso modo dall'uscita postuma certo non poteva essere più di quello che è stato tutte le angosce che ancora oggi ci prendono la questione dell'eni la questione dell'eventuale nascondimento della verità di parti di testo questioni politiche e anche questioni di altro genere molto sottile per esempio diciamo le fonti o perlomeno ciò su cui si appoggia Pasolini in petrolio che allora non potevano evidentemente essere né note né acclarate come si dice in linguaggio aulico nel giro di un anno il titolo che ho proposto io tra l'altro è di nuovo fuorviante e mi spiace però mi spiego subito mi è piaciuta una frasetta che ho letto recentemente in un articolo del resto abbastanza noto di Paolo Volponi Paolo Volponi nell'articolo il dramma popolare della morte di Pasolini che uscì sul Corriere della Sera nel marzo del 76 dunque pochissimi mesi dopo questa trauma che fu per tutti l'uccisione di Pasolini ecco Volponi aveva scritto questo era molto amico di Pierpaolo aveva scritto questo che vi cito aveva ripreso a studiare sistematicamente e a scrivere con una giornata intensa di lavoro spartita dalla Musa di Bach attendeva con slancio giovane scrive Volponi a un progetto di romanzo globale sulle vicende civili negli ultimi 15 anni intanto doveva finire Salò eccetera eccetera ma quello che è straordinario secondo me in questa breve osservazione di Volponi è che lui tra l'altro dice anche Pasolini ha studiato fino ai 40 anni studiato nel senso classico del termine leggere 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 letture poi in qualche modo è passato al cinema è arrivata la crisi degli anni 60 la sua idea che la lingua ormai fosse inutilizzabile l'italiese tecnologico e passò al cinema non a caso passò a un altro linguaggio invece negli anni 70 secondo l'amico Volponi Pasolini aveva cominciato a ricominciato a studiare tra l'altro se uno va a vedere la recensione a corporale di Volponi fatta da Pierpaolo Pasolini nel 74 si accorge che almeno un paio di volte Pasolini cita Auerbach a proposito di Volponi per il cito realismo creaturale che vede che lui vede in tutto quel romanzo corposo grande è abbastanza magmatico anche quello con un sacco di personaggi dove quello che lui definisce l'occhio calamita di Volponi dell'autore che sta recensendo accoglie una folla di personaggi una realtà che lui definisce magmatica un vorticoso succedersi di figure cosa vuol dire questo? Vuol dire quello che tutti sappiamo ogni autore e soprattutto certi autori ancora più di altri quando scrive di altri scrive di sé e allora giustamente è stato ricordato stamattina come tutto descrizioni di descrizioni portico della morte tutte le recensioni sono tante diciamo degli anni settanta cioè degli anni coevi a petrolio parlano continuamente sotto 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 traccia parlano di petrolio questo non vuol dire che all'interno di petrolio ci sia un'estrema coerenza di impostazione anzi io non lo credo proprio continuo però a ritenere una cosa mi spiace che non c'è Bazzocchi perché non è d'accordo ma non poteva venire io sono convinta e gli indici dei citati in fondo lo confermano che l'opera capitale di Auerbach Mimesis il cui sottotitolo non è come nella traduzione italiana del 56 il realismo nella cultura occidentale ma dovrebbe essere la realtà rappresentata o la rappresentazione della realtà nella cultura eccetera eccetera questo libro che a lui era noto notissimo e che cita molto spesso abbia continuato a funzionare anche fino all'ultimo molto più che non Baktin perché non c'è pluridiscorsività sociale soprattutto non c'è nell'ultimo libro di chiamiamolo libro progetto di Pasolini c'è però un enorme pessimismo per cui dantismo a parte le visioni del cosiddetto merda insomma le visioni di petrolio e tutto quanto il suo realismo che una volta lui stesso aveva definito realismo espressionistico o espressionismo realistico in realtà diventa un realismo del tutto traumatico ecco da qui a passare a discutere della forma ma ce ne corre e non oso farlo e non era mia intenzione farlo qua bene non erano state studiate allora le cosiddette fonti allora però qualcosa era stato fatto nel frattempo io non ho letto forse neanche la metà di ciò che è stato scritto su petrolio successivamente al 95 ma per esempio Paolo Lago e probabilmente anche altri e probabilmente anche ecco che io non sapevo quindi è un omaggio non servile perché non sapevo che fosse qua e deve aver fatto addirittura la tesi di dottorato forse su questo tema ma comunque dottorato non dottorato ci dice molte cose sul perché e il per come della parola satirico della citazione no? un satirico moderno ma sì l'incompiutezza le lacune l'enciclopedismo qualche accenno di prosimetro il tema del viaggio i racconti inseriti nel racconto e quant'altro appunto Paolo ha messo in evidenza e con lui altri che si intendono di cose classiche poi dialoghi dei morti di Luciano ecco perché Volponi dice aveva ricominciato a studiare seriamente lui aveva ricominciato a studiare anche le argonautiche di Apollonio Rodio usando di queste cosiddette fonti o modelli certamente a modo suo evidente che mentre gli argonauti se ne vanno alla ricerca del vello d'oro nelle argonautiche i suoi personaggi se ne vanno più che altro alla ricerca del petrolio quindi il modello è ampiamente diciamo girato lasciamo stare poi il profilo politico che in questi due giorni anche in passato in un recente passato è stato trattato un bel libro riproposto diciamo rivisto di Giovannetti e di Carla Benedetti e in altri però io vorrei dire una cosa poi voi mi direte che sbaglio ma buona fede sono negli anni 90 c'era ancora molta attenzione quindi mi riferisco al primo convegno a quello là quando esce Petrolio c'era molto attenzione di tipo narratologico ma la stessa attenzione c'era già negli anni 70 e ce l'aveva Pasolini perché Pasolini se probabilmente non ha mai letto i testi della scuola di Francoforte come quel cattivaccio di Fortini insinuava ha invece letto a modo suo molta linguistica molta semiologia si diceva allora o semiottica cita Slavski per lo straniamento e anche per il procedimento a brulichio e non a schiglionata lì funziona Slavski cita prop la morfologia della fiaba aveva letto di psicanalisi il caso delle memorie del presidente di corte d'appello di Dresdra Schreber lo acchiappa direttamente da Freud e tra l'altro lì c'è un bel famoso delirio di mutazione da uomo a donna e non sarà un caso che i due Carlo diventino due e non uno e poi si ricompongano e si diffrangano allora direi che bisognerebbe ancora domandarsi come mai in Petroglio Pasolini mette in scena un narratore molto esposto altro che la morte dell'autore di Barth no lo espone e però nel frattempo fa anche il narratore manieristico tradizionale lo fa manieristicamente rievoca il romanzo con un'intensità che starebbe per dire petulante non solo fa molti appelli al lettore i vari come racconterò ma prolessi anche a questo punto però devo anticipare i fatti eccetera o ancora ora questo del verbale rubato sarà un motivo assai secondario del mio racconto preferisco dirlo subito al lettore o anche cosa fa fa che poi delude la suspension of disbelief ma il lettore non si fidi di me quindi è un bilanciamento continuo di ordine contro ordine molti passi sono metanarrativi il racconto è illegibile la sua leggibilità è artefatta non faccio rinvio alle pagine ma li avrei io narratore fondo ex novo la mia scrittura la mia scrittura si fonda su una greve allegoria quasi medievale mi rifiuto di descrivere il ristorante come si aspetterebbe un lettore di romanzerie perché non mi va preferisco parlare dei fiori il mio il mio racconto non è realistico si avvia anzi intrattenibilmente verso le visioni con la V maiuscola il romanzo non è a schidionata cioè a sequenza ma è a brulichio non gli va di parlare nemmeno del quartiere di Vigna Clara dove abita Carlo perché gli fa orrore l'ambiente borghese allora più metanarrativo di così è difficile trovare anche sulle frange della fine del novecento però il narratore nel frattempo cosa fa? Fa il vecchio narratore preannuncia digressioni tipo Stern Tristranscendi anticipa per esempio che Aldo Troia sarà uno dei personaggi chiave della nostra storia oppure altre altre volte si rifiuta di anticipare vuol giocare col lettore ma non descriverà ciò che non ama insomma se noi dovessimo fare un elenco non lo faccio assolutamente un elenco delle varie modalità è una sorta di delirio commentativo autocommentativo lo dico in positivo non in negativo cioè delle varie modalità con cui si muove con un certo affanno anche con una certa angoscia questo narratore beh l'elenco sarebbe piuttosto lungo cos'è avvenuto? beh purtroppo penso proprio che quello che pensiamo in tanti cioè era avvenuto innanzitutto che Pasolini aveva fatto tutte le sue brave polemiche con la mia avanguardia però però come tanti altri come la maggior parte degli altri che avevano polemizzato con la mia avanguardia presto tardi ne risente cioè l'angoscia del fine del romanzo di cui si è tanto chiacchierato comunque fine del mandato dello scrittore fine di un certo tipo di possibilità di mistione dal basso della lingua tutte queste cose hanno certamente giocato parecchio insomma in questo suo procedere che diremmo ma è stato già detto procedere per antitesi ma senza dialettica cioè non c'è ricomposizione questo suo delegare a un editore critico la connessione di Spezzoni dice lui in uno stile piano oggettivo grigio poi però scrive a Moravia anche se non spedisce e dice quello che è stato già ricordato ma lo ripeto la lingua del libro è quella che si adopera per la saggistica per certi articoli giornalistici per le recensioni per le lettere private o anche per la poesia che è una cosa ben diversa allora da un punto di vista dell'aspetto linguistico basterebbe fare quello che vi risparmio l'ho fatto un po' ma insomma l'avevo anche già fatto se voi andate a vedere gli episodi più romaneschi allora Girole del Merda da una parte che è verso la fine ma soprattutto il pratone della casilina o l'incontro con Carmelo che peraltro Carmelo è siciliano però è ambientato a Roma voi ci trovate una specie di commemorazione della propria scrittura che viene fuori per spizzichi se credete io gli esempi li ho qua ma non credo che a quest'ora sia caso di usare cattiveria no no io per me li posso cedere qualcuno cito qualcuno beh uno la parola Montarozzi Montarozzi del pratone ebbene questi Montarozzi a volte sono stiti con gli apici cioè in citazione tre o quattro mucchi cito o apici Montarozzi di terriccio eccetera poi però diventano Montarozzi e basta o ancora il gancio della cerniera uno dei ragazzi sta sganciando la cerniera dei pantaloni da lui chiamata Sara Cinesca dopo un po' è Sara Cinesca tra virgolette basta senza più commento è una saccoccia la cinta roscio per dire rosso di capelli a volte insomma ci sono delle delle espressioni che non saprei come altro definire sono commemorazioni di ragazzi di vita di una vita commemorazioni di uno stile che lui non riesce più ad usare non può più usare ingenuamente può tutta il più citare allora è una sorta di come si può dire di cerimonia degli addi no? se poi si arriva all'episodio del merda gli addi sono palesi e iper commentati perché gli si dice che ormai i ragazzi non sono più neanche in grado di parlare emettono suoni inarticolati mugugnano non c'è più quella forza vitale che dieci quindici anni prima era stata attribuita da lui facendo una prolessi perché la definì ben presto una prolessi illusoria di quello che sperava che sarebbe diventato un italiano vivo ecco perché questo tutto sommato incompleta cosa che è Petroglio da una parte è senz'altro un romanzo sull'impossibilità del romanzo dall'altra parte non è un antiromanzo ma è uno pseudoromanzo non è finito e non è non è finibile i temi del brulichio del vortice eccetera e le annotazioni paesaggistiche ecco qui occorrerebbe avere un momento di tempo se lo avete vi dico qualcosa se non l'avete ne parliamo quando credete qui di nuovo siamo di fronte a una postura astratti è spesso antitetica una specie di sovrapposizione che ora è di epoche ora è di visuali mi son domandata recentemente ma non ho verificato che quando un medioevo aggalla i godoari i barbari nelle descrizioni della pianura padana non ci sarà di mezzo anche una lettura del libro di roberto vacca medioevo prossimo venturo ma non me l'ero mai domandato prima ingenuamente magari bisogna vedere ecco no io non sono andata a verificare allora ci sono da una parte degli elementi naturali la luce le stelle l'erba le nuvole mitiche vengono definite mitiche da lui da chi scrive che sono elementi lirici dall'altra parte il tema del deserto che c'è ovviamente nel viaggio di Carlo verso l'Oriente ma lì ce lo aspettiamo ma c'è anche nella sezione dedicata ai godoari i godoari è questa presunta tribù di barbari protagonista parziale della villa romana un racconto della Banti che lui aveva naturalmente recensito nel 71 e subito buttato lì anche semplicemente perché gli era piaciuto il nome forse il nome proprio ma comunque in questa sezione dedicata descrittivamente ai godoari viene fuori addirittura un termine friulano il magredo ma il magredo come dire terreno carsico in Carnia è un termine del toponimo diciamo un termine geografico cioè un terreno molle umido permeabile che non è adatto alle coltivazioni perché le marcisce e che è però del friuli gli viene in mente ma lo trasporta da un'altra parte e questo convive con la varia declinazione invece lì stesso di una sorta di desertificazione o di ritorno a una sorta di nuova un nuovo medioevo nuova preistoria quando leggiamo un titolo come cosmo che poi è il titolo dell'appunto 10 quater si descrive una notte nel canavese la luna le stelle i grilli il cosmo Carlo Carlo quello che non è vittima del petrolio conosce la felicità del contatto con il cosmo peccato che nell'appunto appena successivo il narratore liquidi la relazione di Carlo con il cosmo dicendo quello che vi cito dopo un po' aperta parentesi per quanto belle le relazioni col cosmo sono di breve durata sono poco utili fanno perdere altre cose il tempo il sonno eccetera cose così ragionevolmente necessarie c'è dell'ironia naturalmente in tutto ciò ma ecco questo aspetto di lancia il sasso ritiri la mano nell'episodio del pratone in quello dell'incontro di Carlo e Carmelo di nuovo esplodono descrizioni di pasta pittorica il che non ci stupisce per niente perché del manierismo pasoliniano ammiratore di Longhi della Banti eccetera insomma si è detto parecchio e io credo anche giustamente allora qui in extremis dico in extremis perché è l'ultima opera che conosciamo opera non finita tentativo di opera che conosciamo di Pasolini si recupera un apparato retorico direi fastoso però a un bel momento e qui ho segnato l'appunto 34 bis descrizione della primavera ambiente naturale medievale padano viene ricordato addirittura fra salimbene de Adam di Parma da Parma frate minorita del secolo tredicesimo che scrisse una cronica o cronaca e che Pasolini probabilmente l'esse perché nel 1966 ne erano uscite due edizioni buone insomma leggibilissime entrambe allora c'è questo raccursi e di nuovo questo riporta alla una fantasticheria su ancora un ambiente quasi forse ieri abitato da barbari se si pensa a ciò che avviene dopo questa folgorazione da brivido dell'attentato alla stazione di Torino in altri appunti c'è Bologna in altri ancora c'è Roma insomma mettiamo Torino che è quello più esplicito ecco che il Medioevo prossimo venturo diventa qualcosa che convive con la nostalgia del paesaggio cosa si vuol dire con questo beh si potrebbero dire tante cose per le quali ne sono preparata ne abbiamo tempo però non c'è alcun dubbio mi sembra che la concezione il trattamento ecco del paesaggio in in petrolio sia un trattamento davvero molto moderno ma c'è qualcuno Luisetti si chiama credo un collaboratore dell'altro convegno scusate oratore dell'altro convegno che ha scritto delle vagine gentilmente l'altro a Parigi sì che ho letto per la gentilezza di 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 Benedetti perciò di Luisetti e di Benedetti che me l'ha che me l'ha girato è ancora provvisorio ma è chiarissimo insomma da capire è intitolato se non cambia titolo petrolio e il geopotere bene con una bibliografia evidentemente postuma rispetto a Pasolini evidentemente recentissima però lui fa capire come il passaggio poniamo dall'economia politica alla ecologia politica intesa proprio come quella disciplina che studia lo scambio di risorse naturali ma anche industriali di territori di merci di popolazioni eccetera si domanda se per caso esista almeno un embrione di bioestetica di concezione bioestetica in petrolio io penso di sì e questo potrebbe essere potrà forse lo sarà anche in questi giorni un argomento tutt'altro che trascurabile di indagine su questa convivenza di verde deserto moderno arcaico mappizzazione petrolifera in questo caso e disastro ecologico non voglio neanche domandarmi che cosa è petrolio perché tutto ciò che mi è venuto in mente per un attimo poi il giorno dopo diciamo no certamente non è un journal però non è uno zibaldone perché nello zibaldone i vuoti sono inerenti ad una frattura temporale del oggettiva del discorso però qualcosa in comune c'è l'alternanza tra punti di tipo saggistico in cui si scorge come è stato detto giustamente la genealogia di un pensiero in progress si scorge anche una genealogia di saperi la tentazione del romanzesco il ritrarsi dal romanzesco quello che manca senz'altro è un'idea restaurativa dell'opera con la o maiuscola e anche la fizzio che aveva pensato Pasolini di un'edizione critica post ma è un espediente che può anche non convincere perché vediamo poi che ha fatto la divina Mimesis lì è lui che ha deciso di farla finire non perché lo hanno assassinato no allora come sarebbe andata a finire non lo sappiamo ma in fondo è come se se quest'uomo affollato da 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 studi di nuovo molto intensi ma da una impossibilità di avere un'ideologia che non che non facesse come dire a scontro all'interno di se stessa avesse provato un non genere non più una mistione di generi che pure in qualche modo i narratori entrono alla narrazione ma lì è il satiricon che funziona ma come se avesse provato questa sua torre di Chia che appunto dicevamo non era il castello di Montegna ecco ma è forse l'equivalente moderno di questa specie di luogo della mente di chiusura dove passava molte ore tentato se non altro cosa che hanno fatto in pochissime forse nessuno di profittare della grande crisi linguistica narratologica di impostazione e quant'altro vi volete per farla esplodere e vedere se era possibile forse costruire qualcos'altro grazie bene sostituisco Roberto Esposito e dico che dopo queste due bellissime relazioni si apre il dibattito e abbiamo ancora dieci minuti un quarto d'ora massimo ok allora inizio io non so se si sente ringraziando Giada e Antonietta Grignani per davvero queste due bellissime relazioni faccio domanda osservazione forse più osservazione a entrambe quello che ha detto Giada è molto suggestivo cioè anche il passaggio dalle fotocopie alla versione finale è sicuramente quello uno strumento per entrare nel laboratorio se ho ben capito quello che dicevi di Pasolini e e quindi penso anch'io che sarebbe molto interessante poter fare un'edizione critica e penso che tu abbia mostrato molto bene quanto ci sarebbe da ricavarne da questa edizione critica con Carla dicevamo che sarebbe bello che questo convegno fosse un po' l'inizio se non di un'edizione critica perché io e Carla siamo un po' scettici sull'ipotesi di poterla fare vorrei ricordare che Silvia De Laude che è qui presente che ha lavorato così in modo così straordinario su petrolio oggi non può più continuare a farlo perché le si impedisce di farlo bene quindi l'edizione critica purtroppo è un un limite che viene imposto dall'esterno un'edizione commentata invece forse qualcosa di pensavamo di praticabile e su questo insomma si potrà riflettere e invece volevo osservare una cosa Antonietta Grignani ha fatto una cosa davvero molto bella questo percorso nel 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 testo nel testo di petrolio con vabbè tutta la la cultura letteraria che lei ha e che emerge dal suo del suo intervento quello che mi ha colpito mano a mano che l'ascoltavo è il fatto che nei riferimenti che sia Auerbach che sia per arrivare persino all'ultimo che che hai fatto ti do del tu cioè quello petrolio tutte queste cose sono dette da Pasolini sono proprio dette cioè come se lui prendiamo ad esempio l'esempio di petrolio in descrizioni descrizioni c'è una recensione Alfredo Todisco Alfredo Todisco fa tutta questa questo libro adesso non ricordo il titolo ma che è un come altri lavori di Todisco insomma che anticipano il discorso ecologico e lo fa in una prospettiva un po' catastrofica naturalmente e Pasolini si sofferma su petrolio perché Todisco parla del petrolio e dice il petrolio in fondo è l'emblema della fine del mondo perché dice il petrolio finirà se finisce il petrolio finisce questa civiltà e quindi cioè mi colpisce quanto in fondo anche tutta la dimensione un po' narratologica il gioco naturalmente perché è vero che aveva probabilmente così le letture di semiologia eccetera eccetera avevano preso sopravvento durante gli anni 60 ma lo stesso Luciano in descrizioni e descrizioni c'è una recensione della traduzione di Luciano che è uscita proprio nel 75 e in quella in quella in quella recensione della traduzione di Luciano ci sono delle cose straordinarie per 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 petrolio no? quindi è giustissimo quello che hai detto cioè sul fatto che ogni grande scrittore quando scrive di altri scrittori scrive di sé in quel libro c'è proprio è una miniera per lo studio di petrolio cioè descrizione in descrizione però ecco quello che mi dico è che se noi riportiamo tutte le tue osservazioni a qualcosa di a cercare che è quello che tu non vuoi fare e lo capisco perché è una prospettiva giustamente in qualche modo filologica però se noi volessimo portarlo a a un'unità poetica cioè a un motore poetico in fondo lui lo dice cioè quello che noi troviamo nel romanzo è sempre qualcos'altro cioè c'è questa volontà proprio di passare dall'uno all'altro di passare dall'uno all'altro giocando però su degli elementi che sono degli elementi di attualità e di vita scottanti anche in quel momento e quindi in qualche modo spostare la Divina Mimesis parla di processo formale vivente e nella Divina Mimesis questo processo formale vivente deve tenere assieme il passato e il presente quando tu citi i ragazzi di vita tra apici eccetera tenere assieme il passato e il presente e questa è la vita cioè nel senso della memoria del vissuto e i pensieri che in qualche modo crescono sulla memoria eccetera eccetera questo processo formale vivente secondo me è un po' la cifra unitaria di quello che hai descritto eccola dunque allora sul tema dell'aspetto incipitario continuo aveva scritto una cosa molto bella Stefano Agosti che parlava appunto in quegli atti già in quegli atti poi in un librino che molti di voi hanno presente di continua in coatività e lì ha proprio ragione è così è così quanto al processo vivente io ho dei forti dubbi ma fortissimi e cioè il progetto della divina Mimesis non per nulla risale gli anni in cui Pasolini è ancora fiducioso sta per non esserlo più dopo qualche anno ma tra 63 e 64 poi ci sono le nuove questioni linguistiche e diciamo la fine appunto di una certa prolessi come la definiva lui lì il processo vivente poteva raccordare passato presente in modo narcistico positivo la mia impressione è che in Petroglio tutto questo salti fuori per Poussé ma nel complesso c'è un'enorme malinconia c'è un enorme senso di vuoto che meno o meglio c'è nella divina Mimesis ma quando è stata licenziata già negli anni 70 nel progetto originario invece c'era ancora il tentativo di fare i due inferni uno dantesco l'altro nell'italiano nascente eccetera però quando lui chiude e chiude bruscamente volutamente perché è ancora vivo e chiude lui lì non noi ha chiuso lui chiude perché non perché sente che non che non ce la fa più o meglio forse sente che non è più possibile e siamo non a caso nei pienissimi anni 70 cioè poco prima della scomparsa quando chiude non so se mi sono spiegato 60 si chiamava la mortaggia c'era la mortaggia e quindi lì c'era proprio la volontà di fare qualcosa che fosse come dici tu linguisticamente anche di altro tipo però è vero che io trovo molto interessante che lui la chiude la divina Mimesis così perché chiude la divina Mimesis in fondo come se fosse petrolio e quindi cioè sulla il divina Mimesis diventa quasi un indizio di come del fatto che in fondo petrolio forse non è così incompiuto da un certo punto di vista ma allora dobbiamo intenderci cos'è il compiuto cos'è l'incompiuto allora c'è l'incompiuto per volontà dell'autore c'è l'incompiuto per assassino dell'autore che è questo vabbè d'accordo sì però voglio dire il fatto che la divina Mimesis certo era lui stesso che a un certo punto chiude e questo ci spiega tante cose della probabile forse comunque chiusura o non chiusura diciamo interruzione che forse però lì si va a ipotizzare e se non l'avessero assassinato ora con i sé non si va da nessuna parte ecco beh no no io sono perfettamente d'accordo sai cosa mi è venuto in me vi sapete cosa mi è venuto in mente questo che eredi permettendo ma forse forse è possibile quello che si potrebbe fare è quello che fanno molto all'ITEM di Parigi ah sì sì si può fare una chiamiamola edizione genetica fino a un certo punto diciamo paragenetica con accosto ma la devi fare non cartacea evidentemente ad esempio tutti gli spezzoni di lettere introduzioni descrizioni di descrizioni quello potrebbe essere una sorta di per test sì 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 quello credo che non lo possa vietare nessuno lo do penso però non sono sicuro sulla storia il medioevo suggestive le osservazioni che hai fatto legando diciamo il verde alla rievocazione della campagna friulana il deserto a quella diciamo al deserto contemporaneo così e parlavi di questo Roberto vacca medioevo io è un libro che ho letto talmente è uscito nel 71 talmente tanti anni fa che non me lo ricordo più però io devo dire che in Pasolini quest'idea è già presente insomma nel senso che diciamo quello che a lui interessa o perlomeno quello che mi sembra che si espanda sempre di più in Pasolini già dai primi anni 60 è la visione della storia che è completamente fuori dalla dimensione diciamo storicista hegeliana marxiana e cioè una storia che abbraccia dentro di sé i millenni la storia naturale e questo lo si vede già anche in opere precedenti anche nel film La rabbia per esempio c'è il mondo antico il mondo moderno Marilyn nel mezzo il terribile mondo antico il feroce mondo moderno e anche lì insomma abbiamo appunto il deserto l'Orestiade insomma è un tema comunque pasoliniano però è molto molto interessante insomma ritrovarlo anche in petrolio e mi sembra ottimo questo contributo io sono anche curiosa diciamo l'ipotesi di Giada è molto ardita in un certo senso di sapere se anche da altri perché io non so ci ho riflettuto mi sembra plausibile comunque molto ardita l'idea che appunto Pasolini volesse non semplicemente esporre lì un progetto di vabbè adesso faccio un'edizione critica come del resto aveva già fatto per la Divina Mimesi o ipotizzato per la Divina Mimesis e poi magari e poi lo perde per strada no forse diciamo mentre accresce il dattilo scritto non butta via tutto quello che gli è servito da avantesto perché per lui non esistono avantesti o perlomeno gran parte di questi avantesti diventano testo insomma ecco questo mi sembra molto molto suggestivo e da da approfondire quindi non è neanche una domanda una proposta sì sì è una cosa diciamo per un'edizione ulteriore di Petroio sarebbe come hai detto poi anche tu fare una cosa di tipo genetico laddove non nostri l'unica preoccupazione è laddove si oppongono diritti di erediche che eventualmente non fossero d'accordo allora lì o vogliono o non vogliono o lasciano o non lasciano la liberatoria ma dove si sia di fronte a testi veramente sono passati anche lì però bisogna ribassare le normative esistenti perché dove sei di fronte a dei testi editi e in larga parte lo sono da una parte o dall'altra lo sarebbero perché i pistolari sono usciti volponi non volponi eccetera descrizione descrizione uscita i meridiani ci sono tutti lì probabilmente mettere in piedi una piccola equip di gente volonterosa che faccia una sorta di sì per testo perché non è nemmeno un'edizione genetica non è nemmeno un'edizione genetica perché non è possibile chiamiamola genetica tanto per intenderci non può essere un'edizione critica nel senso tradizionale del termine quello non può ma forse è una fortuna che non si possa forse sì stiamo parlando proprio adesso un'edizione critica è vero che in questo caso non è forse però questa questa è una bella idea quella dell'edizione ipertestuale in qualche modo di petrolio in fondo adesso abbiamo anche gli strumenti per farlo anche proprio nell'equip di Parigi è assolutamente possibile ben tornati alla continuazione dei lavori a questa seconda sessione del convegno su petrolio abbiamo tre relazioni invece che quattro perché Davide Luglio ha parlato al mattino quindi cambiamo un po' l'organizzazione degli interventi e questa volta prenderemo le domande alla fine di ogni intervento anche le mie presentazioni dei relatori saranno brevissime giusto per dare un'idea sommaria di tutto quello che hanno fatto il primo relatore è Giovanni Bottiroli che è professore ordinario di teoria della letteratura e docente di teoria dell'interpretazione all'Università di Bergamo tra le sue numerosissime pubblicazioni ricordo solamente teoria dello stile del 1997 che cos'è la teoria della letteratura fondamenti e problemi del 2006 e la regione flessibile modi d'essere e stili di pensiero del 2013 il suo intervento di oggi che magari riprenderà alcuni dei temi che abbiamo discusso questa mattina si intitola La mancanza della mancanza i paradossi della forma e del contenuto in petrolio adesso sì bene grazie intanto un ringraziamento particolare a Carla Benedetti che mi ha invitato a questo convegno pur sapendo che non sono uno specialista di Pasolini io ho accettato volentieri questo invito anche come un'occasione per dedicare un po' di tempo a un autore di cui non disconosco certo l'importanza ma che conosco troppo poco che in qualche modo ho rimediato parzialmente a queste lacune e anche come possibilità di mettere alla prova alcuni miei strumenti io adesso passerò a leggere la mia relazione che dovrebbe stare nei limiti che ci hanno stati chiesti inizialmente i 20-25 minuti e mi riservo poi di integrare alcune nozioni soprattutto quelle relative alla teoria dell'identità nel dibattito successivo bene allora il punto di partenza di questa mia riflessione lettura di Petrolio è il problema del soggetto e quindi il problema dell'identità prendo spunto da un passo che si trova nella punto 42 in cui si dice questo poema non è un poema sulla dissociazione e contrariamente all'apparenza al contrario questo poema è il poema dell'ossessione dell'identità e insieme dalla sua frantumazione queste righe le trovo oscure oscure perché sono convinto che non si possa mai parlare dell'identità in generale ma sempre soltanto dei modi di identità anzitutto della coincidenza della non coincidenza con se stessi e poi dei modi di coincidenza dei modi di non coincidenza quindi ho trovato molte difficoltà a sintonizzarmi con questo passo con la sua terminologia nello stesso tempo mi è sembrato di non poterlo ignorare per ragioni evidenti allora proverò a chiarire ad accennare perché ci fa veramente del tempo la mia impostazione per tornare il più rapidamente possibile al testo di Pasolini quindi vorrei enunciare enunciare anzitutto due tesi che l'identità è sempre una relazione anche quando si dà come coincidenza con se stessi e quindi come non relazione in quanto si presuppone che l'identità sia definibile in modo autonomo seconda tesi il modo di identità che chiamo coincidenza con se stessi si viene pensato come originario e un'illusione che peraltro viene a tutt'oggi riproposta continuamente ad esempio dalla filosofia analitica e anche da molta psicologia e sociologia ma a ben vedere e certamente nella prospettiva degli autori che prediligo cioè Heidegger Freud o Lacan l'identità è sempre il risultato di un processo di identificazione con almeno un modello non so se non è stato chiaro ciò che si presenta come coincidenza con sé è in realtà una coincidenza rigida con alter allora il rapporto con un'alterità che modellizza il soggetto è fortemente diffuso in petrolio e persino il termine modello viene usato con notevole frequenza nell'appunto 59 passaggio di tempo si descrive il tramonto delle culture popolari la periferia di Roma o le terre povere del meridione che cito non producevano più modelli umani propri nati dalle loro vecchie culture modelli umani da opporre a quelli offerti dal centro come forme di resistenza di libertà anche se vecchie e povere il modello ormai era unico era quello che il centro attraverso la stampa e la televisione mollemente imponeva e poiché era un modello piccolo borghese l'immensa quantità di giovani poveri che cercavano di adeguarvi essi ne erano frustrati qui Pasolini sta utilizzando quel concetto relazionale di identità che gli autori prima citati hanno saputo elaborare nel corso del ventesimo secolo ma utilizza in maniera molto schematica e riduttiva egli stesso fra l'altro non può ignorare un'obiezione che inunce discute nella risposta a Calvino dell'8 luglio 1974 come negare che anche nelle culture popolari l'identità è sempre un processo di alienazione cioè un'introiezione di modelli se c'è un motivo di rimpiangerlo allora perché restando all'appunto 59 da alcuni articoli di giornale quei modelli erano molteplici mentre il neocapitalismo impone un modello unico questa però non mi sembra l'unica concezione di Pasolini è probabilmente la posizione che più frequentemente gli viene attribuita e che in petrolio viene problematizzata più avanti infatti la medesima tematica si ripropone nella visione del merda un giovane ripugnante come sapete che attraverso i gironi e le bolge di quel grottesco inferno in cui si è trasformata la periferia romana di oggi i peccati che si incontrano in questo nuovo inferno sono modi d'essere l'espressione modo d'essere utilizzata da Pasolini nell'appunto 71c come bruttezza volgarità conformismo vorrei ricordare che modo d'essere vice design è un'espressione eminente del linguaggio edeggeriano e dal mio punto di vista degna del più grande interesse allora ogni girone come sapete rappresenta una categoria o un elemento di norma nei singoli individui tali elementi si presentano mescolati ma ciò non esclude la possibilità che qualcuno esemplifichi l'elemento mostrandola quasi allo stato puro dalla coincidenza tra categorie e individuo risulta un modello questo è il termine scelto da Pasolini ad esempio nell'appunto 71e è usato continuamente e la funzione del modello è suscitare imitazioni o meglio ancora identificazioni approssimandosi al modello l'individuo giunge a una piena soddisfazione cito egli si è compiutamente adempiuto è in pace con la società a cui esibisce la sua approssimazione al modello appunto sociale che egli considera per sé che è perfetto allora ancora una volta queste pagine confermano una concezione relazionale dell'identità cioè che l'identità venga definita non in rapporto a se stesso ma in rapporto ad un'altra identità il soggetto che possiamo chiamare idem si determina in rapporto ad alter viene aspirato dall'alterità dunque smette di coincidere con se stesso solo in quanto va a coincidere almeno in parte con alter ma il discorso è diventato più complesso a questo punto sono necessarie alcune precisazioni anzitutto il rapporto con un modello non è necessariamente di allenazione non lo è per esempio quando ha carattere agonistico la lotta contro i padri e Petrolio accenna questo nell'appunto 59 tuttavia Pasolini almeno in Petrolio rinuncia ad approfondire questa via e a costruire un personaggio complesso che sia il protagonista della vicenda e che somiglia agli eroi del desiderio immetico come li ha descritti per esempio Girard da Cervantes a Stendhal da Dostoyevsky a Paust potremmo interrogarci in seguito su questa lontananza Pasolini cerca di spezzare il Principium Individuationis in Petrolio con un differente schema identitario prego di mandare lo schema c'è qualcuno che si ok vi propongo una visualizzazione grafica di questo modo di alterità scusate le scritte sono in inglese che sono tratte da un articolo in inglese allora questa struttura identitaria grazie presenta una linea mediana una condizione media proprio nel senso della medietà idegriana del principio individuazionis e due estremi un estremo superiore e un estremo inferiore un vertice superiore e un vertice superiore le frecce indicano una reciprocità di tensione allora questo è la struttura identitaria di Edipo nell'Edipo era di Sofocle ed è anche la struttura identitaria di Carlo in Petrolio però questo magari lo spieghiamo dopo altrimenti si perde forse un po' il filo del discorso allora il secondo punto seconda precisazione la specificità neocapitalista di modellizzazione dei soggetti tramite l'alterità non consiste tanto in un assoggettamento da parte del centro quanto piuttosto nella capacità di offrire una molteplicità di modelli e nel loro continuo ricambio il molteplice è la nozione che meglio definisce il neocapitalismo nel suo dinamismo costitutivo la società contemporanea non è tanto una società liquida secondo la metafora equivoca di Bauman ma è una società in cui trionfa la combinazione del solido e dell'effimero è la società che propone identità solide e brevi Pasolini sembra aver compreso che la proliferazione dei modelli la loro opzionalità il ricambio veloce è la vera risorsa del neocapitalismo ciò non esclude un certo conformismo generalizzato che però non va pensato tanto come il dominio dell'uno o del centro ciò che conta sono le somiglianze di famiglia tra i modelli e non il presunto modello unico resta da chiarire il motivo di quella che appare comunque una forma di nostalgia perché dovremmo rimpiangere seppure moderatamente a società che offrivano un minor numero di opzioni rigide di identità forse la risposta è reperibile in un articolo del 10 giugno il mio 73 dedicato a un po' di febbre di Sandro Penna qui Pasolini dice che l'Italia durante il fascismo nel periodo successivo aveva un pregio cito le apparenze parevano dotate del dono dell'eternità si poteva appassionatamente credere nella rivolta nella rivoluzione che tanto quella meravigliosa cosa che era la forma della vita non sarebbe cambiata come intendere questo passo la forma della vita è qualcosa che per essere elaborata ma anche solo assaporata richiede tempo e nel corso del tempo c'è la possibilità di una rielaborazione personale probabilmente questo il difetto del ricambio veloce tra i modelli della società contemporanea l'assimilazione frettolosa ingorda e al tempo stesso insipida manca il tempo per una presa di distanza nella società della modellizzazione permanente da parte di alter viene meno quel manc d'etra o quel manc a etra che per Sart e Lacan è costitutivo della condizione umana manca la mancanza siamo in una situazione paradossale i soggetti vengono saturati permanentemente da modelli il cui ricambio è incessante la saturazione è molteplice dinamica non dobbiamo dimenticarlo per non ricadere nell'ingenuità di chi crede di dover ancora combattere contro l'uno in un'accezione anzitutto numerica o spazialmente circoscrivibile nel senso che l'erogazione sarebbe l'assalto a palazzo d'inverno per capirci e per evitare l'ingenuità o meno sembra tale di chi continua a oscillare tra l'uno e il molteplice la pulisemia dell'identità e dei processi sociali di costruzione dell'identità esigono teorie più raffinate va sottolineata va sottolineata ancora la percezione mancata di questo processo d'altronde già Kierkegaard diceva se perdo cento talleri o la fidanzata me ne accorgo se perdo me stesso posso benissimo non accorgermene se questa diagnosi è corretta e può venire attribuita correttamente a Pasolini qual è la via per contrastare un processo che appare inesorabile c'è un punto che vorrei sottolineare il consumismo che viene enormemente criticato riguarda gli oggetti il ricambio veloce degli oggetti ma per esempio nella visione del merda l'accento cade sul ricambio veloce dell'identità sul consumo come usa e getta di identità effimere ma non per questo meno rigidi questo è il consumismo più difficile da contrastare è ancora possibile ritrovare la mancanza il mancaetra come incompiutezza che diventa stimola la creatività dove attingere risorse per un'alterità che non sia quella degli stereotipi sociali nella loro mobilità nel popolo nel proletariato nel sottoproletariato per la concezione romantica o per la teoria marxista era in questa direzione che si poteva cercare una riserva di alterità un serbatoio a cui attingere e per Pasolini egli sembra non rinunciare almeno non del tutto a questa via una conferma viene dalle esperienze sessuali descritte nel romanzo quella chiamiamola orgiastica nel pratone della casellina e quella con Carmelo esperienze in cui si manifesta un atteggiamento o meglio un impulso di passività che non sono sicuro si possa definire masochistico ritengo che questi episodi siano meglio descrivibili come esperienze ossimoriche in cui il legame fra gli opposti emerge chiaramente e l'ossimoro come ha sottolineato per esempio Roberto Esposito è probabilmente la figura originaria della poesia e della vita di Pasolini espressioni come prepotente delicatezza e meraviglioso martirio sono forse gli indizi più evidenti della ricerca di una pienezza nella cui possibilità il protagonista di Petrolio continua a credere e certamente vi ha creduto Pasolini rovesciando un celebre annunciato di Lacan potremmo dire che il sottoproletariato ha rappresentato per Pasolini la possibilità del rapporto sessuale una possibilità forse svanita ma anche in questo caso la tesi lacaniana di inesistenza avrebbe un significato storico e non sarebbe universalizzabile senza dubbio la nozione di rapporto andrebbe discusso ulteriormente non solo per quanto riguarda l'interpretazione dell'aforismo di Lacan ma perché c'è una pagina di Petrolio che sembra invece confermare quell'aforismo almeno nel senso della negazione di una presunta simmetria o complementarità tra i sessi si dice a proposito del coito che cito l'essere posseduto è un'esperienza cosmicamente opposta a quella del possedere tra le due cose non c'è rapporto non sono semplicemente il contrario l'una dell'altra chi possiede non comunica se non illusoriamente con chi è posseduto perché chi è posseduto fa un'esperienza imparagonabile con la sua è di tutt'altra specie ne è ripeto cosmicamente lontana d'altra parte neanche chi è posseduto comunica con chi lo possiede perché quest'ultimo non gli si presenta come un'entità limitata un individuo e non si può comunicare con il tutto perché il tutto appunto che possiede attraverso il pene è la sua violenza chi è posseduto perde la coscienza della forma del pene della sua compiutezza limitata e lo sente come un mezzo infinito in forme attraverso cui qualcosa o qualcuno si impadronisce di lui lo riduce a possesso a un nulla che non ha altra volontà che quella di perdersi in quella diversa volontà che lo annulla potremo poi tornare su questa pagina adesso vorrei richiamare la vostra attenzione su un altro passo che non riguarda la relazione con un partner bensì come dice Pasolini la complicità con il proprio sesso allora in questo passo dell'appunto 64 bis si dice per merito di Carlo Carlo aveva acquisito una profonda disinteressata incolpevole complicità con il proprio sesso era in continuo contatto con esso lo seguiva sempre come un filo che attraverso la vita lo conduceva forse in una dimensione che la vita non contemplava eccetera era la gratuità la libertà ottenuta con la violenza senza né consensi né tolleranza la garanzia di un segreto protettore di un altrove interiorizzato eccetera perciò il proprio cazzo Carlo se lo sentiva sempre era un valore sempre fisicamente presente attivo siamo sulla soglia di un secondo evento non meno rilevante della scissione tra Carlo e Carlo potremmo denominare taglio maschile la prima scissione e taglio femminile la trasformazione di Carlo in donna e le ragioni del taglio sono forse indicate in questo avverbio altrove la sessualità come un altrove che si è estinto almeno come rapporto possibile con una carne intatta odorosa e che potremmo continuare a definire recuperando aggettivi nostalgici che incontriamo negli appunti 55 e così via questa sessualità un tempo accessibile anche un individuo indiviso ora esige una nuova forma di soggettività delineata dal taglio maschile da quello femminile soltanto un soggetto che trova in se stesso la propria alterità riuscirà a sperimentare momenti di pienezza che sembravano perduti la sessualità è statica è possibile solamente a un soggetto tagliato non c'è alterità se non il rapporto a se stessi questa potrebbe essere la tese che ispira Petraoglio e la sua ricerca di oltrapassamento questa affermazione non va a fare intesa come se già detto il rapporto con sé è sempre intrecciato il rapporto con gli altri o meglio con i modi dell'alterità tuttavia Petraoglio appare l'opera di un autore disilluso anche se non rassegnato un autore che non può rivolgersi a un mondo popolare o proletario sia perché quel mondo non esiste più a causa dell'omologazione sia perché gli deve riconoscere che se c'è stata corruzione è perché non c'erano forze abbastanza sane qui ci direi quel passo molto noto dalla biura della trilogia della vita in cui si dice oggi la degenerazione dei corpi e dei sessi ha assunto valore retroattivo cioè se queste persone sono state erano se sono ora immondizia umana vuol dire che anche allora erano potenzialmente immondizia umana allora che l'alterità vada cercata in se stessi è una tesi che acquista ulteriore significato se la si intende come fiducia verso ogni forma di alterità collettiva di un ceto di un gruppo insomma quella collettiva non sarebbe mai una vera alterità nella misura in cui comporta la modellizzazione della parte del gruppo conclusione scettica ironica forse sì anche se si esita a considerare definitiva la posizione irridente che si manifesta nell'appunto 84 dove l'idea della speranza nel futuro diventa un'idea irresistibilmente comica sarei propenso ad attribuire un più alto grado di definitività alla forma artistica di Petraoglio così come la conosciamo sia pure nella sua incompiutezza a caratterizzare questo romanzo è un terzo taglio che potremmo chiamare il taglio allegorico che cos'è l'allegoria non so se esiste una definizione universalmente condivisa ma credo si possa affermare che l'allegoria esprime un atteggiamento antimimetico una insoddisfazione una ribellione al primato della realtà effettuale un desiderio di alterità una vocazione all'oltre che corrispondono allo spirito del romanzo di Pasolini perciò l'allegoria può venire considerata una scelta tutt'altra che arbitrari in un'opera il cui problema principale se si accetta la mia prospettiva è la mancanza della mancanza il titolo di questa relazione è nato dalla punto 65 dove si descrive il quartiere dove abitava Carlo come una totalità come un qualcosa il cui senso è tutto è tutto definito e consiste sostanzialmente nella mancanza di margini e di spazi per qualcos'altro questo qualcos'altro potrebbe essere la lotta di classe o un'inquietudine autolesionistica dell'entropia classistica oppure il misticismo religioso oppure ancora la letteratura o l'amore per la cultura invece niente di tutto questo niente la sola idea di questa realtà mi toglie il respiro la realtà effettuale la wirklischkeit come causa di soffocazione si noti che l'effettualità non è semplicemente la materialità perché anche l'immaterialità può soffocare se esprime i tratti della pienezza compatta e indivisa ciò che qui viene dichiarato intollerabile è che in questo come in altri quartieri cito si consumano intere esistenze infinitamente piene di realtà l'allegoria è dunque il taglio che dischiude che cosa la stupida soffocante realtà ma anche il linguaggio proteso con una vocazione unilaterale verso referente non che in petrolio ma anche la realtà sarebbe meglio disegnarla con un'espressione bactiniana come la scottante contemporaneità ma l'ambizione del libro ancora una volta di congiungere gli opposti i linguaggi dell'adesso e dell'altrove vi ringrazio grazie Giovanni Vottiroli per un intervento che cerca di ripensare veramente al problema dell'identità con delle categorie nuove non so se ci sono domande possiamo cominciare subito la discussione se no magari prendo io uno spunto ti posso chiedere se è possibile pensare all'idea di modo d'essere in relazione alla forma di vita di cui abbiamo sentito parlare oggi e quindi anche a un rapporto che petrolio mi sembra abbracci e spinga tra soggettività e estetica assolutamente anzi in prima istanza le due espressioni modo d'essere forma di vita possono tendendomi a sovrapporsi direi che vabbè mi concedete ancora cinque minuti per integrare e riprendere un po' le cose che ho detto quindi quello che è interessante è la chiarificazione logico-ontologica del problema allora torno un po' su questo anche per chiarire quello schema che vi ho mostrato che secondo me mostra può rendere visibile la struttura identitaria di Carlo allora vi dicevo l'identità continua a essere pensata come la relazione che un ente ha soltanto con se stesso quindi in realtà come un modo dell'identità cioè il passaggio dall'identità ai modi dell'identità è una mossa decisiva questa mossa in filosofia è stata compiuta da Heidegger e nelle scienze umane da Freud il fatto che voi oggi possiate aprire un trattato di manuale di logica o un libro di filosofia analitica e non trovare questa mossa è assolutamente normale cioè per una serie di pensatori l'identità non è un concetto modale allora io mi colloco in una prospettiva che è anzitutto quella di essere tempo quella per cui l'esserci il Dasein non è definito da proprietà dalle eigenschaften l'uomo non è un ente proprietario ma è definito da modi d'essere in particolare dalla possibilità tra l'altro che je est un autre che l'io sia sempre un altro Heidegger lo dice magnificamente nei paragrafi 25 e 27 di essere tempo dove si trova per esempio questa affermazione innanzitutto io non sono io ma sono gli altri nella maniera del sì il sì è il Dasein la medietà anonima quindi innanzitutto io non sono io su questo Heidegger e Lacan sono assolutamente d'accordo così come altri pensatori della filosofia continentale quindi in totale alternativa alla filosofia analitica ma anche a molta psicologia al cognitivismo eccetera eccetera il secondo riferimento fondamentale di questa mia riflessione è il saggio di Freud del 1921 psicologia delle masse analisi dell'io dove Freud per la prima volta in maniera sistematica definisce l'identità attraverso i processi di identificazione quindi non esiste essendo noi esseri pulsionali ed essendo le pulsioni forze plastiche che non esiste un nucleo invariante a cui noi potremmo tornare in un mitico desiderio di autenticità non c'è nessuna zavorra iniziale di cui avere nostalgia l'identità si costruisce processualmente la teoria lacaniana dei registri che mi limito evidentemente a menzionare va in questa direzione e se volete ancora uno spunto in Bakhtin ricorderete che nel grande libro su Dostoevsky vengono distinti due modi di identità i personaggi di Racine che esistono che coincidono con se stessi e i personaggi di Dostoevsky che non coincidono mai con se stessi ora lasciamo perdere il fatto che qui Bakhtin sia ingiusto verso Racine ecco quelle che in Bakhtin sono poche righe sono un po' il centro del progetto di ricerca che io porto avanti da anni e a cui ho accennato oggi bene allora questo questo mettere l'accento sull'identità come relazione con un'altra identità e quindi come modellizzazione del soggetto da parte di un modello è al centro anche dell'importante libro di René Girard menzogna romantica e verità romanzesca quindi sapete Don Quixote è modellizzato da Amadigi di Gaula Emma Bovary dalle rovini dei libri letti in collegio ma anche Julian Sorel da Napoleone e così via in maniera che può essere o confusiva o meno quindi anche qui si apre un'altra distinzione beh ad un certo punto nell'ambito della mia ricerca mi sono accorto che c'è una struttura identitaria fondamentale nella letteratura che non rientra in questo modello ed è esattamente quella se possiamo rivedere l'immagine possiamo rivedere lo schema? Sì ok che ho cercato di visualizzare in questo schema riflettendo sull'Ediporè e su un importante saggio che credo molti di voi conoscono di Jean-Pierre Vernin su Ambiquità e Paradosso nell'Ediporè l'eroe tragico secondo Vernin sarebbe composto da diciamo due metà un ezos e un daimon una parte più razionale psicologica e una parte demonica allora questo schema a mio avviso non funzionava per il personaggio di Edipo perché perché l'ezos di Edipo in realtà è un ezos estremo non è quello del cittadino nella polis cioè Edipo è ugualmente distante da una condizione media perché è un eroe dell'intelligenza al vertice superiore ed è la macchia incestuosa e criminale che ha tirato su Tebe la peste la personalità di Edipo è priva di essenza nella misura della congiunzione fra due estremi come indicato da queste frecce allora perché nella tragedia è molto più difficile trovare indicati chiaramente i processi di identificazione non dico mai perché per esempio nell'Antigone a mio avviso è evidente che l'Antigone è modellizzata dalla madre Giocasta ma il problema è del ritmo temporale cioè c'è bisogno del tempo del romanzo per esplicitare i processi di costruzione dell'identità laddove il precipitare del tempo verso un punto catastrofico nella tragedia non è favorevole a questo ma questo può succedere questa situazione quindi l'eroe tragico come personaggio inassimilabile a livello medio della polis definito dalla conduzione fra un vertice superiore un vertice inferiore stamattina veniva evocato la figura di Socrate che è un personaggio che più volte nei dialoghi di Platone viene definito come Atopos cioè non ha un posto nella polis è un personaggio inassimilabile definito dalla congenzione tra un'intelligenza superiore e la sua versione satiresca vogliamo allora in Carlo vogliamo provare a leggere assieme il passo dalla punto 3 poi mi direte se corrisponde o meno a questo modello allora sapete Carlo vede se stesso piombare in avanti poi arriva queste due figure allegoriche Tetis infila la punta nel ventre del corpo di Carlo e vi fa un lungo taglio vedete che il termine taglio che io ho ripreso la mia relazione anche dei riscontri lessicali molto evidenti poi cosa succede che come tutti sapete meglio di me esce un feto che diventa un corpo maturo il corpo morto si rialza e vi leggo il passo colui che il Carlo di Tetis e il Carlo di Polis sono identici e infatti si identificano fanno un breve passo uno verso l'altro come per scrutarsi meglio e Carlo li vede di profilo quindi naturalmente parliamo di un soggetto che numericamente è uno che però collocato sulla linea media vede gli altri due se stessi che si fronteggiano in una tensione anche agonistica li vede immobili di profilo come Cristo e Giuda nel quadro di Giotto così vicini che loro è il gesto che fanno due persone quando stanno per darsi un bacio e intanto si fissano così attentamente che i loro occhi paiono impietriti un sentimento oscuro nel fondo di quello sguardo che li unisce strettamente come legandoli in un'unica tensione che li spinge l'uno verso l'altro e quindi la ragione delle due frecce in questo schema mi sembra perfettamente giustificata vi faccio solo notare che diversamente da espressione che ho incontrato nella saggistica su Pasolini che naturalmente ho consultato solo perzialmente dal mio punto di vista non si dovrebbe dire Carlo è il suo doppio ma Carlo è i suoi doppi perché lui ha due doppi rispetto alla medietà da cui nasce questa lacerazione bene adesso non credo di aver esposto abbastanza insomma la tua domanda quindi il modo d'essere il modo d'essere in base a questo schema può venire pensato come una scissione una scissione però non separativa mi spiace che non sia più presente Roberto Esposito perché stamattina dicevo qualcosa del genere cioè le separazioni non sono necessariamente frontiere rigide che abbiamo una divisione tra opposti che però si presuppongono reciprocamente pensi più all'ossimoro che all'autolesionismo che invece è più una figura che io prediligo rispetto all'autolesionismo o al masochismo che pure citavi e mi sembra che invece tu vada più nella direzione del punto dell'ossimoro che è l'altra cifra però io no prego io ho letto le pagine in Amor che move tu usi il termine del masochismo in modo sobrio e direi in qualche misura condivisibile infatti visto che mi sono espresso con cautela ho detto non sono sicuro se si possa usare con questa sobrietà sì perché ci sono alcuni tratti nel modo esasperato di citati secondo un passo che ho letto stamattina no no perché il pratone è della casilina l'esperienza del pratone è della casilina non è affatto un'esperienza pornografica scusate ma per quello che so della pornografia e delle orge il linguaggio la descrizione l'esperienza orgiastica sarebbe caratterizzata da una ridondanza ossessiva degli organi sessuali e dalla ripetitività di alcune azioni quindi sarebbe un'esperienza essenzialmente anonima allora nell'episodio del pratone della casilina c'è una continua differenziazione degli attori cioè abbiamo un'orgia a cui partecipano i cui protagonisti sono differenziati e con precisi e questo ricorso dell'individuazione personale è appunto in opposizione alle spinte anonime che ritornano naturalmente in maniera ossessiva per questo io vedrei una costruzione più ossimorica che non tesa unilateralmente verso l'umiliazione anche se non è dicendo un po' questo e ti ringrazio perché appunto per me forse una maniera più corretta di porre quello che a volte chiamo come masochismo è veramente un po' un piacere paradossale però io volevo un attimo ritornare magari all'idea della forma del romanzo e questa mancanza della mancanza che in qualche modo viene anche messa in scena dalla questa nostalgia e in qualche modo questo rifiuto di un modello girardiano di questa forma di conversione e di narrazione che si conclude di una temporalità che arriva a una fine e rivisita tutto ecco è anche resistita dalla questa espansione di una temporalità che non inizia e non finisce e mi sembrava che l'idea di una mancanza della mancanza anche rispetto a tutte le discussioni che abbiamo visto oggi sulla forma stessa del romanzo voluta anche se incompiuta potrebbe essere anche da pensare nei termini di una forma di vita sì sì ecco io non ho tanto pensato a questo diciamo che il movimento in espansione continua è anche questo una ricerca dell'alterità forse io alla fine ho un po' insistito sulla sulla dimensione allegorica che mi sembra sia stata un po' trascurata però Antonietta Grignani stamattina citava Auerbach sapete che l'allegoria in factis ha a che fare con l'identità scissa perché ci sono i due tempi la figura e l'adempimento quindi c'è un taglio anche qui un'incisione dell'identità ecco credo che la scelta dell'allegoria vada considerata con attenzione perché è un modo di rovesciare di ribellarsi all'ipermimetismo e anche a quella scottante contemporaneità che è quella di Eugenio Cefis eccetera su cui è stato messo l'accento ma se ci fosse solo questo se mancasse la tensione fra gli opposti il romanzo sarebbe un'altra cosa ecco grazie Davide Luglio si sente grazie grazie per l'intervento che effettivamente c'entra una questione importante che è quella di questa figura di Carlo che tra l'altro mi è venuto in mente Antoinette diceva che Fortini ha detto che Pasolini non aveva letto i Francofortesi e Pasolini dice invece di aver letto i Francofortesi molto prima di tutti gli altri grazie a Fortini e in Marcuse ad esempio che è una delle letture che sicuramente Pasolini ha fatto c'è naturalmente tutto un discorso sulla pulsionalità che deve in qualche modo effettivamente diventare fonte di rinnovamento di cambiamento eccetera e questa è una dimensione che forse rientra anche in questa scissione tra un Carlo razionale un Carlo pulsionale eccetera ma al di là di questo la questione dell'identità come diciamo così in qualche modo assegnazione o comunque autoassegnazione nel rapporto con l'altro eccetera effettivamente è tematizzata abbastanza da Pasolini attorno proprio alla nozione di modello cioè per lui il problema è il modello e il fatto che lui dice prima di questo di questa società uno viveva una vita che era in sé un modello cioè la vita che appunto lui esalta come una vita che non ha da conformarsi a qualcosa e che invece è quella che descrivevi tu poi quando appunto questa successione di mode e di modalità di essere alle quali appunto tra le visioni del merda sono tutta una serie di modalità in fondo e di modelli però questo ripenso ad esempio ad alcuni testi di Foucault dove si ritrova questa idea che riflettendo appunto sulla conformazione in qualche modo e sui processi di soggettivazione eccetera dice vabbè ci sono in fondo due modalità una è la regola allora lì vabbè è ancora diverso perché la regola può essere qualcosa di imposto o di però di fatto il modello è imposto è imposto in modo sul rettizio in modo diciamo così invisibile impalpabile della società neocapitalista ma è comunque una regola in qualche modo e quindi c'è questa regola il conformarsi a una regola che naturalmente è una possibilità di identità è una possibilità privativa in qualche modo un po' alienante appunto è un'assegnazione che si che si adotta ma che di fatto rimane nella sua natura assegnativa e poi c'è la forma e la forma invece è qualcosa di di diverso nella misura in cui l'esempio che prende Foucault è quello dell'artista c'è l'artigiano che costruisce secondo una regola e c'è l'artista che costruisce contro la regola e quindi la genialità dell'opera dell'artista sta nel non essere proprio semplicemente il prodotto di una regola o se vogliamo di un modello e quindi la vita che è forma è proprio la vita che non è regola che non è modello allora la forma in questo senso è una forma che si costruisce se vogliamo in una prospettiva biopolitica affermativa cioè è quella forma che in qualche modo decostruisce il modello e o in ogni caso cerca di resistere al modello e la cui diciamo così bellezza di opera in qualche modo sta proprio nel fatto che elude l'assegnazione o comunque si pone come elusiva dell'assegnazione riesce a apparire come tale e quindi in questo senso anche per riprendere il discorso di Lele diciamo che io vedrei un'opposizione non so cosa ne pensi ma insomma tra proprio forma e modello da questo punto di vista ecco sì credo che in realtà siamo abbastanza d'accordo al di là come dire di una previlezione terminologica in un senso o nell'altro nel senso che i modelli che aspirano il soggetto alienandolo sono poi forme direi aggiungerei un aggettivo forme rigide mentre quella che descrivi tu è una forma dinamica e flessibile quindi certamente sì sì ma credo di essere d'accordo credo che la scelta comunque di una forma paradossale metà realistica metà allegorica diciamo così sia un modo legato forse da quello che Heidegger avrebbe chiamato coappartenenza quindi non la sintesi dialettica ma la destabilizzazione reciproca sia un modo di mantenere viva questo concetto di forma che tu auspichi e su cui sono d'accordo sì sì certo è chiaro però è un po' forse la mia ossessione scusatemi se ci ritorno e poi quello che io trovo affascinante in Petrolio è poi il legame con la forma stessa della testualità quella no io l'avevo chiamata forma del desiderio forse un po' riduttivamente però c'è questo passo ulteriore che personalmente mi affascina molto ci sono altre domande o osservazioni prego Massimo cosa breve cerco di essere il più breve possibile per ritornare un attimo al lato politico perlomeno a un'implicazione politica di una serie di osservazioni che tu hai fatto almeno questa tua lettura a me ha posto un problema ecco quindi volevo comunicartela tu ci hai detto parlando di taglio maschile di taglio femminile ci hai detto il problema è quello del ritrovare in se stessi l'alterità primo movimento il secondo movimento è la sfiducia verso l'alterità collettiva no allora c'è questa forcella chiamiamola così potente di fronte a noi nello spazio tra queste due possibilità no almeno che fine fa il politico no da un punto di vista politico qual è non so se c'è una risposta dico però ecco tu mi hai fatto vedere il problema ponendo questa divaricazione creando questa divaricazione tra il ritrovare in se stessi l'alterità e l'essere completamente sfiduciati verso un processo di identificazione collettiva che pur passi attraverso l'alterità dove dove inizia dove finisce la possibilità di azione politica no e e quindi qual è la relazione con il micro il macro politico il biopolitico mi sembra che la la so vuoi rispondere lei no 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 sì 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 no le passo volentieri l'onere della risposta se vuole mi sembra che la situazione politica contemporanea con i partiti personali confermi i motivi della della sfiducia no il leader che si pone come un uno stereotipo modellizzante che lascia pochissimo spazio ai contributi personali quindi il problema è di un'organizzazione politica che rispetti il pluralismo non solo nel senso delle diverse componenti interne insomma ma riesca a formare i propri militanti in maniera critica è un problema terribile che sembra che insomma la situazione che descrive Freud nel nel 21 in quest'opera straordinaria e poco capita sulla psicologia delle masse mostra essenzialmente la la confluenza l'assorbimento nella personalità del leader allora direi che il compito di chi vuole fare politica senza lasciarsi modellizzare quello sì è proprio l'indicazione di Pasolini cercare in se stessi nel proprio dinamismo pulsionale da un lato nell'interpretazione del proprio poter essere una forma di soggettività che non sia immediatamente risucchiabile no? dalla 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 giaccia eccetera eccetera ecco mi rendo una risposta molto molto limitata ma credo sia sia questo un certo un'enorme difficoltà sì secondo me sì per me essere tempo è veramente il testo capitale della filosofia del ventesimo secolo questo rovesciamento dall'effettualità al possibile è veramente fondamentale e la flessibilità degli esseri umani viene pensata da Heidegger positivamente come una potenza una potenza da interpretare sì quindi ecco la volontà di potenza come oggetto di interpretazione personale e questo questo dovrebbe essere l'atteggiamento creativo nell'arte come in politica insomma al di là di queste formulazioni generali non è tanto facile andare c'è Carla Benedetti che ha una domanda o un'osservazione grazie ci sono tante cose della tua relazione su cui mi piacerebbe farti domande ma ne posso fare solo una mi ha colpito molto questa cosa che hai detto il passaggio diciamo dalla fattualità al possibile a cui poi colleghi anche il taglio allegorico eccetera è molto importante e se posso dire mi ha convinto e pensavo che a questo si può anche collegare come un pochino è già stato anche accennato anche la forma stessa di petrolio nel senso che Pasolini non sceglie non sceglie una forma ma ne mette in campo varie possibili e questo gli è consentito proprio dal fatto di adottare questa scelta compositiva che è quella di accumulare progetti d'opera invece di passare all'opera non passa mai dal progetto all'oggetto ma rimane tutto per lo meno diciamo dentro all'orchestrazione complessiva del libro sotto la modalità del possibile e del potenziale mai quello del fattuale e una richiesta che ti vorrei fare visto che hai cominciato citando quella frase che all'inizio ti stupivano e che non capivi e che poi ci hai riflettuto cioè questa famosa identità coincidenza dell'identità e della non identità in sintesi poi cosa ci concludi su questa su questa frase lo so che l'hai detto implicitamente ma insomma se lo puoi esplicitare trovo a mio avviso rileggendo l'espressione ossessione dell'identità alla fine della mia riflessione è che nell'ossessione dell'identità vedo una tensione interpretativa verso le possibilità del soggetto la mia esigenza di aggiungere degli aggettivi delle specificazioni alla nozione di identità potrebbe essere una cosa che sento da molto tempo un'ultimo fa mi è capitato forse ricorderete questo libro è un libro di un antropologo eccellente studioso intendiamoci Francesco Rimotti di Torino che si intitola contro l'identità allora proprio perché è un ottimo studioso serio io ho rimasto molto stupito da un titolo di questo genere perché se è vero che l'identità è un concetto fortemente polissemico tra i più complessi del pensiero essere contro l'identità vuol dire essere contro la polissemia essere contro il pluralismo che è anche contraddittorio rispetto credo evidentemente all'impostazione di 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 remotti quindi quando quando si critica l'identità certe volte si critica semplicemente un'identità rigida non con le nazionalismi e così via ecco tutto questo è molto semplice di buon senso il vero passaggio è quello di sviluppare una teoria dei modi dell'identità quindi se l'ossessione dell'identità significa la ricerca dei modi sì sono d'accordo quello che ho cercato di dimostrare è che in Pasolini credo coerentemente con la scelta con l'importanza che dà il procedimento allegorico che è un procedimento poco favorevole ai processi psicologici la riflessione su un'identità capace di scindersi non può seguire la via del grande romanzo da Cervantes in poi ma in qualche modo è un recupero del modello della tragedia greca prego Riccardo e poi è semplicemente un'osservazione io ho sempre pensato leggendo Petrolio che la questione dell'ossessione dell'identità partisse in qualche modo da quelle indicazioni che vengono formulate da Milan Kundera nell'arte del romanzo dove si dice che il romanzo moderno almeno incomincia con una dissociazione che è quella del Cervantes e del Don Quixote ovviamente ed è quasi come se Pasolini facesse un tentativo estremo di andare al di là di questa di questa formulazione o di come il romanzo era nato fare una sorta di punto e probabilmente fare una sorta di passo al di là per utilizzare l'espressione blanchottiana perché non so fino a che punto questo è ripeto secondo me è un modello diverso cioè un conto è l'identità definita da rapporto con un'altra identità è un conto l'identità che cerca in se stessa una potenza di lacerazione secondo me sono due modalità diverse e penso che potremmo continuare a parlare per me ad esempio anche l'identità è la identity politics che quindi chiaramente in quel senso l'identità è criticabile è stata criticata proprio come annullamento dell'alterità però dobbiamo continuare e continuiamo con piacere grazie Giovanni Biotteroli per un intervento intenso e interessantissimo e passiamo al prossimo relatore che è Riccardo Antoniani che è titolare di un dottorato in cui tutela tra l'università di Bergamo e Paris di Deirot e adesso sta completando un secondo dottorato sempre in cotutela tra Padova e Paris Sorbonne e veramente è imminente la consegna sta scrivendo un saggio sull'ultimo Pasolini che uscirà tra un anno e voglio solo ricordare perché è un'attività particolarmente intensa quella di scrittura di diversi saggi e recensioni sul Sole 24 Ore la Fington Post il manifesto pagine ebraiche e anche Satisfaction tra l'altro Riccardo Antoniani è anche famoso tra chi lo conosce però comunque ha veramente organizzato tantissime attività interessanti in Europa e a Parigi e ricordo che aveva anche lavorato per la libreria Shakespeare and Company presso cui appunto ha organizzato diverse edizioni del Festival Letterario Omonimo il suo intervento di oggi si intitola Isotopie del potere e biopolitiche della veredizione in VAS ringrazio Emanuele e ringrazio tutti per i minuti che mi concederete e ringrazio gli organizzatori del colloquio del convegno è un come dire non senza una certa emozione che mi ritrovo qui sapendo che il testo il primo convegno a partire da Petrolio e gli atti furono per me una sorta di stella polare in questo grande brogliaccio che è l'ultimo romanzo incompiuto di Pasolini evidentemente uno degli aspetti che a me è sempre interessato dalla pubblicazione allora di questi atti fino ad oggi era quel filone che si rimproverava essere stato un po' dimenticato se non messo da parte ovvero sia in quale modo Petrolio può funzionare come una sorta di come dire cartografia del potere dell'epoca diciamo che non penso di aver mai ceduta la tentazione di credere che in realtà proprio in questo romanzo si trovasse la vera e propria la risposta né alla morte di Pasolini né a quella che è stata la tormentata vita italiana quantomeno negli anni della prima repubblica non per questo però non deve essere in qualche modo un'indicazione o una delle tante porte ovarche per utilizzare una parola cara al professore Esposito per poter entrare all'interno di questa narrazione un'idea che io mi feci e continuo ad avere in maniera più o meno prepotente di Petrolio è che sia organizzato nella punta che la collega questa mattina aveva evocato fin dall'inizio cioè tutto Petrolio deve essere un testo un critico dovrebbe essere un'edizione critica di un testo inedico di cui esistono diversi manoscritti tra loro anche non concordanti e che necessita in una maniera dell'altra di essere suffragato oppure completato da tutta una serie di materiali tra i quali quelli che Pasolini stava collezionando in questa famosa cartella che abbiamo detto stamane e altri che il lettore stesso avrebbe dovuto utilizzare a suo piacimento tra questi materiali ovviamente si ricordano anche delle registrazioni registrazioni video o quant'altro che danno sempre di più l'idea di questo grande romanzo postmoderno che è stato catapultato nel 92 quando venne pubblicato e che è uno dei punti di partenza appunto dei lavori di Carla Benedetti a proposito io ho sempre pensato che questa polifonia implicita al romanzo a Petrolio e quest'idea questa sua concezione trovasse in realtà un modello esistente che è quello per chi conosce la letteratura francese a cavallo fra il XVII e XVIII secolo del manoscritto trovato a Saragozza del conte Potoschi nel senso che una sorta di poetica del ritrovamento che in qualche modo ha influenzato questo libro una sorta di decameron una summa anche dei saperi di Potoschi così come lo fu Petrolio per Pasolini si è messa in atto attraverso i secoli in un ultimo il ritrovamento di esattamente due manoscritti tra loro non concordanti presso gli archivi di Pozna ma questa è semplicemente una suggestione per dire è una sorta di atto di fede in questo sistema letterario e tutti i suoi accidenti metafisici che possono essere assai piacevoli appunto parlando della questione del potere di come in qualche modo questo sia uno dei tanti pilastri portanti a mio avviso non si può dissociare questo percorso da un'altra potremmo chiamarla anche una forma di vita che è stata evocata questa mattina o un modo da essere cioè quello di un'attitudine paresiatica nel senso in cui a mio avviso Pasolini soprattutto nell'ultima fase della sua produzione avesse deciso riprendendo un'espressione dei movimenti di emancipazione degli afroamericani così come li aveva conosciuti in quella famosa notte evocata dalla Fallacci quando Pasolini si ritrovò alle 3 di mattina a discutere con gli esponenti delle Black Panthers di gettare il proprio corpo nella lotta e quindi questa dimensione esterna del corpo che in qualche modo viene messo in gioco è a mio avviso speculare al corpo così come viene investito in tutta la narrazione e la centralità che ha al punto tale che un'ipotesi a mio avviso non insensata è quella di dire che probabilmente Petrogli è una sorta di precipitato di un'operazione che si svolge quasi in un altrove e appunto collezionando tutta una serie di opere le più estreme di Pasolini vuol dire il giornalismo corsaro salò le 120 giornate di Sodoma e Petrogli stesso si riesce a capire questa attitudine che in definitiva è anche un modello intellettuale e non solo e quando parlo di paresia evidentemente mi riferisco non solo a una pratica che è conosciuto nella tradizione occidentale a partire da Socrate per arrivare poi a di Socrate il discepolo che fu di oggi nel cinico fino anche a determinate esperienze proto-cristiane e che in qualche modo rientrano all'interno di quelle analisi o quell'incursione nel discorso dell'antichità che caratterizzarono tutti gli ultimi corsi di Foucault al Collège de France una precisazione più che una precisazione un altro spunto che a me viene in mente è esattamente questa pratica dell'annotazione dell'autoannotazione intesa come scrittura di sé che è anche uno dei passaggi centrali dell'anonimo saggio di Foucault che mi permette semplicemente di citare lì dove Foucault dice che il creatore è creato dalla sua opera e pensa tutto ciò che essa pensa la sua salvezza risiede nella morte dell'uomo attraverso la scrittura che lo spersonalizza in un'eterna fuga in avanti per riuscire da sé stesso in una trasformazione te resalente e ardua da un costante amore per la verità levigando fino all'invisibile so che il sapere ha il potere di trasformarci e la verità non è soltanto un modo di decifrare il mondo ma se conosco la verità allora ne sarò trasformato e forse sarò salvo oppure morto ma credo in ogni modo che per me sia la stessa cosa il lavoro di trasformazione del proprio pensiero e di quello degli altri ritengo che sia la ragione essere degli intellettuali e qui si ritorna a questa sorta di come dire di nuovo modello che ha che ha determinato appunto la produzione corsare di Pasolini non posso che registrare quanto dall'uscita di questi primi degli atti del primo convegno ad oggi sia venuto a crearsi attorno a petrolio e forse sono delle cose dette stradette che rientrano bene in quella sorta di extra letterarietà che fu una dei tanti come dire una delle tante pulsioni interne alla stesura di questo romanzo incompiuto quando dico che è un romanzo incompiuto e sulla questione che ci si pose oggi della morte di Pasolini a mio avviso vale per la scrittura e la stesura di questo romanzo un'operazione blanchottiana nel senso che a mio avviso Pasolini fece propria la possibilità della morte e la introdusse nel proprio romanzo e lì secondo l'ipotesi che Blanchot leggendo appunto Antelma disse ovvero sia che a furia è il momento in cui riusciamo a fermare la morte e in qualche modo riusciamo ad incorporarla all'interno della struttura della nostra narrazione quindi in qualche modo una morte possibile che a causa anche di questo impegno per certi versi anche estremo di Pasolini avrebbe potuto occorrere che l'autore tenne in qualche modo da conto e su questo la questione della morte si lega anche alla struttura stessa del romanzo e a mio avviso abbastanza significativo il fatto che nella corrispondenza pasoliniana soprattutto a partire dal 1973 nelle lettere a Garzanti ad esempio si ponga sempre la questione della struttura più che della forma a dare a questa narrazione e la struttura è legata implicitamente alla stesura e alla realizzazione delle mille e una notte non a caso un altro modello per lo stesso Potoschi al momento della scrittura del manoscritto trovato a Saragozza e ci ritroviamo quindi se prendiamo ad esempio la trilogia della vita ci troviamo di fronte a quelle che sono i grandi modelli narrativi con cui principia la narrativa borghese ma si usa un aggettivo un po' inappropriato che sono appunto i Cantarbury Tales di Camerone e le mille una notte lì dove in ciascuno dei casi la narrazione e l'uso della parola non è che il tentativo estremo di fuggire a una morte che è imminente o comunque una situazione che è in qualche modo mortifera e da cui anche il senso quello che è estremo è quello dell'antitrilogia della Biure e poi l'antitrilogia che principiò con il Salo Sad il tentativo che vorrei provare a fare con voi se mi lasciate in qualche modo prendervi per mano è quello di verificare fino a che punto quanto viene stellato da Pasolini nelle pagine di Petrolio trova in qualche modo una conferma forse il caso oggi questa stamane è stata citata la corrispondenza fra Elvio Facchinelli e Pasolini se di corrispondenza si può parlare nel senso che nelle cinque lettere che si ritrovano ancora oggi nel fondo Viseux si ha l'impressione che in realtà Pasolini non interagì praticamente mai con Facchinelli e forse per dare una sorta di cornice un senso a questo contesto e qui chi dovegna il professore Bottiroli se in qualche modo mi inoltre nel terreno lacaniano ma tutto nasce a mio avviso dal fatto che nel 1972 si ricorda il grande o almeno il grande l'importante discorso tenuto da Lacan a Milano che era il discorso del capitalista in cui in qualche modo la questione della rieplicazione degli individui dei soggetti era uno dei punti centrali in qualche modo riprende quello che fu tutta una serie di punti che vennero oscillati non tanto nel saggio Sade e Kant ma successivamente nel seminario numero 7 l'etica della psicanalisi e diciamo che questo genere di discorso aveva una grande eco una grande fascinazione appunto in quel mondo psicanalitico della psichiatria in cui si muoveva Facchinelli non è un caso che appunto la rivista Erbaboglio che si muove da una sinistra non ancora definita e non ancora definibile per citare memoria un passaggio di una delle lettere di Facchinelli a Pasolini non fu che uno dei grandi momenti in cui la pratica non autoritaria non solo didattica ma anche psichiatrica viene in qualche modo portata alla luce del giorno almeno in questo ambito politico e trovo particolarmente interessante questo genere di dialogo che tentò Facchinelli perché si sviluppò attraverso o a partire da quella che forse fu una delle grandi funzioni di Pasolini all'interno della nostra cultura è una funzione che viene riconosciuta da Carmelo Bene ma da molti altri cioè quello del grande del filologo o per utilizzare un'espressione iniziale del grande filologo ovvero sia qualcuno ovviamente che ha una grande dimestichezza all'interno nell'esegesi di un test e così via ma ancora di più nel filtrare un'attenzione micrologica di quello che è reale di quello che era il proprio presente e le varie mutazioni che stavano avvenendo allora questa attenzione filologica ai discorsi è qualcosa che Pasolini aveva già praticato perché lo ricorda nel caso di Aldo Moro quando dice che Moro fu l'ultimo politico lasciato da solo in un palazzo che ormai si era svuotato e i cui abitanti erano andati a vivere in un altrove questo è un passaggio che chi ricorderà poi verrà ripreso dallo stesso Sciascia nella Fermo in maniera abbastanza esemplare il tentativo di Facchinelli fu quello di coinvolgere Pasolini nella scrittura di un libro di pronto intervento contro Cefis o più contro Cefis per delineare quello che allora veniva chiamato un nuovo potere e come ha spiegato la mia collega quest'oggi in realtà Pasolini ne fece un uso privato e non dette mai una risposta definitiva al punto tale che Facchinelli proprio nel dicembre del 74 richiede indietro a Pasolini tutti i materiali che fino ad allora gli aveva dato e questi materiali sono per l'appunto una fotocopia di questo testo su cui forse troppo si è parlato in senso di mistero e quant'altro è che era un libro ricattatorio come molti inuscivano allora questo e Cefis e poi tre discorsi di cui la mia patria che si chiama multinazionale e altri due discorsi mai pronunciati anche su questo discorso la mia patria si chiama multinazionale in realtà forse bisognerebbe sfatare qualche mito nemmeno questo era un discorso così irreperibile tutt'al più che le pubblicazioni ufficiali dell'Accademia di Modena dove è vero che Cefis fu allievo insieme ai vari maletti miceli e quanti altri che furono più o meno i protagonisti della nostra storia italiana e in realtà fu appunto pubblicato ufficialmente dall'Accademia di Modena e ancora prima di Facchinelli in Erbavoglio fu pubblicato da una rivista che titolava Successo al Tempo per cui non era così irreperibile come si può pensare e più interessante il fatto che Pasolini avesse in mano due discorsi di cui uno che non fu mai pronunciato e quando voi questa mattina dicevate che per l'appunto in Petroglio avrebbero avuto una funzione da cerniera tra il primo e il secondo blocco effettivamente il lettore in qualche modo rimane nella come dire rimane nella sua fame per tradurre letteralmente un'espressione francese è vero un'altra cosa che accade con lo stesso anno il furto che vi fu di un datilo scritto di Carlo Levi il furto di una macchina dove Levi aveva in qualche modo tenuto questo manoscritto in un momento di passaggio crea una sorta di timore in Pasolini impegnato in quei tre anni nella stesura di Petroglio a frequenti andiriviani fra la Torre di Chia nei pressi di Viterbo fino a Roma e in questo timore che si scrive un po' quella domanda che fece la tanto vituperata Erede Chiarcossi nel senso che è in quel momento che viene richiesto di fare quelle famose fotocopie che tutt'oggi ci permettono di confrontare quanto fu scritto fino a settembre del 1974 e quanto venne come dire compilato fino alla morte dell'autore e fermo restando che nella polifonia delle narrazioni tanto del manoscritto trovato a Saragozzo ma soprattutto di Petroglio che è quello che ci interessa non potremmo mai sapere cosa sarebbe reentrato e cosa invece sarebbe stato sottratto vero è che se noi prendiamo l'ultima parte l'ultimo blocco scritto in questo ultimo nell'anno dal settembre 74 al novembre 75 effettivamente la figura attorno a cui ricorre tutta la narrazione è la figura di Eugenio Cefis così come è vero che su questa figura almeno dalle commissioni strage dalle commissioni parlamentari fino anche a tante inchieste giornalistiche si avverte una sorta di di enigma e io non non sono propenso assolutamente a pensare o a cadere nella tentazione che questo uomo possa rappresentare in qualche modo il grande vecchio che spieghi quanto ancora non si sa sulla nostra storia recente al contrario penso che per Pasolini valga il grande principio dell'incarnazione che è un principio così simile per certi versi a delle riflessioni di Pierre Klosowski e così simile per certi versi anche alla teologia ed è lo stesso principio per cui a un certo punto questo slittamento che si ha da un potere clerico fascista ma tutto sommato un vetero fascismo verso una nuova forma di fascismo verso un nuovo un nuovo orizzonte è quello che in qualche modo poteva trovare una sua fisionomia o una sua suggestione a partire da questi discorsi che Pasolini ebbe e a partire anche da questo panflet ricattatorio attorno a cui viene letteralmente saccheggiato per farne appunto per dare una fisionomia a questo uomo dove la cortesia ci chiede di in qualche modo di nominarlo come Troia piuttosto che come qualcos'altro vediamo se riesco a dire chiaramente noi parliamo appunto di quella la collega parlava di capitoli in realtà stiamo parlando di appunti il blocco di Cefi si interessa soprattutto la punto 20 fino alla punto 30 non penso che sia questo uno dei passaggi fondamentali per le mie ipotesi secondo cui si tratta di una struttura resistenziale quella di petrolio e tantomeno o meglio ancora una struttura paresiastica cioè una tendenza o la tentazione o la possibilità di dire il vero di prendere la parola per dire il vero così come Pasolini si permise di fare credo invece che ben più interessante sia il fatto che all'interno di tutta la stesura di petrolio tutta la struttura di petrolio la questione della verità non solo politica sia qualcosa che ritorna in maniera più o meno prepotente fino all'inizio la dissociazione che è stata evocata tutta l'ora è stata evocata precedentemente dal professor Bottiroli continua poi con Carlo che effettua un primo viaggio in Sicilia ed è mosso da una verità che deve raccontare una signora di sua conoscenza che abitava non ricordo più in quale capoluogo siciliano e poi continua ad andare avanti e davanti e questa sorta di pulsione alla verità è qualcosa che poi anche speculare agli scritti corsari tutta più che sarebbe interessante posso garantire che almeno in dieci passaggi di petrolio quanto viene scritto negli scritti corsari ritorna in maniera praticamente identica nelle pagine del romanzo incompiuto successivamente io sono sempre in più dell'idea dell'ipotesi della convinzione che in realtà petrolio funzionò sì come grande laboratorio a cielo aperto per usare un'immagine del professor Lorenzant in cui praticamente abbiamo la possibilità di vedere questo calderone o questo vaso in cui si muoveva la narrazione i vari spunti le varie polifonie che l'hanno composta ma funziona anche come forma narrativa che permette al poeta di dire tutto ciò che per etica giornalistica non poteva allora permettersi di scrivere sul Corriere della Sera o sugli altri giornali come Il Mondo dove fino ad allora aveva scritto cioè quel famoso articolo che è stato tanto è stato tanto utilizzato quello degli io so e così via seguita fino a un punto che ovviamente io non posso in qualche modo dice io tutte queste cose le so ma non ho le prove e sa tutti questi nomi ma non li fa il lettore del Corriere nelle misure in cui non è in grado da giornalista di poter dare un fondamento a quanto dice però va anche avanti e dice che lui sa tutte queste cose perché è un intellettuale ed è uno scrittore e uno scrittore ha la possibilità di fare questo lavoro di mettere insieme anche dei dati e dei fatti fra loro opposti e per dare una coerenza a un quadro dove ancora non vige una coerenza e dove al contrario c'è l'enigma o il mistero per usare una parola tanto appassionante e nella fattispecie Petroglio allora è questo contenitore dove tutte le insieme delle visioni politiche e questa sorta di cartografia che evocai all'inizio trova una propria collocazione e la trova anche in maniera molto precisa che esista o meno questo tanto famoso appunto 20-21 di cui si hanno tracce ma niente di più su questo allora è forse interessante chiedersi chi fu Cefis e chi lo fu per Pasolini lui lo mette al centro della narrazione e non è un caso che tanto per sollevare una sorta di dubbio su quanto viene detto nella giornata parigina di questo convegno sì certamente noi sappiamo che Pasolini avrebbe potuto chiamare questo romanzo VAS semplicemente romanzo o Petroglio poi abbiamo in realtà un appunto che ci dice chiaramente che tutto Petroglio deve presentarsi come qualcosa poi sempre sulla questione del Petroglio di come sia fondamentale l'Eni come il topos del potere noi parliamo della figura che è quella di Carlo Valletti che ne parlava anche Silvia Dell'Auto e su questo noi concordiamo ricucita esattamente sull'allora vicepresidente dell'ente che era Francesco Forte ovviamente non per le incursioni notturne e quelle sue pulsioni libidinali e poi anche perché a Pasolini sembrava possibile dare una fisionomia a qualcosa che in quel mondo diventava incominciava almeno nel nostro mondo a diventare sempre più virtualizzato o spettacolarizzato per usare una parola cara al movimento situazionista ovvero sia che quando parlavo della questione dell'incarnazione è una riflessione che mi permetto di fare anche nei confronti di Salò cioè Salò è una grande metafora di qualcosa ma piuttosto che una mutazione quasi impercettibile che è appunto determinata da questo cambiamento che viene anche rubricato nei termini di genocidio culturale e di vera e propria catastrofe antropologica in realtà in Salò trova appunto una sua fisionomia nel senso che ancora Pasolini preferisce allo strazio delle carni a qualcosa che in realtà non trova ancora un proprio luogo una propria visualizzazione il fatto che Cefis fosse per esempio il mandante secondo Pasolini di Boncore ovvero sia di Mattei il fatto che Cefis richiamo qui all'appunto 103 di Petrolio dove ancora in maniera più insistente la questione della verità viene legata alla questione della morte che gli implicita e a rischio che questa comporta il famoso l'appunto dell'epochè o il romanzo delle stragi per riprendere la stessa espressione di uno degli articoli corsari proprio infine c'è questa idea di qualcosa che partendo dal golpe dei colonnelli greci dei colonnelli scusate in Grecia e passando attraverso un traffico d'armi risale in Italia attraverso le modalità che erano quelle delle organizzazioni neofasciste dell'epoca per arrivare fino alla famosa stagione delle stragi di cui questo romanzo dovrebbe essere in qualche modo anche una sorta di percorso anche una sorta di rappresentazione se Pasolini avesse o meno ragione nelle sue ipotesi ce l'ha detto comunque la commissione stragi che si concluse dopo il convegno tenuto e nel 2001 guidato dall'allora senatore di DS Giovanni Pellegrino lui dice chiaramente che Pasolini intui in tempo reale quanto stava accadendo nel paese cioè le due diverse fasi della strategia dell'attenzione e così via lì dove la commissione stragi invece impegnò almeno 15 anni di ricerca con tutti i materiali e i mezzi di cui era a disposizione e su questo valore della parola che possa essere fondatrice che possa essere ribellatrice e qui concludo il mio intervento trovo forse un'altra immagine che si potrebbe applicare a quella di petrolio allora che noi accettiamo di utilizzare per bassa non solo l'immagine della mangiatoia che venne evocata dal professore Bazzocchi a Parigi e non solo l'immagine della Paolina del vasello ma anche l'immagine del vaso di Pandora cioè Pasolini era convinto che in qualche modo tutti i mali fuoriusciti dal mondo da questo vaso potesse questo vaso stesso potessero essere ricontenuti e ricostruito il suo contenitore attraverso la solo pratica della parola o della denuncia ed è qui che infatti in qualche modo questo richiama anche l'ultimo intervento che lui tenne davanti ai radicali italiani pur sostenendo che avrebbe continuato a dare il proprio voto al partito comunista ovvero sia contro tutto questo o meglio scusatemi lui diceva ancora in un intervento una visione apocalittica certamente la mia come disse Pasolini in un dibattito con Giorgio Napolitano alla festa dell'Unità di Milano del 1975 quando forse incautamente parlava al pubblico dei discorsi cicifesiani avuti da Facchinelli ma se accanto ad esse e l'angoscia che si produce non vi fosse in me un elemento di ottimismo ovvero sia il pensiero che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo semplicemente non sarei qui tra voi a parlare e contro tutto questo lascio scritto per un intervento al congresso appunto del partito radicale voi non dovete fare altro io credo di continuare semplicemente ad essere voi stessi che significa essere continuamente irriconoscibili dimenticare subito i grandi successi e continuare impreteriti ostinati eternamente contrari a prendere a voler identificarvi col diverso ovvero sia a scandalizzare a bestemmiare grazie Riccardo Antoniani per un altro intervento ricchissimo che è anche sostenuto da una profondissima conoscenza storica e dell'attualità in cui Pasolini sta operando per me sinceramente ha anche risollevato una questione a cui abbiamo cercato anche di riflettere a Parigi della scelta anche questa forse paradossale di unire la parresia e quindi questa importanza della denuncia e della verità alla forma romanzo e neanche alla forma romanzo tradizionale ma alla forma romanzo come quella di Petroglio quindi in qualche modo Pasolini appunto non sceglie l'intervento giornalistico come hai scelto tu ma invece questa opera questa sicuramente più spostata verso la letteratura e con questa forma così originale ecco per me il tuo intervento ancora risolleva questa questa questione non so se non era se può rispondere con piacere ma non era ho dimenticato piuttosto che leggere qui mi scuso ho preferito un po' parlare braccio libero spero di non aver troppo tediato gli ascoltatori i partecipanti in realtà per esempio questa questione della verità della paresia è qualcosa che ovviamente ancora una volta è un debito nei confronti di Carlo Benedetti che ne parlò una prima volta nel tradimento dei critici fondandosi sostanzialmente sull'edizione di Remo Vodei di alcuni discorsi tenuti da Foucault a San Francisco negli Stati Uniti a partire dal 2011 in Francia e nel 2013 se non va derrato in Italia c'è questo famoso corso del coraggio della verità che articola diversamente o diciamo arricchisce questo discorso e lì dove in realtà è possibile trovare tutta una serie di referenze nella letteratura e non solo nella pittura moderna ma quello della verità il coraggio della verità penso che sia innanzitutto il coraggio di Pasolini a guardare a se stesso in maniera sinottica com'era l'impostazione del petrolio a quello che accadeva nel paese non penso che si debba mai sbilanciare qualcosa a favore di qualcos'altro e proprio questo sguardo verso non dico un'introspezione ma quantomeno noi sappiamo che petrolio deve essere il preambolo di un testamento come scriveva a Moravia e penso che rento un po' nella riflessione che era condotta questa mattina dalla professoressa Grignani lì dove ricordo che uno degli interventi pubblicati a partire da petrolio era di Stefano Agoste e parlava della figura meglio del topos del deserto all'interno dell'ultimo Pasolini a mio avviso spero di di non dire qualcosa di blasfemo ma nell'ultimo Pasolini il petrolio cioè se noi partiamo da Teorema e arriviamo poi fino a petrolio in realtà il deserto non è altro che un grande momento di come dire un punto di partenza e un luogo dove è possibile effettivamente quasi rispecchiarsi in qualcosa e in questo qualcosa ritrovarsi a condizione appunto che l'identità non sia qualcosa di rigido come lei aveva detto ma probabilmente qualcos'altro ci sono domande o osservazioni? lo complimenti tu hai una capacità di fluenza no di fluenza limpida che non è mica non è uguale credi a noi quindi grazie per questa ma lei mi losing non penso di meritare è così credo che di interpretare la ricezione ecco chiamiamola così tra le tante cose che hai detto e parte delle quali personalmente alcune proprio non le sapevo e quindi è interessante perché noi letterati a volte è la filologia è la critica stilistica e questo è quello poi ci dimentichiamo invece che esiste il contesto di realtà del momento degli anni in cui una certa cosa è stata scritta o si tentava di scrivere ma può darsi che abbia capito male mi sembra che tu a un certo punto nella tua infinita è come dire serenità ecco che è una che è una grande virtù no? di esporre i fatti così come li conosci e le tue considerazioni così come le stai facendo dentro di te e anche fuori abbia poi voluto dire a un certo momento che il Pasolini che scrive i famosi articoli sul Corriere della Sera non è che li scriveva da un'altra parte li scriveva lì e il Corriere della Sera sappiamo tutti cosa è sempre stato e cosa tutto sommato è ancora mi è parso di capire e sarebbe un'ipotesi interessante non ci avevo mai pensato colpa mia che il progetto dell'edizione postuma vagheggiato poi sarebbe stato lasciato cadere o forse anche no con fronte alla divina Mimes ma qui siamo oltre cioè il progettare è una sorta di finzione per cui qualcun altro doppio, triplo quadruplo di identità si sarebbe preso la briga stizia di fingere di aver ritrovato qualcosa di scritto cioè molto di scritto nel quale scritto molto eterogeneo necessariamente dovevano convergere anche la meditazione o l'orrore per ciò che lui era venuto a sapere Facchinelli non Facchinelli per le sue varie vie alcune delle quali magari non non conosceremo mai o sì o le conosci forse tu io certamente no cosa vuol dire allora vuol dire che che anche Pasolini aveva paura questa questa è la domanda che mi viene di farti ma non c'è niente di male nell'aver paura ma no io penso che la paura sia un'emozione nel senso che è la prima reazione viva Dio che abbiamo tutti paura a un certo momento perché è la prima reazione che abbiamo dopodiché e penso che della paura bisogna anche sapersene usare per farle un esempio lei è spiegata bene no sono io che non ho capito sono nel pallone forse adesso non ho capito cioè vuol dire che questo progettissimo questo impegnissimo che giovanilmente tra molte virgolette il Pasolini negli ultimi due o tre anni si sarebbe preso con se stesso era anche il trasloco il macro trasloco della consapevolezza la paura si ho usato un termine brutto sciocco della consapevolezza che certe cose lui poteva soltanto scrivere all'interno di un qualcosa che al momento sarebbe rimasto privato privatissimo e sarebbe stato affidato all'affizio del questo volevi dire beh è una forma di paura no io sono convinto che io non sono né giornalista né pubblicista mi è capitato qualche volta come ha ricordato il professore Gagnolati di scrivere su dei giornali ma non oserei mai mai scrivere una cosa di cui non avessi la certezza che non che in qualche modo io non potessi corroborare neanche solo con l'affermazione di qualcuno ma la controprova di qualcun altro che mi dà di questa affermazione quando parlo di etica giornalistica Pasolini fin negli anni 40 scusate fin negli anni 50 comunque è impegnato anche su quel fronte che poi grazie a Medeugi Bellini che fa da mediatore insieme a Nicconaldini lo porta al Corriere della Sera è vero come dice lei che noi sappiamo cos'è il Corriere della Sera solo che il Corriere della Sera di Pierottone è cosa diversa nel senso che Ottone dopo possiamo è chiaro e non possiamo che riflettere sul fatto che il Corriere della Sera è ed è continua ad essere ancora oggi per quello che gli è permesso essere il giornale della grande borghesia e anche della grande borghesia conservatrice del paese Pierottone che sostituisce Spadolini se non vado errato in realtà porta con sé quell'immenso bagaglio che è la funzione del giornalismo nel mondo anglosassone cioè i cani da guardia della democrazia e è da qui che fa la famosa tribuna aperta da qui tra l'altro non si riferirà solo Pasolini ma ci sarà anche Parisi e quant'altro è inutile anche ricordo come ha fatto qualcun altro in alcune pubblicazioni anche in Fracce Basta questi sono gli anni degli attacchi cefisiani alla stampa cioè quest'uomo usando fondi pubblici in qualche modo riesce ad impossessarsi della maggior parte dei quotidiani italiani ecco se vuole forse il limite di quest'uomo che fu cefis fu quello di capire che cosa che qualcuno capì ben dopo e con i risultati che abbiamo visto che forse la stampa e i media bisognava averli prima di incominciare a fare la famosa discesa in campo tanto per fare un'allusione ma ci ho detto non penso che lui avesse paura e come dire vediamo se riesco a dirlo altrimenti e qui di nuovo chiedo scusa per l'uso o l'abuso che faccio di Lacan ma Lacan dice che in realtà il principio primo della verità è la narrazione il fatto che noi possiamo raccontarla qualora la narratività viene sottratta non solo la verità ma la realtà stessa decade questo vi prego di prenderlo con grano salis perché dovrei trovare meglio la citazione che vuol dire che per Pasolini quel famoso romanzo delle stragi come disse già Carlo Benedetti non può essere che una non può che avere una forma romanzata e dal momento in cui questo viene fatto cioè Petrolio è chiaro che non abbiamo difficoltà a capire chi sia dietro il nome di uno ripeto Troia o Boncore o quanti altri non penso io penso che ci fosse la paura oggi questa mattina abbiamo citato l'intervento una cosa quando parlavo di essere a letterarietà trovo assicurioso il fatto che grazie a un pubblico ministerico noi sappiamo oggi che 50 pagine di questo romanzo siano state trascritte da un pamflet ricattatorio e anche oltre trovo assicurioso che un senatore in odore di mafia al tempo abbia paventato l'ipotesi di poter mostrare sapendo che il senatore in questione è un avvocato e che non si sarebbe mai macchiato di reato di ricettazione nonostante lo scupe e così via trovo assicurioso tutta una serie di cose ma senza che questo comporti tengo bene a precisare nessun tipo di mistero o altro io sono convinto sia appunto che Pasolini per esempio quando scrive la parte più politica ancora non fa altro che prendere un articolo dell'Espresso che vediamo anche nelle foto di Pedreali e lo copia per file per segno e lì non si preoccupa di cambiare ti prego di correggermi Silvia se mi sbaglio ma non si preoccupa assolutamente di cambiare i nomi diciamo che tutto rientra in una funzione romanzesca ripeto una delle fonti di Pasolini visto che abbiamo sempre detto almeno c'è chi dice che Pasolini non sapesse niente probabilmente è vero però intanto era qualcuno che scriveva aveva vinto molti premi era un cineasta a quel punto era conosciuto all'estero e tuttora lo è soprattutto come cineasta ed era qualcuno che scriveva sul Corriere della Sera ed era qualcuno che dice di avere dei discorsi tra cui uno mai pronunciato ed è qualcuno se voglio andare avanti perché sembra quasi una litania ed è qualcuno che dice che darebbe tutta la Montedison per una Luccio e una delle fonti fu appunto Mario Reali che viene citata oggi io Reali l'ho avuta più di una volta al telefono e ci scrisse anche un pezzo quando si incontrarono all'ottare regista e Pasolini effettivamente cercò delle foto perché al tempo come tutt'oggi è difficile trovare un'iconografia su Cefis e soprattutto cercò anche conferma del fatto secondo i sovietici se Pasolini se Cefis fosse responsabile come lui scriveva della morte di Mattei ci ho detto quando uscirono io questo non lo scrivo nell'articolo non lo trovai opportuno però disse che si guardava in giro che era un po' preoccupato questo però appunto non lo scrivo perché non è un fatto che mi sembra probabile che abbia qualche senso lo dico qua a un passant così penso che in qualche modo avvertisse che che comunque non stava navigando in acque in acque sicure ci ho detto non penso questo non voglio che assolutamente ricada nella tentazione di identificare la sesura di petrolio con la sua morte al contrario intanto vorrei ringraziarti perché hai hai contestualizzato petrolio che è fondamentale è un discorso che secondo me va fatto non si fa mai abbastanza e va fatto anche in maniera molto precisa nel senso non dimentichiamo nello stesso momento Pasolini scrive petrolio scrive gli editoriali sul Corriere della Sera e scrive Salò gira Salò monta Salò e scrive anche quel discorso per l'intervento al congresso del Partito Radicale che è impressionante adesso tu lo leggevi e lui non c'era non era lui che lo leggeva perché appunto era stato ammazzato poco prima quindi ti volevo ringraziare di questo ti trovo sempre più strutturato e devo dire dici anche delle cose a volte che non so e che che mi interessano poi continueremo poi volevo dire una cosa più importante citiamola la parola paura la parola paura è fondamentale nella vita di Pasolini Pasolini aveva paura Pasolini aveva tanta paura e questa è la frase io ho paura ho tanto paura che lui ha pronunciato tra se e se a un tavolo di una cena a Stoccolma pochi giorni prima di andare all'idroscalo ma aveva già l'appuntamento per andare all'idroscalo accanto a lui c'era un giornalista italiano che è ancora vivo e che si era appena trasferito in Svezia perché si era sposato una svedese e che gli domandò di che cosa hai paura Pierpaolo e lui disse quale paura hai appena detto ho paura ho tanta paura no 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 non ho detto niente del genere ci sono altri due episodi nello stesso periodo anzi diciamo precedenti dove lui dice in modo evidente di aver paura quando Sergio Citti che è il suo principale collaboratore va a casa sua a Via Eufrate e gli dice che è stato appena contattato dalla banda della Magliana e che questi boss della banda della Magliana gli hanno detto che il negativo del film ce l'hanno loro e che però hanno capito che non potranno mai ricavarne tanti soldi hanno fatto un cattivo affare e gli hanno anche detto di essere disposti a restituirlo gratis a Pasolini Sergio Citti gli dice ok allora datemelo e loro gli rispondono ma tu non sei mica Pasolini vai da Pasolini e combiniamo un incontro e quando Sergio Citti va a raccontare questo a proporre questo incontro a Pasolini Pasolini gli dice non ci vado li conosco perfettamente ma ho paura di loro ho paura di loro perché ormai sono drogati fino alla cima dei capelli ho paura di loro perché sono sicari di attentati politici e di assassini su commissione non ci vado neanche per sogno salvo poi cambiare idea e un mese dopo dire a Sergio Citti ci vado perché è una cosa di ragazzi e i ragazzi sono pelosi i fratelli Borsellino sono quell'altro quell'altro mondo sono i junior molto junior della malavita a cui lui vuole dare come dire un segno di disponibilità ma c'è una terza testimonianza che è la testimonianza postuma di un'attrice a cui Pasolini era molto legato e che amava molto che è l'attrice di origine Tio Peines Pellegrini che lui scelse in mezzo a 200 ragazze tutte uguali la scelse così come un cudo e fudo per farle fare il ruolo nel fiore della Milano a notte e che a un certo punto esce fuori alcuni anni fa quando Stefano Maccioni riesce a l'avvocato Stefano Maccioni riesce a far riaprire le indagini su Pasolini a far trovare nuovi DNA sulla scena del delitto legge questa notizia lei vive negli Stati Uniti da 30 anni ormai e dice ah che bello forse finalmente si fa luce sulla morte di Pasolini allora io parlo parlerò perché ho delle cose da raccontare e racconta che cercò Pasolini nei giorni precedenti la morte al telefono di Pasolini il telefono fisso ovviamente all'epoca c'erano solo i telefoni fissi il telefono di Pasolini come tutti i telefoni del quartiere rispondeva con un disco e questo disco diceva che a causa di un attentato che aveva fatto saltare la centralina della SIP perché allora così si chiamava dell'Eur purtroppo quel numero di telefono non funzionava lei aveva come tanti come la stessa Fallaci lo racconta anche Oriana Fallaci di aver chiamato quel telefono e di essere rimbalzata per via di quel disco però lei mette in giro la voce che sta cercando Pasolini e qualcuno dice a Pasolini che appunto lei lo sta cercando ed è Pasolini a contattarla e si incontrano e Pasolini gli dice è un momento molto difficile sì è vero non ho il telefono non abbiamo il telefono in tutto il quartiere per questa cosa che è successa però siccome io ho chiesto di cambiare il numero di telefono perché ricevo telefonate di minacce di morte dalla mattina alla sera e la cosa che mi terrorizza di più è che mia madre possa rispondere al telefono avendo fatto questa richiesta prima alla SIP la SIP e state molto attenti a questo dettaglio perché questo è un dettaglio importantissimo la prego di arrivare alla conclusione sono arrivato la SIP mi ha dato un telefono volante non so se voi sapete che cos'è un telefono volante io lo so perché quando ero ragazzo mio padre che aveva un grande ufficio giornalistico gli spesso saltavano alcune centrale della SIP e riuscì a ottenere un telefono volante che era un numero con una linea in qualche modo indipendente dalla rete che si poteva avere e anche appunto in questa occasione qui chiudo a Ines Pellegrini disse quanto aveva paura ora vi chiedo solo di soffermarvi su questo dettaglio perché quel telefono c'era nella notte fra il primo e il due novembre a casa di Pasolini se posso brevemente grazie di tutto Riccardo anche delle cose che immagino scriverai in questo libro che finalmente potremo leggere tra un anno ed è una notizia e ti domandi chi fu cefis per Pasolini beh intanto era il suo editore occulto nell'ultimo anno almeno a partire dal 6 agosto 1975 quando una società estera la Montedison International così ratifica un accordo con la Rizzoli International per appunto di finanziamento per l'acquisto del Corriere ho solo una cosa da aggiungere riguardo ai tre discorsi di cefis e da chi arrivavano lo spacciatore il pusher di Facchinelli era Giuseppe Turani che stava fra l'altro lavorando insieme a Scalfari a un libro che di lì a poco vedrà la luce Razza Padrona un libro cult come si dice ben più pesante nei confronti di cefis di quanto lo sia stato il fantomatico Giorgio Stemez con queste cefis l'altra faccia dell'onorato presidente certo però ritengo che queste fossero delle poi possiamo parlarne fino a domani mattina penso che fossero delle questioni un po' laterali se vuole si può anche dire chi ha scritto queste cefis da chi era pagato chi ha scritto altri libri e così via ripeto mi sono limitato semplicemente a spiegare che all'epoca come tutt'oggi i dossieraggi di quel tipo esiste tutta una fauna umana purtroppo che si occupa di questo genere di lavori ci ho detto non era una dimenticanza fatta apposta no certo volevo soltanto volevo provare anche a dire che in realtà molti discorsi non erano così irreperibili come no ti hai parlato di testi da più scritti nelle note no non il discorso non mai pronuncia si allora ringraziamo ancora Riccardo Antoniani e Giovanni Pottiroli per i loro interventi direi che facciamo una pausa velocissima dieci minuti ci riaggiorniamo alle 5 e mezza è un grande piacere poter concludere la sessione e la giornata di oggi con e chiedo venia per il mio accento giapponese Hideyuki Doi che ha conseguito un dottorato in italianistica all'Università di Bologna e attualmente insegna lingua e letteratura italiana presso l'Università Ritsumeikan a Kyoto anche se adesso sta passando un anno sabbatico a Roma negli ultimi anni le sue ricerche si sono sviluppate intorno alle varie espressioni delle avanguardie italiana e giapponese del primo novecento ricordo tra le sue opere la prima in giapponese guida la storia italiana moderna e contemporanea e la seconda invece in italiano uscita nel 2011 l'esperienza friulana di Pasolini cinque studi il suo intervento di oggi a cui siamo tutti interessatissimi si intitola Sekiyu petrolio criteri per la resa in giapponese grazie grazie professor a modo mio all'altezza prima di cominciare vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno in particolare Carla Bendetti per avermi concesso uno spazio in cui poter parlare della ricezione di petrolio in giappone oggi presenterò prima l'approccio generale nel caso della traduzione di opere pasoliane per poi concentrarmi sul petrolio sulla sua fortuna in giappone e quindi sui criteri per la resa in giapponese nell'aprile scorso presso l'istituto italiano di cultura a Tokyo si è tenuto un incontro intitolato Pasolini 40 anni dopo in cui i tre relatori hanno presentato i loro interventi Tadahiko Ada Pasolini e Carvino traccia di un altro ego Inuhiko Yomota Pasolini e il discorso in diretto libero e infine Carla Bendetti io sono una forza del passato Pasolini e la fine del mondo In quest'ultimo a quanto saputo dalle corrispondenze preliminari avute con l'autrice Carla Bendetti ha fatto rivivere al pubblico quell'esperienza critica rappresentata dal film La rabbia in cui il materiale di montaggio era commentato dalla poesia Marilyn un'operazione in cui potevano vedersi e leggersi in contrasto l'apocalisse della bomba atomica di Hiroshima e la bellezza sovrumana dell'attrice ma qui cito due foto dal depertorio storico insomma e quel contesto che Pasolini ha creato insomma binomio Marilyn e Hiroshima è realmente accaduto otto anni prima di quella poesia pur non avendo potuto assistere all'incontro pasolignano a Tokyo ero già arrivato a Roma per un anno sabbatico a quanto mi hanno riferito so che è stato un bel momento di confronto con un pubblico giapponese molto attento dal momento che conserva ancora quell'immediata empatia nata con l'uscita di Edipo Re nel 1969 per i giapponesi assidui seguaci del cinema pasolignano è stato il secondo omaggio ai 40 anni dalla morte dopo la mostra fotografica con la collezione della fondazione Roberto Villa che ritrasse alcuni momenti dei set durante le riprese del fiore del mille e una notte l'esposizione è stata organizzata a settembre 2016 dal mesesimo istituto per il cui vernissaggio ho avuto occasione di precisare che quelle foto di Villa non erano di posa ma scattate nello Yemen con interesse antropologico quasi pasolignano per un servizio fotografico che avrebbe accompagnato il contributo del legista sulle sue mille una notte una notte alla rivista previ voi ripeto per quanto non abbia potuto essere all'incontro di aprile ho in qualche modo preso parte con la mia traduzione di un epigramma invettiva fatta su richiesta di Callavendetti a un papa del 1958 è strato dalla corta la religione del mio tempo qui l'io poetante ricorda le due morti sincroniche di papà Pio XII e del preveo romano Zucchetto creando così una specularità narrativa e strutturale fino ad arrivare ai versi che lasciano così lo sapevi peccare non significa fare il male non fare il bene questo significa peccare in questi versi di tono quasi prosastico il ritmo è scandito dal chiasmo e i due sintagmi sono costruiti con i verbi all'infinito si riconosce lo stile caro al poeta delle ceneri di cui il critico e traduttore Yomota era collegatore della conferenza di aprile le istituisce la sostanza nell'antologia da lui curata le poesie di Pasolini del 2011 perché l'interesse di leggere Pasolini non solo di guardare il suo cinema li è nato appunto scoprendo un poeta che in versi sapeva trattare persino di Gramsci ed io consapevolmente sul modello del linguaggio di Yomota ho reso in giapponese quel distico con un certo tono austero prescritto in giapponese poi trascrizione in alfabeto è altrettanto intenzionale l'avere allungato la durata di ogni parola per riprodurre lo stesso effetto dei verbi originali all'infinito il registro stilistico della traduzione qui presentata che chiamerei dell'io ware proprio del poeta civile crea un interessante contrasto con un altro registro che chiamerei invece dell'io boku giovanile e congruo piuttosto ai primi versi friurandi fluida dolcezza e freschezza si sa che in giapponese la prima persona ma in generale tutti i soggetti la prima persona si trasforma a seconda del sesso maschile femminile o neutro e insieme dell'età infantile adolescenziale matura o anziana prima si parlava delle dell'identità relazionale insomma nell'intervento del professor Pottilori insomma qui la relatività intrinseca nell'identità dell'io ecco si trasforma a seconda del sesso e dell'età dicevo così allo stesso tempo cambia anche il fraseggio stesso a seconda della scelta dell'io il linguaggio in prima persona può essere dunque traslitterato in linea con l'indirizzo dimostrato da quell'io di recente ho trattato di tale peculiarità della lingua giapponese che ricade sul soggetto a scelta nell'articolo il Pasolini furiulano tradotto in giapponese per il numero monografico della rivista Il Parlare Franco di prossima uscita una rivista rubinata se nella narrativa il famoso discorso indiretto libero causa una compresenza di più soggetti senza distinzione tra la prima e la terza persona nella traduzione giapponese gli elementi incompatibili tra essi si fanno meno evidenti dato che l'assenza di coniugazioni verbali fa coincidere le forme di un determinato verbo con diversi soggetti D'altra parte data la sua natura fortemente allocutiva il giapponese potrebbe essere in grado di far emergere la commistione di stili alto e basso in modo ancora più chiaro dell'italiano Ciò si riconosce in traduzione non solo nella poesia citata prima ma anche in quei romanzi in prima persona caratterizzati da una narrazione brolicante come quella pasoliniana si vede la versione di ragazzi di vita e la versione giapponese a cura di Ryofu Yonekawa uscita per la prima volta nel 1966 dove confluì nel coro di voci dei ragazzi l'allora gergo giovanile dei bassofondi tokyoensi a leggerlo oggi ci ricostruisce quell'atmosfera calda degli anni metà 60 in cui prendereva forma un realismo di nuovo stampo improntato a rappresentazioni crudeli ed erotiche ed irraganti specialmente in film e fumetti passando alla mia traduzione di petrolio ricordo innanzitutto che questa rientra in un'operazione di natura propedeutica allo studio che ho pubblicato in giapponese sul bollettino della meiji kakuin university di tokyo che si chiama linguistic culture numero del 2003 sostanzialmente il mio approccio è dunque diverso sia da quello della traduzione d'autore come nel caso di omota poeta che garantisce una certa leggibilità e autonomia al testo tradotto sia da quello della traduzione artigianale e professionale di yonekawa l'articolo sul petrolio mi era stato commissionato appunto da yomota e al lavoro ultimato avevo completato la traduzione di un quarto del romanzo i primi 24 appunti l'appunto 55 quello del pratone della casilina e quelli dal 71 al 74 visioni del merda preciso subito che finora in Giappone non è uscito petrolio in traduzione quindi adesso confesso di essere quasi impostore in questo convegno in compenso ordre al mio saggio lo stesso critico yomota una volta ne aveva presentato la trama dettagliata nei limiti del possibile sulla rivista Asahigraf del numero 30 aprile maggio del 1999 ricavandola dalla traduzione in inglese di Ann Goldstein petrolio a novel del 1997 purtroppo non ho terminato né pubblicato la traduzione perciò non posso attribuirmi appieno il diritto di parlare dei criteri per la traduzione ma posso dire almeno che non si tratta qui di scegliere un registro come quello che ho impostato per le prime poesie furiurane o come quello applicato da yomota a tutto l'intero corpus pasolignano insomma quello delle ceneri che tutto sommato deriva dal linguaggio poetico personale di yomota stesso per tradurre un testo impuro a dirlo con carvino un testo che sfugge a qualsiasi definizione e che alla fine diventa semplicemente qualcosa di scritto non serve un solo registro ma più registri possibilmente difformi da quelli nostri personali deduco ciò dall'esperienza di un grossario che mi ero inizialmente creato per assicurarmi le concordanze bilingui a livello di ogni singolo lemma e sintagma ma presto il lavoro si è rivelato poco proficuo dato che si trattava di parole di tutti i giorni di un lessico e una sintesi non attribuibili all'uso personale di un determinato scrittore bisognerebbe invece affrontare ciascun segmento degli appunti cominciamo da quelli prefatori sui molteplici carri ovvero le figure in cui il protagonista si zdoppia per i quali teneva a mente come modello il metodo usato da Yonekawa per Teorema una metasceneggiatura preceduta dai primi quattro capitoli dati che nella versione giapponese venivano ridetti in uno stile impersonale passivo in modo tale da poter sembrare didascarie per un adattamento comprendente i passi intermittenti fuori campo dell'io che parla da autore si riserva poi un tono giornalistico per gli appunti 22 e seguenti su Aldo Troia il tono della descrizione oggettiva perseguita da Pasolini in modo dichiaratamente ossessivo perciò il testo in apparenza puramente descrittivo risulta tratti enfatizzato e rimaneggiato dati in molti paragrafi ricavati dal panfret di denuncia su Cefis che corrisponde al tipo di giornalismo scandalistico ritenuto oggi datato e politicamente scorretto fiorito negli anni settanta giapponesi e ricordante ancora nei giornali sportivi ossessivo lo è decisamente anche lo stile dell'appunto 55 il pratone della casilina che presenta una scrittura a frusso continuo e priva di punteggiatura per questo stile il modello è quello uno scritto giapponese Akiyuki no Saka noto anche in Italia per il racconto Una tomba per le lucciole è stato fatto anche un film d'animazione Una tomba per le lucciole del 67 e il romanzo I maestri dell'Eros del 63 che vanta appunto una scrittura originale senza né punti né paragrafi minata di creare il pathos della guella e della libido In sintesi ogni stile adottato può avere un modello così che l'opera tradotta disulti una parodia o addirittura un pragio sempre di qualcosa bisogna aderire così all'autore di Petrolio che cerca di fondare ex novo la sua scrittura sono le parole dell'appunto 6 come una impresa congiunta equata definizione cara a Pasolini tra autore e traduttori lettori esiste una fonte dietro ogni frase così può sembrare Petrolio ma una fonte indefinibile o forse fin troppo ben definita quando nel 2005 hanno presentato a Firenze la nuova edizione creata da Silvia De Laude presso la fondazione Fiore sono stato consigliato di servirmi della versione giapponese dei Demon di Dostoevsky da dove Pasolini aveva copiato molte pagine l'opera della quale si contano fino ad oggi ben 5 traduzioni di 5 traduttori diversi in giapponese tra queste abbiamo l'ultimo di Ikuo Kameyama edita nel 2011 e quella del 1934 fatta dal padre di quel rivoluzionario italianista Ryofu Yonekawa il padre si chiama Masao Yonekawa gli altri due figli del quale sono studiosi specializzati in letteratura russa opterei in questo caso per la versione più recente poiché ci restituisce l'opera con un linguaggio più modello più leggibile guarda caso Kameyama il traduttore dell'ultima edizione ha proposto un ideale seguito dei Karamazov raccontato nella società giapponese d'oggi così come appunto in petrolio l'ambiente aristocratico russo dei demoni è stato trasportato nell'Italia degli anni settanta passiamo dunque al titolo pensavo inizialmente di portare il titolo originale petrolio trascritto in katakana a questo è l'articolo sulla moto va bene il titolo katakana è quello che sta sopra un sistema grafico puramente fonetico non ideogrammatico usato esclusivamente per trascrivere i termini stranieri come i neologismi che oggi affollano numerosi il lessico giapponese ma nel momento in cui ho trovato un articolo dell'epoca come è successo a Pasolini quando leggendo un articolo dell'unità i suoi occhi si posarono sulla parola petrolio ho invece deciso di chiamarlo in giapponese Sekiu quello che sta in mezzo termine corrispondente a petrolio il 10 marzo 1976 sull'edizione serale del giornale Asashinbun trapera una notizia riguardante petrolio è il primo articolo sull'autore dopo quelli riguardanti la morte avvenuta quattro mesi prima e questo articolo su petrolio e leca il titolo l'ultima opera di Pasolini oggetto di rite tra case editrici l'articolo spiega le trovariate vicende editoriali sorte attorno a petrolio il passaggio da Garzanti a Einaudi avvenuto l'anno prima della morte prevedeva la clausola di consegnare all'ex editore di Milano Garzanti altre cinque opere nei successivi cinque anni allora sia Einaudi che Garzanti volevano pubblicare questo romanzo incompiuto cito dall'articolo e ancora in stato di stesura arrivato a orto le 600 pagine una storia ambientata sempre cito dall'articolo una storia ambientata nel mondo dei proletariati la fonte di questo articolo in giapponese non mi è ignota ma comunque dice così mondo dei lavoratori mondo dei proletariati è intitolata questa opera appunto Sekiu a questo termine sono attribuiti quello che sta in mezzo due ideogrammi indicanti rispettivamente pietra a sinistra e olio a destra del manoscritto incompiuto si rivelava che Einaudi avrebbe potuto pubblicarlo solo dopo la morte dell'autore non si sa in quale programma editoriale li entrasse Sekiu se di Einaudi o di Garzanti soltanto gli eredi possono decidere con questa frase si concludeva l'articolo dunque io al massimo quasi a stabilire una sorta di combinazione tra i due titoli potrei aggiungere sopra i due ideogrammi Sekiu e i cinque katakana in corpo minore petrolio per fornire una specifica identica indicazione di lettura poiché sostanzialmente in giapponese ogni ideogramma può essere liberamente associato a qualsiasi suono quando è uscito l'articolo sul petrolio Sekiu nel 1976 non si sapeva ancora che come tema centrale il romanzo trattava del caso Mattei se ne fosse raccolrente il romanzo reportage avrebbe ricevuto senz'altro maggiore attenzione da parte del popolo giapponese il cui paese è privo di risorse naturali come l'Italia è dipendente totalmente dall'importazione di materie prime infatti passate due settimane dalla scomparsa di Mattei un articolo di approfondimento sempre sul giornale Asashim pronosticava il crollo del Leni secondo le mile dell'ipotetico complotto che francesi americani e di conseguenza anche allora governò Fanfani presumibilmente ordirono per eliminare la figura ingombrante di Mattei e indebolire così l'Italia nel contesto internazionale qualcosa di cui certo non si rallegrava il Giappone soggetto come era ai poteri delle Meijas petrolifere l'articolo non dimentica infine di fare il nome di Marcello Boldolini successore di Mattei alla presidenza nonché quello di Eugenio Cefis presentato come effettivo timoniere del gruppo in un Giappone sempre attento alle cospirazioni esce in traduzione uno dei primi saggi su Mattei post-mortem scritto non da un autore italiano ma da un docente di economia dell'Ukura Yushi Erei Daoboto il cane a sei zampe Mattei e Leni saggio sul potere uscito negli Stati Uniti nel 1964 in Italia nel 65 per Fertolinelli e in Giappone nel 69 per la casa editrice Kawade con una lunga post-fazione integratrice del traduttore Hisaki Isawa che interpreta Mattei non come figura dispotica ma come male necessario e positivo per l'industria italiana successivamente il caso di Mattei di Francesco Rosi esce nelle sale giapponesi a febbraio 74 col titolo Kuroi Sabaku il deserto nero chiaramente reminiscente di quello rosso Antonio Nioniano che tanto aveva appassionato la gioventù intellettualistica giapponese degli anni 60 una recensione sul deserto nero si sofferma sulla svolta storica avvenuta con la scomparsa di Mattei dalla politica energetica della no dalla politica energetica italiana una scomparsa segnata da ben due misteri quello di Mattei stesso e quello del giornalista di Mauro che stava indagando sul primo seguendo questo filo esce uno studio comparatistico tra Mattei Idemitsu e Yamashita tre figure di grande peso nei due paesi ugualmente carenti di risorse naturali e in primis di petrolio abbiamo abbiamo ad esempio un articolo che tenta un confronto tra Mattei e Sazo Idemitsu fondatore del gruppo Idemitsu Kosa una compagnia petrolifera giapponese che trattando con il premio Mossadegh era riuscita a comprare direttamente il petrolio iraniano dal 53 al 56 nonostante le pressioni della Gran Bretagna l'occasione era venuta dalla crisi di Abaddon che in seguito alla nazionalizzazione dei beni dell'angro-ilanian oil company aveva quasi finito per sfociare in un intervento militare avendo eroso la marina inglese Idemitsu venne denominato Corsaro e come Lenny di Mattei riuscì ad importare direttamente dai sovietici il greggio nei primi anni sessanta ma a differenza di Mattei Idemitsu morì di morte naturale a 95 anni insignito persino del titolo di commendatore francese il filo che lega petrolio al Giappone non termina qui scusate continuo ancora gli ultimi tre appunti appunti 131 32 133 alludono a un viaggio verso Edo e ad una scrittura in giapponese della relativa sezione il viaggio per Edo l'antica denominazione di Tokyo capitale giapponese a partire dall'inizio del seicento è stato compiuto da un altro doppio del protagonista Carlo Cornelio che avrebbe esperito l'illuminazione in un piccolo tempio attraverso la pratica del Koan una specie di racconto zen che comporta appunto la cessazione della logica parole del petrolio come ad esempio il maestro che in disposta alla domanda del discepolo sulla vera buddità si limita a dire questo ho preso un esempio il maestro che risponde verità è il decinto del gabinetto è un enigma o è il leone dalla pelle d'oro Pasolini si ispira qui oltre agli effettivi racconti zen al diario di viaggio stirato dal monaco francese Paul Arnault viaggio fra i mistici del Giappone la cui recensione apparve sul tempo del 27 settembre 74 poi in seguito descrizioni descrizioni nelle parole di Pasolini lo scritto è a livello di un vedecato la enciclopedica spiritualistica cioè tutta una serie di luoghi comuni a un livello turistico così insomma Pasolini guarda il libro inoltre chiama in causa anche un personaggio dei demoni poiché cito dalla recensione non resisto alla tentazione di ricordare al lettore quella specie di grossorano santone zen che il charlatano Semyon Jakobrovich nei demoni di Dostoevsky e il suo comportamento inspiegabile capriccioso tempisticamente delisorio con ogni probabilità la scelta del libro censito è dovuta alla visita ufficiale di Pasolini a Tokyo programmata per l'anteprima giapponese del fiore delle mille e una notte il volo era fissato al 20 agosto 74 ma Pasolini e la United Artists Japan non si accordarono sugli impegni promozionali e alla fine il viaggio non si fece in ultimo oserei addittare addittare un altro legame e finisco per quanto un po' forzato tra il Giappone e Pasolini direggendo Frocio e Basta di Benedetti e Giovannetti nella sua nuova edizione del 2016 a proposito delle tendenze maggioritarie che privilegiano la morte o la vita sull'opera non posso fare a meno di ricordare un'altra morte epocale letteraria spesso interpretata come opera estrema dell'autore quella di Yukio Mishima avvenuta il 25 novembre 1970 è vero è un caso completamente diverso in cui lo Harakiri cioè seppuku di Mishima viene perfettamente eseguito secondo i piani dell'autore allo scopo di dichiarare un corpo di stato lo scrittore si esibì in un appello nella caserma di Ichigaya per poi suicidarsi sotto gli occhi dell'ispettore generale su questo episodio Pasolini annota nel 1971 nei due testi finali editi solo nel volume Empirismo Eretico il Rema e Tabella che nella trasmissione in diretta televisiva si raggiunge le parole di Pasolini fusione tra codice della realtà e codice della lingua audiovisiva Cito ancora Pasolini che prende in esame il caso dei telespettatori giapponesi che hanno assistito al harakiri dello scrittore Mishima Pertanto anche secondo Pasolini la sceneggiata è diretta e mostrata in modo da sembrare autentica e mera realtà Effettivamente quello a cui si è assistito in televisione è il discorso pubblico di Mishima non la scena del suicidio rivolto a 800 militari delle forze di autodifesa con loro capo preso in ostaggio le frasi però sono pronunciate senza microfono e per di più costantemente disturbate dalle urla dei presenti e dal rombo degli elicotteri dei giornalisti così nelle immagini si vede chiaramente lo scrittore in posa ma il suo messaggio rimane indecifurabile tutto parese e al contempo oscurato viene da pensare a quel famoso messaggio di eloquenza imperiare ovvero la trasmissione radiofonica del 15 agosto 45 con la voce dell'imperatore Hirohito che dichiarava la resa un messaggio del tutto indecifurabile sia per il linguaggio altamente retorico sia per la qualità della registrazione e più recentemente suo figlio Akihito attuale imperatore che ha dichiarato in televisione l'8 agosto 2016 la propria intenzione di abdicare evitando però di pronunciare frasi che lo esprimessero in maniera esplicita percepiamo l'immagine audiovisiva ma non corriamo affatto il senso in quella trasmissione in diretta Mishima interrompe il discorso per niente gradito dai suoi ascoltatori e esce di scena per compiere lo harakiri come da copione di fronte al rispettore generale nel suo studio l'atto stesso dall'autore definito di purezza totale continua a rimanere privo di senso eppure viene descritto come opera sprema collocata da Mishima stesso al di sopra della tetralogia il mare della fertilità l'ultimo volume della quale la decomposizione dell'angelo era stato consegnato all'editore il mattino di quella stessa giornata ma la gente non si accontenta della versione fornita dall'autore nel gesto si è letto da sempre un retroscena omoerotico perché in seguito allo sventolamento autoinferto vale a dire harakiri lo scrittore si è fatto decapitare dal ragazzo 25enne Masakatsu morita detto Hishou certo di vincere allievo prediletto di Mishima lo segue un istante dopo con il medesimo gesto tanto che la scena assomiglia in tutto a quello un doppio suicidio tragica conseguenza codificata dalla tradizione di un amore impossibile oggi tutto è documentato niente è lasciato al mistero di Mishima che era personaggio pubblico della cui vita ogni dettaglio era noto persino il piano verso la sua soluzione finale così la definiva il dorappello di soldati volontari reclutati da Mishima un piano portato avanti nella massima riservatezza affinché venisse percepito in tutta la sua macabra perfezione il suo atto per la totale autoreferenzialità esola da ogni tentativo di interpretazione e di definizione da parte nostra al proposito mi torna in mente quel vuoto di vuoto che Kiju Yoshida noto regista della Nouvelle Vague giapponese vede nel fondo della letteratura di Mishima vuoto di vuoto scrittore tanto abile nella forma quanto scarso nella sostanza intenzionale o meno che sia questa fusione totale della morte o della vita con l'opera è sempre guastata da qualcosa che sfugge dell'una o dell'altra rimane una vacuità avvissare un vuoto di senso in cui i padolini a sua volta ha voluto leggere una mera realtà priva di qualsiasi significato finisco qua grazie 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 per averci portato in Giappone e averci permesso di pensare altrimenti a tanti aspetti del romanzo ci sono interventi di Hervé c'è un microfono che possiamo una piccola cosa mi ricordo di aver incontrato un fotografo che aveva un'idea di più sulla relazione Mishima-Pasolini è un'idea visiva cioè che Pasolini fa un suo autoritratto nel Decameron con un pezzo di una fascia di tessuto sul fronte e che è l'epoca dopo questa quando si pensa alla cosa pare vero pare interessante non solo un'informazione quella la venda magari approfitto della forse scusa forse puoi dire che cosa rappresenta perché nel Giappone mi pare che siano anche gli studenti per esempio tutti che siano in guerra no? Sì sì una determinazione c'era una scritta sopra lì insomma quattro caratteri ideogrammi che significano anche dopo le sei vite che faccio sempre per la patria è una frase antica della cina insomma insomma sacrificio per la patria no sulla venda che qui si vede appena nell'ultimo diapositivo Mishima che si suicida insomma porta la venda e questo significa determinazione e in quel caso di specifico lui ha scritto quattro caratteri cioè il messaggio ultimo di Mishima per la patria sempre insomma anche dopo le sei vite dicevo che io magari invece approfitto della mia autorità che mi avete concesso chiedendomi di essere qua per chiederti se puoi perlomeno a me spiegare un po' meglio il concetto di vuoto di vuoto il gesto l'atto è tutto sceneggiato è perfetto però in effetti è dichiarato anche il senso tutto è mostrato però non si può andare cioè non si può entrare quasi come dire è un rifiuto da parte di Mishima questo un rifiuto di cosa? beh di interpretazione forse cioè il senso il significato su ogni cosa su ogni cosa che faccio anche della morte le do io il senso quindi chiude l'interpretazione in questo senso per questo è perché appunto a me mi interessava rispetto al concetto di mancanza di mancanza che avevamo pensato prima e invece è proprio un gesto che mi sembra che va in una direzione opposta cioè è l'idea di chiudere o la possibilità di una interpretazione o di ma così è stato detto insomma il legista Yoshida perché Mishima ancora oggi come dire soprattutto quella morte non è insomma recepita positivamente insomma è una sì quasi rifiuto da parte del popolo giapponese nel senso che non è recepita scusami non è recepita positivamente nel senso che non viene riconosciuto il significato politico né significato politico né proprio per questo atteggiamento ma lui è perfettamente esteta insomma c'è una perfezione della sua estetica poi anche etica e appunto c'è una chiusura allora la generazione contemporanea dei giovani non non appoggiavano insomma sono molte ancora oggi quindi confesso di anch'io avere limiti di interpretare quel gesto io ho detto insomma prendendo in prestito voto di voto quella definizione però non si esaurisce forse qui o forse per limiti di essere giapponese o per limiti generazionali quindi una domanda anche aperta io mi rendo conto di aver fatto una come dire deviazione tremenda insomma qui bisogna parlare bisognerebbe parlare come come si è fatto insomma negli altri interventi di parlare di petrolio però un po' per me insomma non aver conseguito la traduzione questo insomma è un capitolo chiuso insomma però è certo sono ben aperto a qualsiasi discussione e ho tirato fuori altri discorsi insomma Mattei poi persino Mishima Davide Giulio Carla prima sì dunque quanto Mishima so che sono state spesso fatti dei paragoni tra Pasolini e Mishima e anch'io andando in Giappone mi sono un po' messa a leggere ho stato letto anche un tuo saggio che mi avevi mandato insomma però ecco quello che io penso che non bisogna mai dimenticare che quello di Mishima è un suicidio rituale e quello di Pasolini è un massacro uno è attore l'altro è vittima per cui ogni sovrapposizione delle due cose a me fa già un po' impressione perché sì ci sarà pure la stessa fascia però è un'opzione lo stesso paragone è un'interpretazione della morte di Pasolini come forse è stato anche voluta un po' essere trasmessa ma che poi non corrisponde perché se togliamo questo poi i punti di contatto tra Mishima e Pasolini sarebbero anche o altri anche questo loro entrambi diciamo porsi come forze del passato contro quello che stava succedendo l'evoluzione della storia e della società insomma però vabbè secondo me sono molto però ecco io avrei una domanda importante per me insomma quest'articolo che tu ci hai mostrato che è del 75 o del 76 76 ah perché lì c'era scritto quello è sulla morte quindi 75 quello sulla morte quello dove si parla dei conflitti tra gli editori ah sì sì è 75 e 76 sul conflitto 76 ah 76 scusa quindi quello che ho mostrato è quello sulla morte sì sì però diciamo qui lì dove si parla della vicenda editoriale di Petroio ma si raccontano delle cose che noi diciamo non so se c'è Silvia Silvia De Laude eh Silvia cioè non ne sappiamo niente di queste vicende raccontate in quest'articolo sì ma che diciamo la ragione della non pubblicazione fosse questo conflitto che già ci fosse in ballo una pubblicazione o mi sbaglio sì ma non su petrolio sì sì no comunque però comunque cioè marzo del 76 in Giappone esce quell'articolo sì la fonte qual è non lo so eh sì appunto sarebbe curioso sarebbe interessante vedere cosa dicevano in Italia in quelli stessi giorni magari forse è uscito anche un articolo sì però non era relativa a petrolio ecco sì vabbè comunque sì 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 certo no no che da quell'articolo lì da come sembrava che si fosse detto che petrolio non poteva uscire perché c'era questo conflitto no è così dentro l'articolo forse questa non è la versione che ci è arrivata no vabbè comunque era molto interessante io poi sono rimasta molto incuriosita da tutte le osservazioni linguistiche stilistiche soprattutto questa ricerca dei registri e poi vorrei diciamo augurarmi che tu lo porti a termine la traduzione di petrolio sì 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 io ringrazio molto Idukidoi perché effettivamente ha aperto degli orizzonti molto molto interessanti sul e mi scuso se faccio una domanda che può sembrare molto ingenua e in fondo così mi vergogno un po' dell'ignoranza mia del contesto culturale giapponese letterario giapponese che purtroppo non so neanche bene perché ma in fondo non è una cultura che ci giunge facilmente o alla quale ci avviciniamo facilmente non so se sia il contrario o meno per la cultura italiana in Giappone no quello che volevo chiedere era proprio così molto genericamente se queste problematiche non so se dire teoriche critico teoriche letterarie alle quali abbiamo fatto un po' allusione oggi cioè mi riferisco alla così alla questione del romanzo ad esempio alla alla parodia del romanzo Antonietta Grignani l'ha detto molto bene era un'epoca in cui così la narratologia si interrogava tantissimo sul no sulla costruzione del romanzo e così via ecco se tutto questo sostrato diciamo un po' contestuale teorico nel quale affiora petrolio al quale possiamo ricondurre in parte petrolio se ha un eco in Giappone se tramite la traduzione in qualche modo apparirebbe o se le problematiche letterarie che in quegli anni e poi negli anni successivi hanno così attraversato la cultura giapponese sono diverse o se ci sono dei contatti tra queste questioni che renderebbero forse più facile la recezione di petrolio che altrimenti può sembrare cioè poi richiederebbe un stagio introduttivo molto diciamo così sviluppato per contestualizzare l'opera ma per rispondere insomma se se uscisse oggi insomma la tua traduzione in Giappone di petrolio come sarebbe non so nel ricepito per rispondere ma giro una domanda ma scusa ultimamente Kazuo Ishiguro ha vinto il premio Nobel sappiamo che non è giapponese ma di origine giapponese ma è uno scrittore inglese ma di questa notizia pur sapendo tutto questo ma i giapponesi applaudirono hanno approdito tanto allora vedendo questa reazione io personalmente non ci arriviamo mai insomma beh la narrativa i romanzi di Kazuo Ishiguro li amo anche io li leggo però insomma ancora come dire ma soprattutto in Pasolini insomma che anche in Giappone insomma attraverso soprattutto il cinema è una figura già insomma c'è una immagine una icona di un periodo ma se uscisse oggi il petrolio cambierebbe completamente insomma l'immaginario collettivo su Pasolini però quel pubblico ma parlo di quel fenomeno che ho recentemente visto mi ha deluso tanto insomma però contro questo muro la sfida potrebbe essere insomma impiantiva ma forse da fare perciò insomma negli anni 90 oppure anni 2000 sarebbe stato più facile leggere quel romanzo nel contesto giapponese oggi molto indeteriorato società ma non parliamo dell'economia ma società anche culturalmente e potrebbe essere una sfida da fare insomma si anche in questo senso certo mercato tutto quanto ma anche interpretazione teoricamente insomma e meno dibattito grazie grazie a te io volevo soltanto dire una piccola cosa intanto ringraziarti perché ogni volta che sento uno straniero che parla di Pasolini improvvisamente si aprono nuovi scenari cioè qualunque straniero in qualche modo è libero da tutta una serie di luoghi comuni che abbiamo tutti noi italiani mi ci metto dentro anch'io parlando di Pasolini e poi volevo dire che il rapporto bandana miscima bandana Pasolini non esiste perché Pasolini gira il De Camerone poi tra l'altro vedo Roberto Chiesi che saluto me lo confermerà io ero sul set lo gira giugno luglio agosto del 70 e miscima si suicida a fine novembre del 70 detto questo Pasolini quella fascia la teneva spesso perché Pasolini quando dipingeva spesso specie a Chia dipingeva in terra e quindi c'era il rischio che il sudore cadesse sulla tela e si mischiasse con i colori e quindi a quello serve poi fondamentalmente allora se non ci sono altre osservazioni volevo ricordarvi che questa sera alle nove ci sarà la proiezione del film la macchinazione con alla presenza del regista che ha appena parlato David Grieco in conversazione con Carla Benedetti e che al cinema arsenale alle 21 e che domani mattina invece riprenderemo i lavori alle 9.30 e ne approfitto per ringraziare ancora una volta Hideyuki Doi e tutti i relatori di oggi per una giornata veramente appassionante grazie a tutti grazie a tutti Grazie.